Enrico Castelnuovo. Oggi ne parliamo insieme, ne parlano colleghi, amici, allievi. Enrico Castelnuovo è stato professore alla scuola per molti anni, dall'83 fino al suo pensionamento nel 2004, poi ha continuato a essere tra noi come professore emerito. Ha portato alla scuola un insieme di contributi, mi piace sottolineare che non era il solito professore italiano, perlomeno non il solito professore quadratico medio, come direbbe un fisico italiano, nato accademico, cresciuto accademico, eccetera. Ha avuto varie esperienze all'estero, ha insegnato, come sapete, a Losanna, a Ginevra, poi a Torino. Ha avuto un'intensa attività editoriale con Einaudi. Un insieme quindi di contributi che ha portato qui e che hanno fatto bene, molto bene alla scuola. Il rallievo di Roberto Longhi, so se avete già visto il filmato che verrà proiettato alla fine di questa giornata, è molto carino come ne parla, lo definisce il loro incontro un colpo di fulmine. Già nella chiacchierata che fa in questo filmato si vede come era vivo il ricordo e forte il legame con questa figura. Dicevo, il suo arrivo dell'83, ma già prima c'era una frequentazione sua alla scuola, partecipava all'attività didattica. Era, credo, uno dei maestri del formato tipico della classe di lettere, quello della lezione seminariale. Partire da un caso, per quanto particolare, per quanto locale, per poi dalla discussione, estrarre il quadro generale, i principi, i nuove idee. Guardando le sue lezioni, il primo ciclo, il suo primo corso ufficiale normale fu Vidigelma, la Cattedra di Modena e la scultura europea degli inizi del XII secolo. Di nuovo, in linea con questo modo di procedere, partire da un caso per poi allargare. Aveva interessi molto vari, io l'ho conosciuto e abbiamo avuto una lunga permanenza insieme qui alla scuola. Interessi molto vari, sapeva guardare alle cose non standard, ai problemi scientifici, ai materiali, alle questioni, ai luoghi, ripeto, in maniera non standard. Portò questo nel creare una scuola importante di storia dell'arte medievale, qui in Normale, ma portò anche l'altra sua esperienza che avevo menzionato, quella nell'ambito dell'editoria. Fu per lunghissimo tempo il direttore degli annali della scuola Normale nella sezione della classe, per la classe di lettere. Ma credo che quello che lui voglia, che noi menzioniamo soprattutto, è la sua capacità di stimolare e coinvolgere gli allievi qui alla scuola. E parlando di allievi e dell'influenza che ha avuto su questi, è giusto, devo, mi fa piacere nominare, Maria Monica Donato, naturalmente, quella che ha seguito la sua cattedra qui in Normale, la cattedra di storia dell'arte medievale, e che purtroppo, con una coincidenza davvero triste, è davvero prematuramente, è mancata poco dopo di lui, nello stesso anno. Di oggi sentiremo allievi, amici, colleghi che ancora meglio di me l'hanno conosciuto, e meglio di me possono parlare di lui. In prima scuola, quindi, cedo il microfono a Massimo Ferretti, che ringrazio per aver organizzato questa giornata, ringrazio, lo farà anche lui, ma ringrazio anch'io, Moni Manescalchi, che l'ha aiutato in maniera molto importante, e poi ringrazio tutti voi per essere venuti oggi qui alla scuola. Proseguo accennando agli intenti di questa giornata, che fa seguito a quelle che ad Enrico Castelnuovo sono già state dedicate, a Parigi, a Lausanna, si sente? E più recentemente a Torino. La nostra avrebbe dovuto cadere ad un anno esatto dalla scomparsa di Enrico, il 15 di giugno. La corrispondenza commemorativa ne avrebbe dichiarato subito lo spirito, ma lo slittamento di una settimana, dovuto a spicciole ragioni organizzative, non cambia, non lo cambia. Già da alcuni mesi, prima ancora che avessimo notizia delle altre giornate che si preparavano altrove, si era pensato che il modo migliore di ricordare Enrico ad un anno dalla scomparsa non potesse essere quello di un già approfondito scandaglio critico sul suo lavoro di storico dell'arte. E non perché questo scandaglio non sia meritato dal lungo necessario per noi. Pur rifuggendo le formulazioni astratte del metodo, Enrico si è sempre interrogato e ha fatto interrogare gli altri su modelli operativi della disciplina. È stato storico dell'arte medievale, formalmente e principalmente, ma ha praticato altri campi storici, cronologici e tematici, voglio dire, della storia dell'arte, a prendere sempre fronti di studio nuovi o in modo nuovo. Ma per fare bilanci del genere occorre tempo, e non solo in senso quantitativo. Non si vuol dire che non si possa fare con metodo critico, storia, anche della storia più recente, delle stagioni che noi stessi abbiamo vissuto. Occorre però dar tempo al tempo. Occorre che emergano basi documentarie nuove e che se ne possa fare liberamente uso. Che si allentino certe forme di compartecipazione emotiva anche. C'è, insomma, bisogno di un punto di distanza. Fin da ora si può essere certi, però, che la figura di Enrico entrerà in misura significativa in quel capitolo della storia, della storiografia dell'arte, che dovrà essere scritto e che vi debba entrare non soltanto in quella forma strettamente monografica, da medaglione in qualche modo, da medaglione accademico, che abbiamo visto per alcuni storici dell'arte più vecchi di lui e che ci appare sempre in qualche misura inevitabilmente sfocata, se non sovradimensionata. Voglio dire che Enrico sarà personaggio significativo anche in una storia della nostra disciplina costruita non solo per persone, ma per temi e per funzioni, che si rivolga, ad esempio, è già stato ricordato, agli strumenti della comunicazione editoriale. È un aspetto importante questo, anche della sua dimensione politico-sociale. Ci vorrà ancora del tempo per fare tutto questo, ripeto. Non possiamo farlo oggi. Non ci si chiedeva a noi stessi di farlo oggi. Ad un anno dalla sua scomparsa, il sentimento di chi l'ha conosciuto non può essere così algidamente disciplinare. La nostra primissima idea era stata dunque quella di provare a mettere in evidenza una cosa molto propria ad Enrico, la geografia, la geografia culturale, più semplicemente anche la sua geografia esistenziale. Si era pensato di ricordare qui a Pisa e soprattutto, attraverso le testimonianze degli allievi, i centri fondamentali della sua carriera intellettuale. Giustamente, e in modo più approfondito di quanto sarebbe stato possibile far qui, quelle tappe sono state rievocate negli incontri che ad Enrico sono stati dedicati in Francia, in Svizzera, a Torino. E questo, come è stato detto subito, dà la misura della figura intellettuale da lui rappresentata, questa ampiezza europea. La nostra giornata sarà dunque rivolta in modo esclusivo agli anni pisani. L'idea di fondo resta però che di Enrico sia giusto parlare ora soprattutto sul filo della memoria, in forma di testimonianza personale. Ed è quello che faranno qui oggi alcuni colleghi ed allievi. Attraverso i loro ricordi è facilmente prevedibile all'Enrico Castelnuovo che è nella memoria e soprattutto nel cuore di tanti, di tutti noi. Quando ormai si andava delineando il quadro delle adesioni a questo profilo della giornata, però è parso opportuno, comunque umile, utile premettere ai ricordi pisani, se non ritratto compiuto almeno lo schizzo di un ritratto, ma che fosse un ritratto a figura intera, per così dire. Era naturale quindi rivolgersi all'unica persona che lo potesse fare, anche per ragioni generazionali, anche se è più giovane di Enrico, di dieci anni, muovendosi anche lui sul filo dei ricordi, piuttosto che delle schede di lettura, che pur dovranno venire un giorno. Lo si è chiesto quindi a Gianni Romano. Sarà dunque lui a parlare per primo e un po' più a lungo, potendo partire da lontani itinerari torinesi, che dalle parti di via Po, dall'università, andavano a quelle di via Biancamano. La presenza di Gianni, che fu appunto accanto ad Enrico nella redazione della Casa Enaudi, allude ad un aspetto, che è già stato ricordato, un aspetto del lavoro di Enrico, quello editoriale, che ha trovato uno spazio, in qualche modo, anche qui normale. Per alcuni anni, anche dopo il suo pensionamento, Enrico è stato il direttore degli annali della classe di lettere. Un tassello decisivo dell'immagine e della funzione della scuola, come ricordava un secolo fa, gentile, in pagine che sono state appena ristampate, con un ricordo molto bello, con pagine introduttive molto belle, di un altro personaggio che ha rappresentato in un lutto recentissimo per la scuola, Cesa. In una rivista di natura accademica, come gli annali, necessariamente di quella natura, ma accademicamente rivolta in molteplici direzioni disciplinari, Enrico seppe garantire un quadro equanime delle scelte. Non dico che sia stato questo il momento di punta della sua azione editoriale, ma anche quest'aspetto della sua presenza a Pisa rappresenta bene la figura di uno storico dell'arte che seppe sempre guardare i confini della propria disciplina, ma cercando di osservarli dalla parte esterna, e quindi era propezzo al dialogo con le altre aree di studio. In sostanza, la giornata di oggi, almeno in parte, finirà per somigliare a quella che insieme a Monica Donato avremmo poter dedicare ad Enrico, in occasione dell'uscita, poco più di tre anni fa, del volume di scritti in suo onore. Volume che per forza di cose dovremmo restringere ai soli amici e allievi pisani, se no non sarebbe certo bastato un volume pur massiccio come quello. Avevamo già cominciato a scommettere fra di noi, con Monica, su quali citazioni avrebbe rispolverato per l'occasione. Sarebbe stata comunque un'occasione buona per riportarlo qui a Pisa. Non capitava da un po' di tempo, per ragioni di salute sua e soprattutto della moglie Delia, scomparsa proprio in quel periodo, dopo una malattia protratta che aveva profondamente, ma lucidamente impegnato anche Enrico. Per ultimo però Monica, parlando con lui al telefono, aveva aperto la possibilità di fare quell'incontro, anche se un po' tardivo. Lo ricordo perché si vorrebbe che lo spirito della giornata fosse anche purtroppo Enrico, e manca anche Monica. Quando e come era arrivato Enrico alla scuola? Fu nell'anno 1983-84, risulta così del nostro archivio. Ma ci fu una fase precedente di presenze per conferenze e per seminari che nella memoria personale è qualcosa di abbastanza memorabile. Della fase preliminare certo occorrerebbe che fosse qui a parlarne Paola Barocchi. Ero fra quelli che si trovavano nella sala degli stemi quando appunto Enrico venne per la prima volta invitato da Paola Barocchi a parlare normale. Non so dire se era la fine del 75 o il 76, non ero più perfezionando. Ricordo che prima di avviare la sua lezione, Enrico fece un omaggio, uno di quegli omaggi di circostanza che sempre si fanno in tali circostanze, in tali occasioni, un omaggio di circostanza alla normale. E lo fece con quella misura sempre poco rituale e mai affettatamente rituale, che era così spontaneamente sua. Anche se era la prima volta che veniva a parlare qui, disse che la scuola gli era entrata nella memoria fin da un tempo lontano. Da quando era ragazzo, si trovava a camminare in montagna lungo sentieri di bassa quota. Mi ricordo esattamente però questa espressione. Si trovava a camminare in montagna con Giorgio Pasquali, niente meno, che gli diceva, devi fare il concorso, è normale. E lo diceva, ricordo, lo disse, facendo in qualche modo la voce di Pasquali che non saprei imitare, ovviamente ho mai sentito. In normale Enrico in realtà non fu mai come lievo, ma c'è stato come maestro, come vero maestro. Quanto a lui il suo maestro seppe scegliere, raccontava che a tempi... C'è un episodio abbastanza curioso di quella che era la scelta di una scuola di storia dell'arte già negli anni in cui Enrico si avviava all'università. Raccontava che a tempi del liceo gli era capitato una volta a Roma, verso sera, di essere spedito a parlare con Lionello Venturi, che gli avrebbe quindi dato qualche suggerimento su come studiare storia dell'arte una volta giunta all'università. Era l'immediato dopoguerra, ad un certo punto la luce andò via e la conversazione proseguì al buio. Lionello Venturi, per gestire in qualche modo l'imbarazzo della situazione, gli disse che la storia dell'arte poteva essere studiata anche al buio. Neanche Enrico aveva... voglio dire che non si può giudicare, certo Lionello Venturi, attraverso quella battuta infelice che in qualche modo evoca più lontani ricordi teorici del Raffaello, immaginato senza mani o cose del genere. E neanche Enrico aveva quell'intenzione. Ma nei suoi racconti, come nelle sue citazioni letterarie, c'era sempre una dose non di manipolazione, ma di fortissimo investimento del suo immaginario, della sua espressività, della sua capacità di comunicazione umana. Fatto sta che la scelta di Enrico negli anni successivi fu, non in direzione di Roma, una città che non è stato pur molto legato, ma di Firenze. Dopo essersi laureato con Anna Maria Brizzi a Torino, suo Andrea Pisano, Enrico si trasferì a Firenze per il perfezionamento con Longhi. La storiella di Venturi e della storia dell'arte fatta al buio mi l'ho sempre associata a quell'espressione Nord-Pol-Kunst-Geschikt che era cara a Middardoff per bollare quella storia dell'arte che si poteva fare anche al Polo Nord, in assenza di opere, senza documenti, senza alcun riscontro, ma deducendo per assoluta deduzione. Non ricordo a caso, però, Middardoff, mitico si può dire, direttore dell'Istituto Germanico di Storia dell'Arte negli anni in cui approdava a Firenze Enrico, l'Istituto Germanico, allora in Piazza Santo Spirito, era uno dei luoghi frequentati anche dal giovane Enrico. Lì lo rappresentano a caso con una risata, ricordando una risata, un sogghigno quasi, che ne precede l'apparizione fisionnomica, quel ricordo che Paola Barocchi ha scritto per il citato volume di scritti in suo onore, in onore d'Enrico. E lì Enrico, all'Istituto di Piazza Santo Spirito, fece altri incontri, sicuramente, per lui decisivi, importanti, come sono quelli, non solo con i maestri, ma anche con i coetani, con i quali c'è sempre un rapporto costruttivo, penso che so, Previtali e altri ancora. Voglio dire che l'arrivo a Pisa, tanti anni dopo, significò in certa misura riallacciare e riampliare anche quei rapporti, quei legami toscani. Non sto uscendo da limiti di un'iniziale nota giustificativa. Non voglio avviare neppure un profilo complessivo di Enrico, ma dire soltanto che la sua figura intellettuale non sarebbe facilmente immaginabile senza l'esperienza dei suoi anni giovanili a Firenze. Per questo è parso opportuno che fosse lui stesso, in una registrazione televisiva, che ascolteremo, vedremo, in chiusura della giornata, a parlare del suo rapporto con Longhi. Non intendo parlare, certo, di Enrico e di Longhi, ma credo che sarebbe altrettanto sbagliato ignorare il peso, ma è rinnegato, di quell'insegnamento. Vedere nell'Enrico degli anni Pisani uno storico dell'arte ormai distaccato dal suo primo insegnamento. Semplicemente, non fu e non voleva essere un longhiano bigotto. Come tanti, purtroppo ce ne sono stati. Figure sempre minori di quelli più indipendenti come Enrico. Ma quello è un discorso da fare, non soltanto in relazione a Longhi. Curioso, sono molte le direzioni di interesse di Enrico. Curioso, nell'accostarsi ad ogni esperienza e metodo, non fu mai né un eclettico né soprattutto un adepto chiuso e prescrittivo. E questo seppe insegnarlo. Vorrei ringraziare Fabio Beltram che ha sollecitato sempre anche a distanza, si può dire, nove o dieci mesi fa, non ho ricostruito esattamente, che venisse tenuto un incontro in memoria di Enrico, Monia Manescalchi e Maddalena Taglioli ancora dell'archivio della scuola. E ho poi due motivi di rincrescimento che vorrei dichiarare. Uno è che fra le persone che parlano oggi non ci sia anche Vittoria Benelli che avrebbe potuto ricordare più dall'interno quell'attività di Enrico per le edizioni e per gli annali. Un aspetto importante anche della vita della scuola e del rapporto che Enrico con la scuola ha avuto. E l'altro motivo di rincrescimento è che non sia presente il video Castelnuovo che comunque spero, mando a lui il saluto di tutti noi, spero che riesca comunque a sentire a distanza a vedere a distanza questa giornata di omaggia ad Enrico. Come ha già annunciato io a questo punto cedo la parola a Gianni Romano che farà appunto quel profilo d'insieme di Enrico destinata a funzionare da cornice ai ricordi degli altri. non sarà un profilo d'insieme troppo tentativo troppa grazia a Sant'Antonio di Enrico. No, ho scelto due temi su cui giocare il mio intervento. Due temi ovviamente delicati sul fronte del lavoro di Enrico e anche due temi come sempre in lui non stabilmente fissati e come dire mantenuti con fiducia inalterati due temi che nella sua evoluzione di storico dell'arte hanno in qualche modo segnato dei momenti diversi della sua attività perché prende Enrico come un modello tipico di una certa situazione della storia dell'arte in Italia rischia proprio di bruciarne la vivacità e anche la variabilità come personaggio per me almeno che l'ho conosciuto molto da vicino negli anni 60 perché lavoravamo insieme e poi ancora visto che lui abitava a Torino e quindi era relativamente facile vederlo questa variabilità del pensiero di Enrico era abbastanza evidente leggendo le cose che scriveva non che lui ne parlasse questo no delle riflessioni metodologiche che a due voci non le abbiamo mai fatte ognuno cercava la sua linea la sua via e poi semmai qualche confronto maledissimo Enrico non amava parlare di metodo almeno con gli amici non so se con gli altri arrivasse a discussione di metodo i due temi che ho scelti sono ovviamente temi un poco delicate perché uno è l'attribuzione e la storia dell'arte dei conoscitori e l'altro più delicato ancora quello della storia sociale che lo arrovellò fino alla fine della sua carriera cominciamo con l'attribuzione e la storia dei conoscitori la storia dell'arte dei conoscitori quando Enrico pubblicò nel 62 il libro su Giovannetti aveva alle spalle una pubblicazione di grande interesse difficile da trovare nelle biblioteche ma che andrebbe riletta e commentata ora come ora ed era la enciclopedia Feltrine no scusate Zanichelli Aurora Zanichelli era dove aveva curato una specie di complesso compatto molto compatto di problemi e di vicende della storia dell'arte tentando di darne un quadro generale dal Medioevo ai giorni nostri ma per problemi non per successione cronologica di eventi in questa ripeto bellissima enciclopedia ancora utile molto utile oggi Enrico condensava quello che lui pensava fosse la storia dell'arte ai suoi trent'anni e per esempio l'enciclopedia Aurora Zanichelli esce nel sessant'uno Enrico aveva poco più di trent'anni in uno dei passaggi di questo suo libro nel segmento metodi e problemi di storia dell'arte Enrico tenta di definire che cos'è l'attribuzione rapporto sempre variabile tra presente e passato l'attribuzione è l'operazione tipica dello storico dell'arte traduce le sue reazioni di fronte al testo è giudizio storico in atto questa è una condensata definizione dell'attribuzione in altra pagina molto lontana da questa qui sempre nell'enciclopedia giocherà questa strana endia di strana per modo di dire attribuzione è un giudizio storico l'attribuzione è un esercizio filologico comunque come vedete in un caso come nell'altra una solenne fiducia nei confronti dell'attribuzione come metodo euristico della disciplina storia dell'arte che questa definizione si trovi fedelmente rispecchiata nel libro su Giovannetti non è poi così vero in effetti il libro su Giovannetti che si legge ancora oggi con molto piacere è una specie di grande film in technicolor sulla corte dei papi in cui uno dei protagonisti è proprio Giovannetti ma i comprimari sono proprio i papi come committenti e tutta la curia avvignonese con i suoi cardinali come committenti anche loro come testimoni di un gusto libero avventuroso anche spregiudicato come solo ad Avignone in quel momento poteva esistere in questo Enrico insiste molto sul fatto che fu una fortuna per Giovannetti approdare ad Avignone in quel momento con quei papi fu una fortuna perché si trovò in una città ricca con committenti disponibili economicamente molto ben forniti e con dei gusti non condizionati da una tradizione che ad Avignone non esisteva ma anzi libere di scegliersi temi argomenti immagini ricchezze lussi che fino allora non si erano visti ad Avignone almeno d'altro canto lo stesso Giovannetti veniva da un'area toscana diciamo tra lui era di Viterbo ma la cultura di lui si riconosce tra Orvieto e Pisa con forte componente per Orvieto come per Pisa di Simone Martini però è evidente che arrivato da Avignone non sente il peso della tradizione la tradizione è sicuramente uno stimolo ma non un obbligo non un dovere non un'imposizione è un trampolino di lancio non di più questo modo di vedere la corte come zona di committenza e l'artista come produttore ma produttore in condizioni speciali nel senso di una particolare libertà e di una particolare come dire attenzione ma nello stesso tempo non ossessiva verso la tradizione sarà uno dei temi poi che durerà all'interno della sua carriera per tutta la vita insomma la corte in particolare come zona di committenza l'artista itinerante l'artista espatriato come categoria di artista speciale dove gli obblighi della tradizione o al limite della corporazione si sentono di meno e diciamo così la marcia in libertà è meglio consentita se uno dovesse dire leggendo oggi il libro di Enrico su Giovannetti se dovesse proprio confrontarlo con un libro che allora come oggi peraltro si leggeva molto volentieri lo confronta con l'autunno del medioevo di Oitzing con questo grande racconto della corte di Borgogna con i suoi lussi sfrenati con le sue eccentricità con una guida di committenza però disponibile a qualsiasi sgarro a qualsiasi avventura del resto lo riconosce lo stesso Enrico commentando con una prefazione la nuova edizione del libro all'inizio degli anni 90 proprio Oitzing è il nome che lui fa come modello accanto al libro di Schlosser sull'arte di corte curiosamente su questa vicenda non è che Enrico camminasse tranquillo in realtà qualche riserva gli veniva opposta ma proprio niente meno che da longhi che in una lettera che Enrico presenta solo dopo non in una eventuale prefazione che non ci fu alla prima edizione ma solo nella prefazione alla seconda edizione Longhi gli fa capire che qualcosa di quel libro la lettera è databile tra la prima edizione e la seconda edizione non gli torna tutto bene insomma e insiste perché Enrico ricordi che l'argomento primo è pur quello di una persona e quale persona dell'arte italiana cioè avverte lunghi orecchio fine naturalmente che l'attenzione di Enrico si porta più su questa spettacolarità della corte sul possibile parallelismo tra il gusto di corte e il gusto di Giovannetti tra le cose che vede accorte le cose che illustrerà nei suoi magnifici e pieni di episodi narrativi affreschi fino alla grande soluzione della sala dell'udienza dove c'è il presagio di quello che sarà tutto il Tardo Gotico europeo che cosa era intanto successo era verosimilmente successo che Enrico in qualche modo si stava ponendo delle domande sulla questione dell'attribuzione e dello stile delle domande che finiranno per convergere come è possibile realizzare una storia dell'arte che non sia così grossolana così volgare come la oseriana ma che corrisponde effettivamente a quello che può essere un discorso sensato per quelli che sono i rapporti tra l'arte e la società e l'incidente in questa riflessione era proprio l'attribuzione la storia stilistica in fondo l'attribuzione la storia dello stile erano questioni che al limite puntavano all'artista unico solo isolato puntavano a definire e individuare i caratteri assolutamente specifici di quell'artista in modo da poterlo riconoscere solo lui e non un altro nell'atto attributivo e poi nel raccontarne l'itinerario stilistico le questioni della società comportavano serie di testimoni non un testimone unico certo alcune possibilità c'erano Longhi stesso l'aveva fatto e aveva tentato di commentare in qualche modo descrivere rendere evidenti agli occhi di chi leggeva e contemporaneamente guardava le immagini di un artista toccando frasi significative dei documenti d'epoca credo che tutti si riconoscano in alcune frasi famose delle ricerche sull'arte lombarda qui si sfoggia e triunfe con ricami de berle e certo era un gusto di lusso e di sfarzo che poteva venire in mente e certo il terdogotico lombardo questo sfarzo lo illustrava era un'interfaccia di questa frase come l'altro si doveva notare nei lavori comandati agli artisti che sua maestà mangia in oro e che c'erano perfino delle bizzarrie in tempi di primi grandi ritratti c'erano anche il ritratto di un cane giamato baretta sfarzo e fatuità erano in fondo il grande tema che Longhi riconosceva nella produzione figurativa ma che commentava con dei documenti d'epoca tenete conto che quando Castelnuovo lascia la situazione torinese che era una situazione piuttosto nobile con l'insegnamento dell'Aprizio e passa a Firenze all'insegnamento di Longhi era stato appena pubblicato l'articolo di Longhi sul primo numero di Paragone dedicato alle meraviglie e alle squisitezze dei giudizi della storiografia artistica italiana se ben scelta se ben attenta a quello che si voleva dire delle opere d'arte e questo era stato credo un colpo assoluto per Castelnuovo come per altri in fondo se si volesse fare una storia parallela andrebbe fatta tra Enrico Castelnuovo da una parte e il poco più giovane Giovanni Previtali dall'altra insomma tutti e due colpiti da questa nuova lettura delle fonti e soprattutto delle fonti per la storia dell'arte Previtali sarà in qualche misura più ortodosso nei confronti di Longhi Enrico un po' più libero questo problema che ho scelto di seguire un po' quello che pensa Enrico dell'attribuzione vale la pena di farlo parallelamente con Giovanni Previtali e soprattutto di fissarsi su come Giovanni Previtali definisce l'attribuzione nella piccola enciclopedia Feltrinelli Fischer che del 1971 ma torniamo a a Giovanni a Enrico e torniamo alla voce attribuzione ce n'è un'altra redazione della voce attribuzione che segue i percorsi passi di Enrico da l'histoire dell'art s'affronten divers courants che si rattacchent alla psicologia della perception Arnheim Gombrich Ehrenzweig alla sociologia Antal Klingener Hauser alla iconografia e all'iconologia Warburg Saks Lopanowski Wind Wittkower alla psychanalyse Chris Abel e all'ethnologia Kubler io ne penso più che la lezione del style è l'unico ultimo dell'histoire dell'art un longhiano che dice che la ricerca dello stile non sia l'estremo obiettivo dell'arte è qualcosa di abbastanza agghiacciante insomma naturalmente la voce è stata scritta in francese per una enciclopedia rara da trovare che è l'enciclopedia Universalis però tenete conto che siamo nel 1968 un'enciclopedia scritta soprattutto per i francesi nel 68 qualche scricchiolio lo dovrebbe dare naturalmente e questo è un tipico scricchiolio castelnoviano qui tocca il suo estremo quell'idea che giocare solo lo stile nella ricerca storico-artistica limitava le possibilità dell'indagine che potesse dirne il maestro Longhi Enrico avvertiva questo problema questo come dire sbriciolamento delle vicende nella misura in cui ogni attribuzione ogni ricerca monografica ogni costruzione di catalogo che sembravano i temi tipici della storia dell'arte in Italia tendeva ad isolare a separare dal resto di una società di artisti di un gruppo di artisti al limite di una corporazione di artisti una singola figura concentrando l'attenzione su quella forma di isolamento assoluto non solo era il 68 era anche ormai da alcuni anni che Enrico si era allontanato dall'Italia al limite da Longhi e si era trovato ad insegnare in Svizzera a Lausanne era come si potrebbe dire al suo confronto era come se a lui fosse capitato quello che capitava agli artisti espatriati era uno storico dell'arte espatriato e questo non lasciava solido integro la sua cultura il suo modo di sapere il suo comportamento lo metteva in discussione e Enrico fu subito pronto io sono convinto che gli anni di Enrico e Lausanne siano stati radicali per la sua evoluzione mentale proprio perché si trova ad essere in una situazione completamente diversa da quella italiana da quella che in realtà lo aveva spaventato in Italia cioè l'università di massa che Enrico vedeva con vero terrore e non solo ma c'era anche una situazione del tutto nuovo per lui nel senso che gli studenti che lui incontrava a Lausanne a fare storia dell'arte prima non avevano mai fatto storia dell'arte in vita loro non venivano in qualche modo predeterminati da una loro cultura precedente da insegnamenti precedenti da culti precedentemente orientati venivano con intenzione di fare storia dell'arte si faceva storia dell'arte scegliendo storia dell'arte non era un obbligo come in qualche modo siamo abituati noi nella nostra università e chi lo faceva lo faceva motivatamente chi lo faceva poi negli anni sessanta lo faceva e chiedeva al docente qualcosa di assolutamente fuori dalla tradizione voleva una storia dell'arte bruciante in qualche modo politicizzata e ovviamente che scivolava verso la la storia sociale quindi se Enrico ammesso che ne avesse avuto voglia si fosse messo lì a spiegare che la storia dell'arte è una vicenda di storia di stili distinti una storia che usa come strumento l'attribuzione che spiega in qualche modo risalendo ai grandi modelli viennesi l'evoluzione dello stile o degli stili non sarebbe stato molto ascoltato era tutto troppo astruso per chi non aveva avuto un'esperienza diffusamente in qualche modo esplicitamente crociana non c'era niente che a loro potesse rendere chiaro tutto questo bisognava una diversa concretezza io ho conosciuto i primi studenti di Enrico losannesi perché vennero in gruppo a Torino quando ci fu la mostra di Giacomo Iacquerio alla fine degli anni settanta ed erano tutti in qualche modo gli mancava solo il tagliere da guardia rossa poi erano tutti ben improntati ben precisi quello che si deve fare quello che non si deve fare quel rigorismo se lo erano fatti da soli non era sicuramente in Enrico ma era chiaro che Enrico quei temi li aveva toccati insomma e li aveva in qualche modo destati su quel fronte e di qui anche l'idea di un diverso lavoro per esempio l'idea sulla geografia della cultura figurativa sul paesaggio storico-artistico naturalmente partendo da Lausanne l'idea di geografia artistica era un'idea di montagne non era certo un'idea di pianura o di valli padane era un'altra cosa e bisognava capirne le ragioni e vederne in qualche modo gli effetti che cosa induceva a formare un gruppo di artisti omogenei che per esempio lavorassero nello stesso luogo una valle ed essero in qualche modo effetti omogenei anche se era ben chiaro che si poteva sempre distinguere al limite si poteva distinguere Conrad Witz da Hans Witz certo questo non veniva perduto bisognava continuare a saper distinguere le lucciole dalle lanterne ma il problema si complicava nel senso che gli artisti si mettevano in catena e formavano uno spettacolo un balletto una scena teatrale per certi versi omogenei e si pensava che l'omogeneità fosse da una parte ovviamente lo stile ma dall'altra anche la convivenza in un luogo comune certo un effetto di scuola di formazione in certe botteghe ma forse anche un effetto di incubazione in qualche modo che la base geografica poteva servire a far funzionare non era che fosse una gran novità ma lo era per questa zona alpina dove Enrico insegnava e fu subito accessibile per noi in Italia e per la zona delle Alpi intorno a Bolzano e Cortina d'Ampezzo attraverso la traduzione degli scritti e il lavoro di Enrico il modello aulico naturalmente ma molto incerto nella sua definizione era semmai il modello tedesco della Donau Schule una scuola che si sviluppa in area alpina in una valle di fiume un particolarissimo fiume una particolarissima valle è una difficoltà enorme da parte degli studiosi tedeschi a quegli anni per affrontare questo problema se la Donau Schule era una scuola o era un Donau Stil battibecchi incredibili fino almeno a quando si fece una grande mostra proprio sulla Donau Schule all'Inns alla fine degli anni Sessanta dove si decise di far finta di niente e di non portarsi un'eternità di beghe inseguendo la distinzione sublime tra Donau Schule e Donau Stil lasciando perdere le distinzioni e occupandosi dei vari artisti che convergevano in quel problema comunque la Donau Schule era lontano dagli interessi di Enrico gli interessavano più le valli fiemontesi Susa Aosto le valli Svizzera per quanto riguardava la zona francese della Svizzera francese più ancora della Svizzera tedesca ovviamente il canton Ticino ma lì ci si avvicinava in una situazione di Lombarda dove la cosa era da affrontare diversamente nel senso che la corte di Milano aveva una tale potenza di raggiamento e la produzione figurativa milanese non solo di corte era così autorevole e potente che aveva invaso le valli e le aveva tutte in qualche modo coltivate civilizzate se vogliamo dire così non è la parola più giusta in qualche modo si verificava un fenomeno diverso e questo aveva un suo interesse ma Enrico non lo seguì le valli alpine della Lombardia che sono così rare dentro i testi di Castelnuovo provocavano semmai un improvvincialimento una una periferia rispetto al centro quello che non si poteva dire delle valli piemontesi e delle valli svizzere era un tema diverso che Enrico avrebbe trattato diversamente poco dopo questi anni losannesi i primi anni olannesi con il grande saggio su centro e periferia di Ginzburg e quelle alpi lì non sono mai state la valdossola non è mai stata una curiosità di Enrico non dico la valtaleggio o cose di questo genere era una una periferia diversa era una vicenda diversa che non era quella che a quel momento gli interessava si trattava insomma riassumendo non vorrei essere troppo lungo si trattava riassumendo di vedere se io credo che lui pensasse ancora così riassumendo di costruire dei corpus dei corpora diciamo di identificare degli artisti delle personalità ma poi lasciarli o spingerli a avvicinarsi in situazioni di omogeneità sociale per omogeneità di professionalità per omogeneità di scelte a limite tecniche e qui l'esperienza con Fossion era importante per lui per questo ritorna più volte su Fossion dove lo stile non è mai superato dai mezzi tecnici non è mai superato dal materiale usato insomma era lì che Enrico identificava dei possibili passaggi tra l'unicità della persona e il campo sociale dove la persona agiva e dove in qualche modo agiva con dei comportamenti omogenei con i suoi colleghi quindi se era la geografia a indurre a un'unità il problema delle valli delle valli alpine se era in qualche modo la tecnica a indurre all'unità pensate a che cosa poteva essere nella mente di Enrico il tema delle vetrate un tema che l'aveva affascinato all'inizio della sua carriera quando era a Parigi per Giovannetti e gli scritti di Enrico sulle vetrate dove lui vede dei libri vede delle mostre scrive per paragone delle recensioni sono straordinariamente affascinanti e vedono un tema che sarà un tema che percorrerà a lungo la sua produzione il tema dell'artista multiplo che è una novità nella realtà dentro la produzione figurativa di quegli anni non è un tema molto seguito o individuato correttamente invece nelle vetrate Enrico lo riconosce subito non esiste un artista che possa considerarsi l'unico vero responsabile delle vetrate esiste chi disegna il cartone delle vetrate avrà un suo stile dei suoi modi in qualche modo agirà su chi in un secondo tempo taglierà i vetri per occupare i mosaici specifici del disegno della vetrata per chi ammesso che ci sia un terzo personaggio qualche volta c'è qualche volta non c'è dipingerà in grisai le ombre i tratti più minuti della vetrata figurativa e poi si potrebbe continuare così andando ci sarà chi è bravo nel fissare senza infastidire il disegno ma comunque caricandolo nel fissare le barrette i canaletti di bronzo di piombo scusate che uniscono i vari frammenti dei vetri colorati e compongono fermano in qualche modo la figura qui il il valore longhiano dell'attribuzione certo entra in fibrillazione non c'è una sola persona a lavorare sulla stessa opera e a condurre al termine di uno splendore assoluto da un punto di vista stilistico la vetrata ci sono più umani c'è un autore multiplo quello è un altro argomento in questa situazione la vetrata offre comportamenti artistici omogenei in tutte naturalmente non omogenei stilisticamente ma tecnologicamente più omogenei tecnologicamente con una tecnologia che intride pesantemente la questione dello stile che comporta più umani su un'unica opera isolabile stilisticamente su questo Enrico è assolutamente sicuro tant'è vero che quando dopo molti molti anni scriverà finalmente il libro sulle vetrate lo distinguerà tra una parte più teorica e una parte di censimento delle vetrate più importanti in Europa poi sarà ovviamente un centrimenso stilistico di personalità di scuole e in qualche misura di variabilità tecniche ecco questo tema dell'attribuzione non viene mai perso nonostante le affermazioni di certe battute della delle voci sull'attribuzione ma viene ricondotta a un convergente concerto con varie altre determinanti dello stile che possono essere il luogo dove ci si trova tutti insieme una tecnica che si sceglie come tecnica comune un rapporto con i committenti un rapporto con una materia al libro che lo aveva affascinato fino a perdersene era il libro di Bach Sandal sulla scultura a linea degli scultori tedeschi non che questo fosse una soluzione per lui definitiva il problema della della storia sociale dell'arte di come in qualche modo certe forme di società lui non avrà mai detto e non dirà mai i condizionamenti della società il problema del rispecchiamento non era un tema per lui non era sensato per lui aveva qualcosa che non andava credo che il vaccino fosse stato l'articolo di Gombrich del 1953 a dire la verità in cui Gombrich recensiva la traduzione inglese di Hauser e lo pelava sostanzialmente l'articolo era uscito sull'art bulletin quindi su una rivista prestigiosa in campo internazionale e vedeva il povero Hauser un po' sbeffeggiato nonostante tutto è ambivalente questa recensione perché è di rara ferocia in certi punti in altri riconosce valore al comportamento di Hauser ma certo sconsiglia dall'alto di un pulpito prestigioso che si possa fare una storia sociale di quel tipo che non ha senso anzi è qualcosa di pericolosissimo certo ci sono in questo modo di congedarsi un poco dalla forza dell'attribuzione dalla forza della lettura di stile alcuni momenti forse di incertezza o comunque di riflessione per questo che bisogna seguire passo a passo anche questa parte di lavoro di Enrico perché se uno prende per esempio una mostra su cui Enrico ed altri con lui investirono moltissimo la mostra di Viligeno a Modena impressiona perché nonostante la presenza di Enrico di Peroni di Settis di altri giovani storici dell'arte accanto a loro è una mostra dove curiosamente se si pensa che cos'è stata come storia della distinzione stilistica della costruzione di personalità la storia della scultura romanica si trova un catalogo in numero infinito di volumi tutto dedicato all'iconografia certo era un tema unificante l'iconografia di una possibile storia sociale alcune comuni convenzioni alcune fonti comuni lette insieme con un giusto riconoscimento di importanza costruivano una iconografia poi al limite un'iconologia ma lì forse Enrico inseguiva meno quel mezzo fantasma attraverso l'iconografia si costruivano dei gruppi di artisti che seguivano un certo tipo di insegnamento e di quell'insegnamento restituivano un'immagine figurata secondo il loro specifico stile ma dentro un'omogeneità che era un'omogeneità di immagini da decifrare comunque sorprendente la questione di la mostra di Virigelmo e di Lanfranco è una questione sorprendente si segue più da vicino il ragionamento di Peroni in quell'impresa nel senso che Peroni riesce a far vedere come l'iconografia delle cattedrali sia una questione in effetti anche di stile un po' meno riesce Enrico con la sua equipe a lavorare su Virigelmo su Lanfranco lavorava a Peroni e il motivo dello stile cade anche in qualche modo teorizzando si è preferito in questa sezione siamo in premessa rispetto al catalogo anziché imbroccare la strada maestra dell'analisi stilistica resta pur sempre una strada maestra largamente battuta ma che ha spesso condotto o ancora scusate spesso a dell'impasse interrogarsi su problemi iconografichi da ancora abbandonare problemi tipologici similmente è stata scelta una campionatura di elementi decorativi tentativo vecchio gioco al limite rigoliano degli elementi decorativi e poi soprattutto iconografici quello era il tema che avrebbe guidato quella grande mostra siamo per la mostra dunque nel 1984 Enrico lascia Lausanna passa un breve momento ancora a Torino con la cattedra di storia dell'arte medioevale infatti è torinese Enrico Pagella che è con lui a lavorare nella mostra di Virigelma e poi passerà definitivamente qui a a Pisa adesso io non voglio entrare nel campo pisano che credo sarà poi sciolto meglio di me perché io non c'ero dai pisani agli evi di Enrico voglio solo dire che o almeno raccomandare loro di fare molta attenzione a come cambia l'interesse di Enrico sulla produzione editoriale di quegli anni se la produzione degli anni 60 è quella che crea lui dentro il dentro casa editrice Inaudi negli anni 60 negli anni 80 e 90 come Inaudi ma anche con Boringhieri ed altre case editrici la produzione editoriale cambia assolutamente carattere non è più l'età di Klingender per esempio che viene così ben riassunta diciamo l'età di Klingender per capirci nel libro su arte industria e rivoluzioni è piuttosto l'età di nuovo interesse per un tipo di storiografia soprattutto americana anglo-americana dove per esempio non compare però mai Sherman compare invece Bach-Sandal compare Montias compare la Alpers e compaiono anche recuperi di testi antichi come Bacchernagel per esempio è un altro modo di pensare alla storia dell'arte di pensarla come un mosaico fitto di documenti e figurativi e scritti in modo da raggiungere non tanto una verità sociale ma una verità di esistenza gli artisti con la loro vita quotidiana pertanto saranno anche membri di una società ma soprattutto dentro la loro vita quotidiana pensate al libro di Montias dedicato a Vermeer e la sua famiglia o al libro dell'Alpers e quello su Rembrandt e quello invece sulla società olandese degli artisti sono tutti pensate al libro di Baxandall su la scultura linea ma soprattutto a quello tradotto da noi con esperienze sociali a pittura ed esperienze sociali che è un libro bellissimo devo dire soprattutto la prima vita è sconvolgente per gli studiosi italiani di quegli anni che non si erano messi tanti problemi un libro così bello e così limpido era sconvolgente devo dire anche come dire da me che ero cominciavo ad essere un po' vecchio insomma proprio al mio massimo che avevo letto Baxandall per la parte su gli umanisti in inglese quando studiavo in Inghilterra questa traduzione letta per velocizzare l'operazione era stata veramente sconvolgente e è su questo che bisogna confrontarsi e notate è qualcosa che è molto curioso perché in Italia non è che non si conoscesse il gioco di Monti al sol gioco dell'alters ma non lo facevano gli storici dell'arte Enrico ha scritto con Carlo Ginzburg centro e periferia e ormai sognava negli ultimi anni di riscriverlo ma poi se voi sfogliate gli indici dei nomi dei libri di Enrico Carlo Ginzburg non è mai citato ma l'altra citazione che non c'è è quella di Dionisotti cioè quel tipo di ricerca a densa altissima densità di documentazione a profondo microanalisi degli itinerari personali che fanno di quei testi apparentemente in debito verso il metodo storico della fine dell'Ottocento dei testi invece che a saperli gestire sono attualissimi e di grande attualità metodologica fermo qui ringrazio Gianni per lo sforzo che ha fatto di fare quello che a tutti gli effetti poi è un abbozzo di ritratto completo ma insomma in realtà certe battute finali ha parlato anche lui non sul filo della memoria come avevo detto ma riflettendo su un'esperienza personale che è profondamente nutrita e anche dialettica ma nutrita dalla conoscenza di Enrico procediamo con direttamente Lina Lina Bolsoni che parla se ti posso lasciare mi dovrò pur togliere la mia il mio sarà un intervento molto breve e così solo qualche nota per ricordare come ho intitolato un amico e devo dire che la brevità è inversamente proporzionale all'affetto al rimpianto alla riconoscenza che mi legano a Enrico e mi dispiace che non ci sia qui Guido anche se diciamo è qui con noi nel ricordo nell'affetto e ricordo che l'ultima volta che ho incontrato Enrico a casa sua a maggio mi aveva fatto vedere una bellissima foto di Guido con i suoi bambini sua moglie e mi aveva detto che l'aveva lì davanti a sé e che proprio questa foto diciamo è quello che significava era per lui di grande conforto in un momento che evidentemente era per lui molto molto difficile il mio punto dicevo volesse ricordo di un amico di cui ho sentito molto la mancanza quando ha smesso di insegnare alla scuola e quando anche ha smesso di venire alla scuola purtroppo e qui c'è un po' di rimpianto probabilmente anche noi avremmo dovuto creare le azioni diciamo per riaverlo qui con noi e voglio dire anche che il mio debito nei suoi confronti è grande per i suoi studi per quello che mi ha insegnato per quello che di lui ho letto ma anche per altri elementi che vorrei qui brevemente ricordare intanto per la sua straordinaria curiosità intellettuale che è stato già ricordato ma poi vorrei dire innanzitutto per il suo stile che è la prima cosa che mi ha colpito quando l'ho incontrato per la prima volta cioè per il modo in cui si rapportava con gli altri per il modo in cui appunto sviva quello che gli altri facevano per il modo in cui stava ad ascoltare e poi anche per il piacere con cui parlava dei libri con un gusto quasi fisico che comunicavano il piacere dei libri che gli erano piaciuti quelli che appunto stava stava leggendo e poi appunto uno stile mai serioso ora a volte qui alla scuola normale ma non solo la scuola normale non sempre si capisce che essere seri non vuol dire necessariamente essere seriosi ecco questo era un aspetto che mi piaceva molto di Enrico il suo gusto per l'ironia però un'ironia mai distruttiva come a volte può essere nei confronti degli altri e poi appunto la sua sprezzatura e ricordo alcune celebri battute tutte noi quando ci è stato detto appunto di pensare a un ricordo di Enrico credo che tutti abbiamo pensato le sue battute le sue citazioni e ad esempio ricordo che quando appunto parlava del mutamento di clima anche di clima umano che era legato alla crisi delle Inaudi ricordava appunto che a un certo punto in casa editrice sono arrivati alcuni nuovi personaggi da Roma ma non solo da Roma ma anche dal nord e a quel punto non bastavano più le occhiate gelide di Giulia Inaudi per far capire che certi atteggiamenti insomma non andavano bene era venuto meno come dire un clima condiviso un codice anche di comportamento condiviso e poi un'altra un'altra battuta che mi venuto subito in mente e che appunto aveva a che fare proprio con questa percezione che lui aveva molto forte di cosa era cambiato in Italia certo la crisi delle Inaudi ma sappiamo benissimo che la crisi delle Inaudi si inseriva in un mutamento più profondo e più generale e diceva ma sai adesso non devi più praticare l'understatement nei confronti di te stesso perché sennò ti prendono su serio ti prendono la lettera ecco e direi che così insomma proprio per il suo stile oltre che per il suo metodo di lavoro che qui Gianni Romano ha ricordato che Massimo hanno ricordato direi che proprio per questo suo stile dal mio punto di vista Enrico ha rappresentato una novità rispetto alla scuola e credo che dobbiamo dare atto a Paola Barocchi di aver saputo cogliere questa novità e di aver saputo aprirsi diciamo a questa novità questa novità di stile questa novità di esperienze che Enrico portava con sé e poi naturalmente pensando lui mi viene in mente un termine come quello della leggerezza di Calvino di cui si è molto abusato che però diciamo nel caso suo mi sembra molto adatto e poi certo le citazioni tutti noi abbiamo pensato alle citazioni a cominciare dal circolo Piquic di cui poi parlerà anche di Claudio Ciociola e a me venivano in mente anche altre massime bellissime tipo una citazione in francese riferito a un signore che aveva fatto una carriera militare anche qui ci sento molto Torino è l'ambiente piemontese che fra l'altro mi fa venire in mente un altro maestro che ha insegnato qui che per me è stato molto importante Mario Fubini e appunto Enrico raccontava appunto di questo signore che faceva che doveva consolare un giovane che come lui faceva una carriera militare e a un certo punto insomma non aveva seguito bene certe regole e le cose non gli erano andate tanto bene allora diceva sa vous apprendra a vous foutre de l'armée che lui diciamo raccontava a noi allora giovani quando magari avevamo qualche disavventura accademica ecco e credo che appunto battute come queste danno un po' il senso del rapporto che lui aveva con l'ambiente universitario il suo ambiente di lavoro certo un ambiente in cui era impegnato fino in fondo ma un ambiente rispetto al quale manteneva un forte distacco un forte gusto per la libertà individuale per la libertà intellettuale e qui scusate ma a mia volta mi viene da citare altri episodi che lui raccontava raccontava appunto quando negli anni roventi della contestazione a Lausanne credo il D nell'università insomma l'aveva richiamato perché aveva preso certe posizioni che apparivano francamente insomma troppo rivoluzionari e pericolose e fra l'altro volevo ricordare che queste posizioni pubbliche di Enrico che credo avesse semplicemente firmato un appello non è che insomma fosse sceso in piazza ma era una posizione molto vicina anche al lavoro molto importante che Delia stava facendo in quegli anni sugli emigrati sui disagi psichici legati appunto all'emigrazione anche questo evidentemente un tema di grandissima e tragica attualità per noi e appunto allora Enrico aveva risposto in nome della libertà di coscienza e naturalmente il fatto di rifarsi a un valore così tipicamente legato alla cultura protestante alla cultura calvinista aveva tolto le argomentazioni diciamo al suo interlocutore dicevo appunto che ripensando alla sua figura ho pensato sì che in lui ci fosse come dire una forte presenza dell'ambiente torinese ma anche è già stato ricordato una dimensione cosmopolita e infatti il tema della frontiera e intanto il forte rapporto ad esempio con la Francia ma non solo sicuramente sono stati essenziali e a questo punto volevo citare brevemente alcuni passi di un suo intervento che comincia dicendo l'art na pas de frontière non saprei a che attribuire questa dichiarazione che nel suo tono apocalittico evoca il flobertiano dictionaire desideresu quindi questo è l'inizio del saggio poi diciamo elenca una serie di frontiere che è la storia dell'arte ma non solo la storia dell'arte presente e alla fine dice di fronte a questo accumularsi di frontiere politiche dinastiche stilistiche sociali di frontiere antiche nuove quasi niente rimane della fiduciosa affermazione che l'arte non conosce frontiere a vederlo da vicino il campo artistico ci appare anzi tutto intersecato e percorso da limiti da confini simili a quel paesaggio a scacchiera che in uno dei primi capitoli di attraverso lo specchio Alice contemplava dall'alto di una collina in compagnia della regina rossa un paesaggio ben curioso solcato da tanti piccoli ruscelli che correvano diritti traversato di parte in parte da tante piccole siepi che andavano da ruscella a ruscella questa è evidentemente una citazione diciamo di Alice e poi conclude rapidamente Enrico ma fu superando quei limiti che Alice giunse a diventare regina e questo in fondo è quello che anche lui appunto abbiamo sentito prima già ne ha cercato di fare e dal punto di vista proprio di questa dimensione diciamo di coscienza delle frontiere nello stesso tempo di gusto di attraversare le frontiere credo che appunto sia importante anche rileggere uno dei suoi primi libri che già è stato ricordato un pittore italiano alla corte di Avignone Matteo Giovannetti e la cultura in Provenza nel secolo XIV e ricordo come Enrico fosse giustamente molto felice della nuova edizione nel 91 a quasi 30 anni di distanza ecco e abbiamo già sentito delle osservazioni molto belle su cosa significava anche di nuovo il modo di lavorare in questo libro ecco io ho pensato che così con un paragone forse un po' un po' sciocco ma mi veniva in mente che in fondo molti aspetti innovativi del lavoro di una studiosa come Francis Yates sono legati al fatto che lei ha cominciato lei inglese che poi sarebbe diventata una dame nominata alla regina ha cominciato a occuparsi della cultura elisabettiana studiando Florio quindi un emigrato italiano e studiando diciamo la posizione di Florio in Francia ecco io penso che sia molto bello appunto il fatto che Enrico qui abbia studiato un pittore italiano che stava appunto ad Avignone e questo diciamo è molto interessante anche per chi di noi si occupa di Petrarca sicuramente diciamo il ripensare non in termini di esilio ma in senso positivo diciamo cosa ha significato una esperienza letteraria artistica che prende le mosse da lontano che prende le mosse diciamo al di là delle varie frontiere giustamente si è riparlato di Einaudi si è parlato diciamo della presenza forte di Enrico nella casa editrice la sua capacità di coinvolgere appunto tanti giovani tanti di noi diciamo hanno lavorato con lui e attraverso lui diciamo hanno collaborato con Einaudi e da questo punto di vista mi è venuto in mente un personaggio molto diverso molto lontano da lui che però negli stessi anni spesso Paola Barocchi invitava qui alla scuola cioè Paolo Fossati e quello che mi veniva in mente al di là delle profonde differenze dei due personaggi quello che per me li accomunava era questa passione per i libri cioè il fatto che tu parlavi di una questione e subito loro vedevano il libro lo vedevano già fatto con la copertina quasi con il numero di pagine cioè diciamo questo veramente profondo come dire impegno intellettuale e nello stesso tempo editoriale cioè il gusto di trasformare un progetto una proposta appunto nel libro nel libro magari a cui collaboravano diverse diverse persone e mi fa piacere che Gianni Romano abbia più volte ricordato Michael Baxandalo Baxandalo non so come si possa pronunciare e sicuramente diciamo Enrico ha avuto una funzione notevole nel riproporre Baxandalo in Italia e ho visto devo dire come un segno un po' di decadenza o almeno di svolta il fatto che poi Einaudi che pure ha tradotto quasi tutto non abbia tradotto lo splendido libro di memorie uscito post appunto memory book e un altro diciamo tema su cui volevo fermarmi un momento e che è già stato ricordato è la lunga passione per le vetrate e per la sfida metodologica diciamo che questa passione che questo interesse comportava e qui appunto scusate l'ultima citazione volevo leggere il passo in cui appunto Enrico sta dietro all'idea della cattedrale tascabile e cita appunto John Ruskin il quale esprimeva il proprio piacere per un bellissimo messale miniato che aveva appena comprato e scrive Ruskin Enrico lo cita in realtà un messale ben miniato è una meravigliosa cattedrale ricolma di vetrate dipinte il tutto rilegato insieme per poter stare in tasca con tutta la sua musica e le sue preghiere appunto questo dà un'idea del suo modo appunto di leggere e di rifare proprio come giustamente è stato detto le citazioni e poi ricordo il suo lungo impegno nella creazione dell'indice abbiamo letto un bel ricordo appunto di Gianni Romano e qui mi fa piacere trovare qui diverse persone che hanno collaborato all'impresa del Camposanto cioè i vari seminari organizzati qui alla scuola per studiare appunto il Camposanto di Pisa che poi è sboccato nel libro curato appunto da Enrico e dalla Baracchini appunto sul Camposanto di Pisa per me è stata un'esperienza straordinaria c'è un grande cantiere di lavoro in cui intorno ad un tema ognuno diceva la sua cioè non si discuteva di interdisciplinarietà o di multidisciplinarietà non c'era questa passione diciamo per il discorso metodologico e la mia esperienza in questo senso è simile a quella già ricordata da Gianni però diciamo era una bellissima esperienza nel senso che intorno ad un grande tema ognuno di noi diciamo dava il suo contributo partendo da quello che diciamo pensava di potere di potere capire ecco e credo che un'esperienza di questo genere da molti anni manca alla scuola e andrebbe invece appunto ripensata e poi ricordo che con Paola Barocchi Enrico ha promosso alla scuola ad esempio dagli incontri con Lamberto Maffei con le neuroscienze quindi col problema sul problema della visione e poi naturalmente per me è stato essenziale il suo bellissimo lavoro sul ritratto e mi fa molto piacere che sia stato ripubblicato una io insomma appunto perché mi sono trovata come Gianni sa lavorando appunto sui ritratti ho letto molta bibliografia critica e devo dire che il contributo che Enrico aveva fatto per la storia dell'arte in Audi resta veramente straordinario per la storia storia di Italia grazie ecco e vorrei chiudere veramente con l'ultimissima citazione in questo appunto in questo saggio a un certo punto lui cita Dürer che sta a Venezia e scrive a un amico dicendo ma io qui sono un signore ecco credo che questa citazione da sola ci aiuti a capire appunto molto più di lunghi magari noiosi saggi sui rapporti nord-sud diverso statuto dell'artista nei diversi momenti nella diversa geografia e vorrei chiudere qui appunto dicendo di nuovo grazie Enrico per tutto quello che ci ha dato e che continuerà a darci attraverso i suoi scritti grazie grazie Claudio Sciosciola continuerà in qualche modo su questa linea di ricordi di un lettore per chi come me è nato anagraficamente con la televisione e ha vissuto le prime esperienze di lettura intorno alla metà degli anni 60 esisteva un suggestivo e originale doppio del romanzo il teleromanzo o romanzo sceneggiato tagli e montaggi a volte impietosi messi in scena che dovevano fare i conti con il bianco e nero e con mezzi incomparabilmente più poveri di quelli d'oggi ma attori di primo ordine presi in prestito dal teatro di prosa e registi specializzati di grande professionalità e all'epoca famosi i più noti erano Anton Giulio Maiano e Sandro Bolchi e spesso si avvalevano come sceneggiatore di Diego Fabri era un modo per quel modello di televisione fortemente di da scalico e diciamocelo anche un po' noioso ma certo da rimpiangere di diffondere la cultura e di indurre alla lettura colpisce nell'elenco il numero di romanzi della grande e media letteratura europea dell'Ottocento soprattutto francese e inglese né erano trascurati i grandi russi ricordo perfettamente i bellissimi fratelli Karamazov di Bolchi trasmessi nel 1969 Nicholas Nichelby il primo Dickens sceneggiato fu trasmesso nel 1958 e perciò non posso ricordarmelo David Copperfield 1964-65 regia di Anton Giulio Maiano protagonista Giancarlo Giandini me lo ricordo invece benissimo il circolo Pickwick andò in onda nei primi mesi del 1968 a un anno esatto dagli storici promessi sposi di Bolchi e Bacchelli e risentiva dei tempi la regia di Ugo Gregoretti era provocatoria e lontanissima dagli standard la sigla di coda era cantata da Gigi Proietti con accompagnamento alla chitarra di Lucio Battisti nonostante il cast anche in questo caso notevolissimo Mario Pisu lo stesso Proietti Tino Buazzelli Piera degli Esposti Tino Scotti a me ben pensante tredicenne non piacque e il libro non lo lessi lo feci molti anni dopo molti dei presenti sanno per diretta esperienza come picqui che fosse per Enrico una specie di scherzoso vademecum esistenziale lo citava ogni pie sospinto come chiave interpretativa delle situazioni più varie e spesso apparentemente remote da quello strumento esegetico uomo di straordinaria arguzia arguzia che sapeva rivolgere come tutte le persone speciali in autoironia anche in questo così poco incline al cliché dell'accademico era naturalmente consapevole e padrone del suo gioco per cui introduceva il riferimento a Pickwick con una lieve pausa di esitazione che preparava anzi invitava l'effetto di sorpresa nell'interlocutore il che valeva in specie con me che non avevo letto il libro e dunque non reagivo e il mio non reagire era letto come una specie di censura o negazione preventiva ho sempre tenuto un po' scioccamente il punto di non precipitarmi a leggere un libro o troppo famoso o troppo citato così mi è capitato anche con Pickwick letto direttamente in inglese in omaggio a Enrico quando però le nostre frequentazioni si erano diradate nel gioco a specchi che in genere produce il privilegio di frequentare intellettuali e scrittori non mi accorsi che quello straordinario esercizio di leggere la vita alla luce della letteratura sub specie Pickwick era già stato ipostatizzato esso stesso in letteratura e in alta letteratura prima ancora che io fossi chiamato a viverlo nel 1981 due anni prima cioè che io conoscessi Enrico in un testo destinato a diventare famoso perché leggere i classici lo aveva fatto come hanno ben ricordato Massimo Ferretti e Monica Donato Italo Calvino conosco un ottimo storico dell'arte aveva scritto Calvino uomo di vastissime letture che fra tutti i libri ha concentrato la sua predilezione più profonda sul circolo Pickwick e a ogni proposito cita battute del libro di Dickens e ogni fatto della vita lo associa con episodi Pickwickian a poco a poco lui stesso l'universo la vera filosofia hanno preso la forma del circolo Pickwick in un'identificazione assoluta ricordando mesi fa un grande amico di Enrico Cesare Segre ho riconosciuto che a Cesare devo tra l'altro il Don Quixote a Enrico tra l'altro devo Pickwick Pickwick come ipostasi della parete lieve o dell'osmosi non retorica ma ironica e serissima tra vita e letteratura lo annovero fra i tratti della sua generosità intellettuale della quale ho avuto ripetute prove Enrico Castelnuovo è stato in assoluto una delle persone più aperte curiose affettuose e disponibili fra quante ne abbia incontrate in normale e fuori certo la diversità delle discipline coltivate probabilmente rendeva il nostro rapporto meno condizionato da ipoteche accademiche anche se poi a lui devo e l'ho scritto mille scambi di idee e il costante incoraggiamento nella genesi del visibile parlare qui certo entra in gioco la proverbiale propensione di Castelnuovo per i temi di frontiera per gli incroci di discipline per una storia dell'arte che non fosse solo storia dell'arte è certo in ogni caso che con me di storia dell'arte gli accadeva di parlare solo aneddoticamente o per ricordare Longhi quasi un obbligo con un continiano e con Contini nei primissimi anni della presenza di Enrico ancora formalmente alla scuola parlava anche delle mostre originalissime che andava progettando ricordo con particolare vivezza appunto Vili Gelmo ma anche i mesi di Trento e più tardi il gotico nelle Alpi ne parlava concludendo in punta di piedi se ti capita vai a vederla sbarcava sempre dal treno di Torino o da uno dei mille altri treni che prendeva in quella sorta di ossessivo moto perpetuo che furono gli anni del suo insegnamento pisano con un romanzo tra le mani e incominciava a parlarne con estrema civetteria una volta disse di dover recuperare perché Delia lo rimproverava di non leggere testi letterari a sufficienza e di limitarsi proprio lui allo specialismo storico-artistico oppure affettava di cercare nel romanzo di turno la citazione memorabile che avrebbe reso immediatamente per spicua un'argumentazione scientifica o preziosa l'apertura di una presentazione di catalogo o un elzeviro mi fu presentato in un giorno credo del 1983 da Paola Barocchi davanti allo studio che per lustri fu lo studio della signorina la signorina per antonomasia alla scuola e che del tutto inoppinatamente è diventato oggi il mio ricordo perfettamente quella presentazione perché mi colse di sorpresa mentre stavo uscendo dalla scuola e ha sempre rappresentato per me come la cifra di un rapporto improntato alla più gratuita generosità Ciosciola disse la signorina c'è qui Castelnuovo che la vuole conoscere come Castelnuovo voleva conoscere me ricostruendo c'era forse un'implicazione inaudiana perché in quegli anni doveva ripartire la nuova collana di classici annotati e Contini aveva fatto a Torino il mio nome addirittura per la commedia fu subito evidente che si trattava di un professore sui generis poco professorale nel tratto estremamente vivace e curioso delle esperienze culturali altrui e in particolare delle esperienze dei più giovani tra i 60 e i 70 si era fatto un gran discutere in Italia del ruolo dell'intellettuale categoria tanto difficile da circoscrivere quanto perentoriamente asseverata personalmente avevo a lungo coltivato dei dubbi sull'applicabilità o inapplicabilità della categoria agli accademici mi fu però immediatamente chiaro che se l'intellettuale si doveva ancora parlare Enrico poteva rappresentare un'incarnazione plausibile della categoria questo certo anche per il suo diretto coinvolgimento nella produzione editoriale produzione d'alto rango ma non accademica e per la partecipazione attiva all'attività pubblicistica insomma soprattutto e in Audi e indice non può qui non accennarsi al respiro torinese che attraverso Castelnuovo permeò una fetta di Pisa in quel periodo in normale gli inaudiani di stanza o in transito erano stati ed erano numerosi e molti molto illustri ma più professori che operatori culturali traduzione volgare e laica di intellettuale il ruolo nelle inaudi di Enrico Castelnuovo e di Delia Frigessi emerge già dai riferimenti che si leggono nel bellissimo pensare i libri di Luisa Mangoni ma dovrà essere argomento di approfondimenti in futuro accendo a una rarità bibliografica che in tale studio potrà occupare uno dei primi paragrafi o capitoli e la miscellania per nozze Castelnuovo Frigessi stampata in cento esemplari fuori commercio a cura del mitico Oreste Molina nel 1962 l'anno come è stato ricordato dell'uscita del Giovannetti colpiscono tre elementi in questo volume di 111 pagine l'eleganza tutta inaudiana o si dica moliniana nell'assoluta sobrietà dei materiali il carattere non occasionale e quasi mai faceto l'eccezione si vedrà è quella di Cases dei contributi che solo in rarissimi casi alludono alla circostanza del volume uno di questi è l'intervento di Giovanni Romano che chiude scrivendo di non voler essere né troppo pedante né a sproposito lungo per non tediare e me ne dorrebbe non poco due amici che mi sono particolarmente cari e infine lo straordinario parterre degli amici partecipanti nell'ordine Norberto Bobbio Franco Venturi Giovanni Romano Giulio Einaudi Italo Calvino Franco Antonicelli Corrado Vivanti Franco Fortini Vittorio Strada Giancarlo Roscioni Cesare Cases Daniele Ponchiroli Giulio Bollati Renato Solmi Guido Davico Bonino la biblioteca della scuola possiede di questa introvabile e memorabile placchetta ben tre esemplari uno Cantimori senza dedica uno Garen con dedica di Enrico e uno con dedica autografa di Delia e con firma di Enrico al professor Arnaldo Monigliano per cordialissimo ricordo di Delia Enrico Castelnuovo intercalate alla saggistica alcune belle poesie di Antonicelli qualche esperimento di traduzione da e in poesia e tre sonetti romaneschi in stile belliano nei quali Cesare Cases celebra il congresso ecumenico degli traduttori congresso al quale partecipa convocata da Monsignor Roscione l'intera curia e inaudiana con l'eccezione forzosa di Delia e di Enrico dispensati per nozze C'è su tutti c'è strada c'è panzieri c'è ponchiroli e il cardinal prefetto c'è sormi immerso negli so pensieri c'è manca solo Deia e il surighetto che suannati a sposasse l'altro ieri con la dispensa di quel benedetto moglie e figlio lo sappiamo erano spesso evocati nella conversazione di Enrico questa dimensione inclusiva che si estendeva spontaneamente al cerchio delle amicizie era anche caratteristica della sua personalità l'inclusione implicava spesso e piacevolmente cene e buon vino la convivialità come prolungamento o preludio a riunioni una volta parlò buffamente di brainstorming nella casa bella ma vuota come si confà a nomade accademico di Lungarno Pacinotti e implicava anche le brevi ma indimenticabili vacanze condivise al mare o in montagna nell'amata maremma o nell'altrettanto amata cortina qui una volta mi aditò sorridendo per soddisfatta torinesità il conte Giovanni Nuvoletti cognato dell'avvocato nel compassato signore con il quale si era scambiato un cenno di saluto sulla passeggiata della vecchia ferrovia a cortina ci si vedeva con Cesare Segre e Marisa Meneghetti non so se questa affettuosa e ospitale inclusività avessi alla lontana qualcosa a che vedere come mi è capitato di pensare con l'estrazione di entrambi e un tasto quello dell'ebraismo che non ho mai osato toccare espressamente Enrico una volta ci scherzò dicendomi che Momigliano gli aveva allungato un calcio sotto un tavolo zittendolo per imperfetta ebraicità per parte di madre e dandogli perciò del gentile il legame con Segre risalente agli anni dell'università li separava un anno Cesare del 28 Enrico del 29 era assai forte mi è stato riferito che la scomparsa dell'amico andato il 16 marzo dell'anno scorso tre mesi giusti prima di lui lo abbia molto razzistato nel 1992 si svolse a Cassino dove nel frattempo mi ero trasferito il convegno e la mostra intitolati al visibile parlare Segre tenne le conclusioni mentre il progetto della mostra era stato delineato da Monica Donato allieva molto amata da Enrico con la quale in quegli anni avevo avviato una proficua collaborazione sul tema delle iscrizioni poetiche in lingua volgare di questo argomento avevo incominciato a interessarmi intorno al 1988 e naturalmente ne avevo subito parlato con Castelnuovo il quale si accese immediatamente memore tra l'altro del Giovannetti e del Palazzo Avignonese mi portò la traduzione italiana apparsa nell'87 di uno stimolante libretto di Michel Butor Les mots dans la peinture chiedendome una recensione per dire così programmatica per l'indice ricordo con affetto il tempo passato nella casa di Lungarno Pacinotti a riscrivere in italiano non continese il testo la recensione apparve nel numero di dicembre dell'88 sotto il titolo appunto divisibile parlare nel frattempo stavo infatti finendo di redigere il saggio omonimo uscito nell'89 che è trascrizione ampliata di una conferenza che lo stesso Enrico mi aveva invitato a tenere in normale a quella conferenza del tutto a mia insaputa voglio che intervenisse un altro Cesare suo grande amico Cesare Garboli un Cesare che non conoscevo e che mi ritrovai davanti con grande stupore e imbarazzo Garboli fu molto colpito da una placchetta raffigurante un giovane di fronte a uno specchio che il verso iscritto in un cartello consentiva di identificare con un personaggio del petrarchesco triunfus temporis Garboli si invaghi dell'elegante silhouette e volle in tutti i modi che gli spedissi una copia fotografica dell'immagine cinque anni dopo rammaricandosi di non essere venuto al convegno di Cassino mi stupì una seconda volta mi dispiace soprattutto di non essere stato a Cassino per il convegno non ce l'ho fatta troppi impegni troppi pasticci speriamo in un'altra volta alle mie spalle fissata a uno scaffale brilla sempre la riproduzione della placchetta nella collezione Cress mi fa compagnia e mi fa ricordare di lei è un episodio che ho voluto rievocare vincendo l'imbarazzo che provoca in questi ricordi l'inevitabile ma non per questo meno fastidiosa citazione del pronome io perché mi sembra spieghi al meglio cosa possa intendersi per generosità se io rimasi a bocca aperta quando Enrico convinse Garboli a venire a Pisa ad ascoltarmi anche Enrico era rimasto a bocca aperta quando conobbe Garboli lo racconta e su questo aneddoto voglio concludere un altro grande amico sia di Garboli che di Enrico Carlo Ginzburg in un discorso del 2005 in ricordo di Garboli morto l'anno precedente leggo nel settembre 1980 si tenne a Firenze un convegno su Roberto Longhi morto dieci anni prima la seduta del giorno 27 cominciò con una relazione di Gianfranco Contini che parlò delle varianti del libro di Longhi su Caravaggio finiti gli applausi il presidente o presidentessa non ricordo chi fosse diede la parola a Cesare Garboli Garboli rimase immobile con gli occhi fissi nel vuoto l'invito venne ripetuto passò forse un minuto interminabile a questo punto Garboli si riscosse e mormorò a voce bassissima ero tutto preso dalla stupenda relazione di Contini nella sala era calato un gran silenzio pensai Cesare sta recitando accanto a me Enrico Castelnuovo guardava Garboli che non aveva mai visto prima letteralmente a bocca aperta qualche tempo dopo Castelnuovo mi raccontò di aver provato a cominciare una conferenza rifacendo la gag di Cesare ma tutto gli era andato storto il pubblico aveva cominciato a dire voce voce eccetera fine della citazione di Ginzburg è un episodio che mi ha ricordato giorni fa Mimmo Scarpa ma ripensandoci credo mi fosse stato raccontato in tempi diversi ma per lo stesso motivo e cioè il riferimento a Contini sia da Ginzburg che da Enrico da questi certo per l'evidente componente autoironica così tipica della seconda parte un aneddoto veramente degno di essersi avverato la prima volta in una riunione del circolo Pickwick di mio posso aggiungere che quell'intervento sulle varianti del Caravaggio Longhiano fu preparato e anticipato da Contini nel corso che tenne a noi quell'anno alla scuola e lo aggiungo soltanto per dire a me stesso citando lo stesso Contini che desidero convincermi di essere vissuto e che quella fu vita non so se Clara e Marco vengono assieme a parlare o hanno un po' no prima veniamo insieme ci scambiamo le precedenze perché ci siamo organizzati in modo inverso a quella benissimo ascoltando quello che è stato detto finora mi è venuto è venuto in mente anche a me un piccolo aneddoto che mi implica cercherò di resistere alla tentazione di parlare di me invece che di Enrico ma insomma devo partire da questa situazione ho partecipato ad alcuni concorsi d'ingresso degli allievi del corso ordinario quando sono stato in normale insieme a Enrico e ricordo che un titolo al quale lui teneva molto da sottoporre per lo scritto agli studenti era una frase molto celebre delle proposte di una critica d'arte di Longhi è la frase che dice che ogni opera è una relazione e eventualmente e prima di tutto una relazione con un'altra opera allora in questa trovavo anche come dire il modo di collegarmi ad un'altra frase che mi ha molto colpito di Enrico e che non credo abbia mai dato come titolo di un tema perché era una frase sua a un'opera d'arte bisogna porre molte domande non c'è contraddizione fra queste due cose come non c'è contraddizione nella relazione di Gianni Romano fra attribuzione e storia sociale dell'arte c'è continuità e complessità e modificazione dei problemi sia in contesti storici e geografici diversi sia nella evoluzione delle persone perché le relazioni che abbiamo sentito i rapporti che Enrico ha tenuto nella sua vita nei vari contesti con gli altri sono rapporti come dire non di imposizione ma rapporti di dialogo di apertura e quindi non è strano che le situazioni abbiano anche creato l'uomo qualche cosa di simile veniva nelle monografie nei lavori più tardi di Longhi dei Longhi del secondo dopoguerra dove l'artista parte in un contesto poi conosce si sposta e tutte queste situazioni del filo biografico hanno naturalmente importanza nel costituire l'immagine dell'artista quindi c'è naturalmente un elemento come dire una costante un DNA che è quello che morellianamente permette di riconoscere l'artista ma c'è anche una evoluzione di cultura e queste due realtà non vanno contrapposte la premessa serve per ricordare che io parlo qui diciamo cercando di delineare qualche ricordo su Enrico a Pisa e quando Enrico era a Pisa io ero in normale e non ero come dire nella facoltà ma ora devo cercare anche di parlare da quell'altro punto di vista e quindi chiedo ai colleghi pisani che in quel periodo come dire erano fuori dalle mure della normale di perdonarmi se non ricordo tante cose e eventualmente di aggiungere naturalmente perché come dire è una storia che si deve fare sulla tradizione orale sulla memoria personale ricordo molto bene come dire il per parlare che si faceva in normale negli anni che precedono la chiamata di Enrico in normale insomma la Barocchi e Settis naturalmente sentivano tante persone e avevano chiamato a fare tante conferenze ma nessuna conferenza aveva colpito così tanto anche noi studenti io allora ero già giovanissimo ricercatore ma quanto quella che tenne Enrico da parte di noi c'era un entusiasmo dei giovani che lavoravano in normale e il risultato è stato che nell'83 lui è arrivato e ha iniziato il suo insegnamento ricordo che non faceva leggere cose sugli artisti non consigliava di leggere una monografia o un articolo su un artista neanche sulla pittura faceva un corso sull'architettura sull'architettura gotica e faceva leggere alcuni testi diciamo alternativi a dei manuali che pure consigliava ricordo questo testo di Jean Bonny su la resistenza al gotico era una cosa che secondo me illustrava bene il personaggio come dire voleva smontare una invece che corroborare le idee preconcette smontarle e questa provocazione fatta sempre in maniera molto affettuosa e molto ironica funzionava molto bene credo funzionasse molto bene per i più giovani ma questi parlano nel pomeriggio e potranno smentire funzionava senz'altro molto bene per me perché devo dire che in normale l'arrivo di Enrico è stato veramente dell'aria fresca allora non non mi viene in mente un'altra metafora allora si conosceva un periodo inesistente in normale la Barocchi non risaliva mai a monte di di Leon Battista Alberti visto sempre in una prospettiva cinquecentesca ma non lo dico per un limite naturalmente ma per dire che anche per dei giovani parlare dell'arte medievale e dell'arte europea era estremamente interessante e soprattutto sentire parlare non in quei termini di bega attribuzionistica che certe volte diciamo nel longhismo minore voi avete usato un qualche aggettivo riduttivo si leggeva vero nei testi italiani ma sentirlo leggere con delle prospettive che io personalmente ad esempio avevo letto in Pecht al quale ero arrivato indipendentemente la prima persona di cui abbiamo parlato era Pecht avevo conosciuto Pecht attraverso una studentessa dell'università di Vienna che frequentava insieme a me l'istituto tedesco a Firenze Pecht non di persona ma Pecht nei suoi testi allora sentire che c'erano dei problemi dei punti di vista diversi era veramente molto importante forse devo dire che l'insegnamento della barocchia da questo punto di vista funzionava molto perché l'insegnamento della barocchia avverteva sulla complessità dell'opera d'arte vista in senso diacronico vista diciamo in quella che si chiama la storia della critica ma comunque era sempre un'apertura a porsi più domande che la solita domanda e questo penso che sia stato veramente all'interno qualche cosa di importante come ha reagito l'ambiente esterno a questo allora l'università se uno prende diciamo i grandi schemi naturalmente l'università di Pisa era una realtà completamente opposta a quella della tradizione longhiana e certo voglio dire a chiedere un'opinione a Enrico su raggianti insomma si cadeva molto male però diciamo io credo che queste contrapposizioni aiutano abbastanza poco devo dire che chi mi ha detto lei deve andare a ascoltare raggianti quando io sono arrivato alla scuola normale è stata Paola Barocchi una persona che era l'opposto molto lontana di pensiero ma insomma nelle situazioni geografiche circoscritte se uno non è proprio cieco o sordo e a cuore diciamo che una persona senta tante voci questo è un buon consiglio e lo si dà lo si dà normalmente al di là di quello che comunemente si pensa diciamo stando più sulle generali allora a Pisa c'era una realtà che era molto diversa da quella della formazione di Enrico Castelnuovo che abbiamo visto parte come allievo di Labrizio va a Torino va a Firenze con Longhi ha un'evoluzione poi come studioso che non è quella dell'onghiano ortodosso diciamo anche la nozione di stile era molto diversa con Castelnuovo mi ricordo si parlava molto di questo per lui lo stile non era esclusivamente lo stile personale ma aveva dietro tutta una tradizione di studi su altra nozione di stile soprattutto tedesca ricordo che lui non amava molto Riegel che era molto amato invece da Raghianti ma ricordo che conosceva molto questa tradizione e era molto interessato non a discussioni come dire togate sul metodo ma a ragionare su come uno ragionava sull'arte sulla storia dell'arte l'ambiente pisano dunque poteva avere questa etichetta di ambiente di Raghianti e quindi tenerlo lontano ma questo non sembra essere avvenuto c'è stata un'apertura e una collaborazione enorme io credo che in questo abbia funzionato la curiosità e la in qualche modo la omnivoricità che su piani molto diversi la scuola di Raghianti e Enrico avevano dunque non si trattava solo di studiare la pittura prevalentemente la pittura italiana e prevalentemente nei suoi aspetti di pittura mobile fra Cimabue e il Settecento questo era in qualche modo avrebbe preso solo una parte degli interessi anche professionali di Enrico Coste Nuovo ma di studiare la storia dell'arte in maniera molto ampia estendendo ad esempio le categorie le categorie degli oggetti una delle persone con cui Enrico Coste Nuovo all'Università di Pisa ha più intensamente dialogato non è anch'essa più fra noi Donata Devoti Donata Devoti se avesse dovuto parlare negli ultimi anni della sua vita di Raghianti non sarebbe stata tenerissima ma riconosceva con molta onestà che il suo interesse per le stoffe era stato un impulso del suo maestro e infatti aveva cominciato a studiare le stoffe lucchesi le stoffe di cui di cui Raghianti aveva indicato in anni precedenti l'interesse naturalmente l'atteggiamento di Donata Devoti che era un atteggiamento in cui come dire si era dovuta costruire in qualche modo un metodo un sistema un procedimento di studi era andato molto al di là di quella indicazione ma credo che la curiosità e l'ampiezza del raggio e degli interessi fosse un elemento motore e ricordo che Donata Devoti faceva leggere nei sei corsi un testo come questioni di stile un testo in qualche modo come dire molto legato alla alla tradizione da cui veniva e da cui aveva saputo anche prendere le distanze diciamo uno storico dell'arte adulto ecco e uno dei problemi però per cui la scuola normale entrava in contatto con l'università di Pisa era un problema semplicemente fattuale cioè gli studenti della scuola normale si dovevano laureare all'università di Pisa e qui da parte di Enrico c'era per la squisitezza del suo poro e per la come dire bonomia dell'atteggiamento e l'apertura che gli era propria non c'era nessuna volontà di prevaricare c'era una capacità di entrare immediatamente in dialogo con tutti avrà avuto un giudizio probabilmente molto diverso sulle persone qualcuno forse potrà anche dirlo io non ho se non di alcune persone che non nominerò non ho come dire esperienza in questo senso però ricordo che diciamo i suoi studenti si sono laureati in rapporti più o meno buoni ma sempre con questa fortuna di sentire due campane e quindi di non essere nella condizione di iurare in verba magistri sempre e comunque si sono laureati con Donata Devoti ripeto con Gigetta Dalli Regoli con Anna Rosa Calderoni Masetti con Antonino Calecca mi sembra che nel periodo dell'università forse Antonino Calecca fosse la persona che aveva più stretti rapporti con Enrico ha scritto ad esempio diciamo in tante pubblicazioni diverse da quelle legate all'esperienza strettamente o meglio più propriamente pisana vero ha scritto nella pittura in Italia nel i volumi sulla seconda metà del 200 e del 300 il capitolo su Pisa e Lucca dunque con estrema apertura come dire nei riguardi di quello che si poteva ottenere di meglio nella situazione con un atteggiamento che anche questo credo sia legato all'apertura del suo percorso al mettersi in discussione o a mettere in discussione quello che aveva imparato un atteggiamento che anche certe volte è difficile trovare in persone forse tu già ne hai usato l'espressione più ortodosse o massimo no longhiani più ortodossi che c'è stata questa come dire capacità di dialogo che ha avuto dei grandi frutti io lascerei la parola da questo punto a quello che testimonieranno le persone direttamente interessate devo passare invece il testimone a Clara Baracchini perché nel rapporto fra Enrico e le istituzioni non universitarie pisane ma le istituzioni culturali e prima di tutto l'istituzione di tutela si sono anche concretizzati i progetti diciamo di argomento pisano o lucchese o comunque della zona sulla quale come testimone diretta io non ho partecipato a queste iniziative se non proprio verso la fine interverrà Clara Baracchi come si specifica nel titolo che mi è stato assegnato sono qui per parlare appunto e ricordare i cantieri pisani cantieri che hanno visto evidentemente Enrico molto sempre presente come cercherò di spiegare per cantieri pisani Marco già lo anticipava si intende ovviamente anche lucchesi perché all'epoca l'ente di tutela la soprintendenza aveva come territorio di riferimento tutta la Toscana occidentale e in particolare appunto Pisa e Lucca e vorrei cominciare proprio con l'esperienza lucchese perché quando Enrico è arrivato ufficialmente a Pisa istituzionalmente nell'83 a Lucca era partita da tempo ed era in piena attività un processo di affinamento della catalogazione del patrimonio ecclesiastico motivata dalla richiesta di aiuto che c'era pervenuta dalla Curia dalla richiesta di cercare di pensare di organizzare un museo diocesano con quella lieve ossessione verso la sistematicità che ahimè mi affligge e risposta a questa richiesta non ho pensato di fare di buttare giù un elenco di opere quelle note o di cercare una sede ho pensato di avviare all'epoca ero responsabile sia dell'ufficio catalogo che appunto della zona di Lucca di avviare un processo conoscitivo condotto fin dall'inizio in collaborazione con l'istituto allora era un istituto di storia dell'arte in particolare condonata a devoti che aveva portato quando Enrico è arrivato appunto già al censimento completo dell'arredo sacro e ci aveva consentito di avviare un primo approfondimento sulla produzione orafa in particolare nell'81 avevamo già avuto modo di dar conto dello stato delle conoscenze fin di raggiunte e avevamo con Donata organizzato questa mostra sulla produzione degli argentieri del diciottesimo secolo credo che mi scuserete per il ricordo personale un'immagine che mi accompagna da quel momento possa dare possa aiutare a capire come interpretavamo quel lavoro e anche quindi poi a capire come perché si sia creata un'immediata consentanità confluenza di interessi e di processi con Enrico quando è arrivato questa immagine è la vedo proprio metita seduta in una sacristia con davanti una sfilata di calici e questa sfilata era mobile perché continuamente andavamo lì no questo è prima questo è diverso questo viene qui questo viene là cosa significava questo significava che cercavamo di capire l'oggetto e di rispondere alle domande che l'oggetto portava anzitutto ma poi anche di capirlo all'interno della serie a cui apparteneva ma poi anche di cercare di capire quella serie all'interno del mondo a cui apparteneva quindi in poche parole si trattava di scomporre il territorio in unità sempre più piccole e minimali analizzandolo completamente analizzandole compiutamente ma poi si trattava di ricomporle questo approccio che come Marco accennava anzi in realtà ci veniva dalla scuola di Carlo Ludovico Raghianti e non per nulla era stato rodato sia in me che in Titta da una occasione di collaborazione con Oreste Ferrari da poco alla guida dell'Istituto Centrale del Catalogo occasione che veniva dall'avere Raghianti fondato a Pisa una scuola speciale per storici dell'arte che oggi probabilmente sarebbe un master credo in cui aveva chiamato come docenti i maggiori conoscitori delle tecniche artistiche e quella scuola era fatta per insegnare a catalogare quindi per rispondere a queste prime domande poste dall'oggetto e questo approccio dunque dicevo non poteva che essere del tutto consentanea quello di Enrico che per citare le sue parole era chiaramente avverso alla super selezione che fa di ogni opera un unico che dialoga attraverso il tempo e lo spazio con altri unici è stato detto autorevolmente da tutti quelli che mi hanno preceduto la caratteristica proprio sua era quella di non fermarsi all'attribuzione io non vedo alcuna contraddizione nel suo interesse per il singolo ma anche nel suo interesse per il contesto in cui il singolo agisce sarà anche per questo che io non ho ricordi di inviti formali che ci siamo scambiati siamo arrivati molto più tardi a formalizzare anche scusate con una convenzione istituzionale fra la scuola e la soprintendenza questo tipo di rapporto è nato così perché doveva essere così era nella natura delle cose noi interessava quello e lo facevamo anche istituzionalmente come un dovere primario per una soprintendenza Enrico anche interessava ci siamo trovati a lavorare insieme non so dirvi come perché era come dico un processo del tutto spontaneo e normale e ha portato negli anni a completare queste analisi e poi a presentarle come era doveroso nello stato conoscitivo in cui si trovavano via via nell'89 ci fu la mostra dei tessuti condonata poi quella delle oreficerie che riprendeva nel 91 e poi nel 93 gli indirizzi e le analisi e gli studi avviati fin dall'81 e poi quella delle sculture linee su via via e non ho un ricordo preciso di discussioni particolarmente accanite certamente non metodologiche magari su alcuni oggetti sì ma con questo non voglio certo dire che la frequentazione di Enrico Casenuovo non sia stata occasione di profondo arricchimento per me e per i miei colleghi ma era un processo anche questo spontaneo per osmosi che avveniva semplicemente parlando del più e del meno o andando ad ascoltare le sue lezioni o partecipando ai suoi seminari ricordava prima Lina Bolzoni quella invito rivolto a Maffei che fu io credo illuminante per molti versi per molti di noi ma certo non fu l'unico insomma quindi era l'aria che si respirava che in sé era un modo di crescere per tutti e Enrico ci fu ancora vicino quando questa volta con anche Massimo Ferretti si provò a fare il passo successivo e cioè quello appunto di non fermarsi alla ricostruzione della serie tipologica come fino a quel momento avevamo fatto arrivando invece a un tentativo di mettere in dialogo le tipologie le arti affrontando la ricostruzione per quanto possibile dell'intero tessuto storico artistico di un periodo delimitato e fu l'esperienza nel 2004 della Lucca di fine 400 con la mostra e il catalogo di Matteo Civitari ovviamente queste che ho ricordato non sono state certo le uniche iniziative che Enrico Castelnuovo ha preso sul terreno lucchese non sta a me parlarne volevo solo almeno ricordare le giornate del colore che insieme con l'istituto storico lucchese in particolare con Romano Silva e con poi con la costante collaborazione e partecipazione di Max Seidel ha avviato e che tuttora sembra si siano radicate e continuino volevo invece dedicare una menzione speciale a un'altra occasione di crescita collettiva che mi serve anche per ritornare su Pisa da Lucca perché fu appunto un esperimento di tenere unite le due culture artistiche e questa esperienza e questo cantiere è stata Nivio dei Marmori una si concretizzò in una mostra attenutasi a Sargiana nel 92 nacque da un'occasione probabilmente abbastanza balzana erano le celebrazioni colombiane ma comunque fu un modo per affrontare trovarci ad affrontare insieme alcune specificità alcuni temi che Enrico erano particolarmente cari in verità anche a noi consentendoci di tentare almeno un affondo sia sulle tecniche estrative che su quelle esecutive ma soprattutto di interrogarci sulle ragioni della scelta in un certo periodo e di uno specifico materiale e cioè il marmo il marmo apuano o il marmo in genere fu anche un modo per cercare di non far soffrire di nostalgia Enrico rispetto alle sue Alpi dal momento che il bacino centrale di questa esperienza erano le Alpi apuane di più non potevamo offrirgli evidentemente che comunque lui vide appunto come un territorio che aveva alle sue estremità i tre poli di Genova Pisa e Lucca un territorio quindi da esplorare in quanto tale come l'unigiana terreno fertile di incroci a lui cari e comunque un terreno da esplorare come dicevo prima per il materiale di queste montagne e ho visto che nei ricordi a lui dedicati è stato spesso messo l'accento giustamente sulla abitudine alla frequentazione reale dei luoghi che lui aveva e anche in questo caso di scarpinate ne abbiamo fatte molte rischiando il colpo di sole sull'isola d'Elba a cercare le tracce dell'escavazione del granito con Giovanna Tedeschi Patrizio Pensabene e soprattutto però arrampicandoci là dove c'erano i ponteggi sulle facciate delle chiese o comunque esplorandole con la guida per quanto riguardava l'aspetto geologico di Marco Franzini che fu un altro interprete di quella stagione e anche egli purtroppo ormai è scomparso cercando di capire sia appunto perché un certo materiale e non un altro perché Guglielmo usa il marmo a puano e Guidetto usa il calcare dei monti pisani ma ora non voglio entrarmi in questo comunque cercando di capire queste ragioni ma anche cercando e in quel caso avevamo la guida un grande conoscitore del marmo di Gigi Guadagnucci che si era prestato a seguirci in queste scorribande cercando di capire come era stata tirata fuori l'immagine dalla lastra c'era anche un'attenzione al non finito c'erano molte cose nel nostro programma come sempre non tutto è riuscito ad entrare poi nel catalogo ma credo che abbia dato comunque abbia lasciato traccia e stimoli in tutti quelli che avevano partecipato all'impresa ma per venire a Pisa ancora una volta vorrei lasciarmi guidare da due immagini vive nella mia memoria una coinvolge Antonino Calecca che vedo qui davanti a me perché non appena Enrico si affacciò a Pisa credo prima della sua istituzionalizzazione come docente della scuola praticamente noi due lo assalimmo chiedendogli il suo aiuto e ho questa immagine credo in un ristorante fiorentino di me di Antonino che gli si spiegava il terribile pasticcio museale in cui eravamo messi a Pisa in quel momento chiedendogli di entrarci con tutta la sua eroenza e capacità e l'altra immagine coinvolge invece Paola Barocchi perché mi vedo proprio insieme con loro in Camposanto a guardare questi corridoi orrendi deserti e sporchi con gli affreschi appoggiati al muro all'incontrario insomma un disastro totale e di nuovo eravamo a chiedere di venire di aiutarci a crearlo questo cantiere fisano e ci hanno aiutato entrambi quello che vi devo annoiare con un paio di precisazioni quello che ci trovavamo davanti come compito e quindi da qui la richiesta d'aiuto era da una parte la necessità di cogliere una grande opportunità perché si stava per realizzare il museo dell'opera del Duomo c'era in corso un accordo fra il ministero e l'opera per una ridistribuzione delle collezioni che scultore in particolare che quindi consentisse di riparare a certi assurdi per cui per dire la Madonna di Arrigo stava esposta e la Pisa no era nei depositi dell'opera ma insomma c'erano situazioni assolutamente assurde che andavano risistemate e però appunto non era banale decidere come e dove dovevano essere collocate e dall'altra parte avevamo appunto come l'immagine che prima citavo evocava l'urgenza di intervenire sul Camposanto e non solo per il restauro degli affreschi che pure era un bel problema e non solo perché era ormai venuto il tempo di porre un rimedio all'altra gravissima situazione di dispersione in cui giacevano i monumenti ottocenteschi ma anche seicenteschi stavano in pezzi sotto l'erba in quello stretto corridoio fra i capannoni dietro il Camposanto e le mura oppure stavano felicemente a fare da spartiacque alla carrozzina i pisani sanno tirata da Gagarin celebre cavallino poni al giardino scotto oppure erano tranquillamente al cimitero suburbano ma insomma qual più qual meno nessuno di loro certo stava bene altri erano dispersi depositi alcuni erano tornati negli Atenei insomma un disastro ma ancora più problematico e soprattutto in questo ci serviva una convergenza di interessi e di studi ancora più problematico per il Camposanto era decidere che cosa volevamo farne quale dei mille volti che aveva assunto volevamo cercare di ripristinare e se era giusto cercare di ripristinarne uno o un altro e se era possibile e come cercare di mantenere almeno la memoria di quella ragnatela la definiva Enrico immateriale che lo circondava e che era costituita dai ricordi dalle evocazioni dalle raffigurazioni che nel tempo lo avevano riguardato per finire poi con il grosso problema di cosa fare delle collezioni di antichità e di scultura medievale che vi erano stati ordinati nel momento della sua volto museale anche in questo caso se vogliamo si trattava quindi per tornare all'esempio di prima di individuare in questo marasma le unità minime da indagare ma si trattava poi appunto anche di ricomporle ora credo sia evidente a tutti che questo non poteva essere un compito né che si potesse svolgere in autonomia come ente di tutela ancorché diciamo al momento ricco anche di risorse mentali e finanziarie più di adesso di sicuro né si poteva aspettare che gli studi procedessero da soli in quella direzione ci voleva una spinta Enrico Castelnuovo e Paola Barocchi hanno raccolto questo appello e è partita una stagione di studi che prima Lina Bolzoni ricordava di seminari di convegni che aveva anche portato e questo forse molti neppure a Pisa lo sanno salvo i diretti interessati aveva anche portato alla gestazione e alla stesura di un progetto che era stato sottoposto agli enti locali alla regione toscana e al comune di Pisa in particolare che prevedeva una serie di mostre una serie di convegni naturalmente e una serie di restauri ci erano state delle e si parla dell'83 credo 83 la consegna ufficiale fu fatta nell'83 e poi formalizzata ho trovato una lettera con protocollo del gennaio 84 ci erano state grandi riunioni che avevano visto e qui forse abbiamo fatto anche un po' da tradunione avevano visto insieme la scuola i docenti della scuola e i docenti dell'istituto di storia dell'arte e quelli di archeologia perché Settis era ancora direttore dell'istituto di archeologia in una di queste documentazioni ho trovato anche l'istituto di Bologna perché anche Massimo Ferretti veniva chiamato a fare la sua parte in questo processo di studi purtroppo non è stato mai finanziato quindi non so neppure se l'hai saputo mai ma Ciri in spirito quantomeno e comunque ci fu tutta questa serie di riunioni e ne uscì come dicevo questo progetto questo progetto aveva alcuni punti fermi credo piuttosto innovativi per l'epoca non lo so non era nostro problema sapere se eravamo o no degli innovatori ci sembrava semplicemente buonsensualmente quello che c'era da fare uno era che il momento della produzione dell'opera doveva essere indagato accanto a quello della ricezione e quindi dovevano essere ricostruite sia la storia interna delle opere considerate sia la storia esterna sfortuna critica diaspora dei luoghi di originaria collocazione ripresa della fortuna dispersione sul mercato antiquario approdo in collezioni raccolte private e pubbliche l'altro punto fermo era che alle indagini condotte dunque su opere e su documenti dovevano sempre essere affiancati gli opportuni restauri necessari per fermare il degrado ma anche per capire meglio le opere guardandole più da vicino e che infine gli esiti era previsto che confluissero da una parte in mostre e dall'altra però sempre anche in seminari convegni pubblicazioni quanto alle mostre si precisava già che devono essere articolate non solo in sedi espositive chiuse museali o meno ma anche in itinerari perché uno degli obiettivi che si cercava di raggiungere era anche quello di staccare la percezione della scultura medievale dalla dalla situazione di bel frammento in cui era stata portata anche per responsabilità delle campagne fotografiche forse era qui che si doveva inserire la collaborazione in particolare di Massimo Ferretti che avevano abituato a percepire queste sculture staccate dall'organismo architettonico per il quale erano state create e sul quale avrebbero dovuto tornare in originale o in copia questo era un altro problema ancora dunque questo progetto che immagino molti di voi staranno pensando che è stato assolutamente pazzesco e ingenuo presentare a una regione o a un comune nella speranza che venisse effettivamente finanziato questo progetto in effetti non fu finanziato e ci fu soltanto una minimale assegnazione di fondi iniziale e ancora le ho portate per futura memoria le cartelline con scritto le pietre di Pisa questo era il titolo che avrebbe dovuto assumere il tutto e ci furono comunque al di là del titolo e delle cartelline ci fu il finanziamento di due incontri sempre sul Camposanto e sul problema uno sul problema museografico e l'altro più sul restauro che non a caso erano entrambi introdotti e o chiusi di nuovo da Paola Barocchi Enrico Castelnuovo e Roberto Ciardi che per la parte dell'istituto era attivissimo in tutta questo progetto non avevo pensato di riferirvi anche nello specifico quali fossero i temi che le mostre dovevano trattare e i seminari o quant'altro ma il tempo occorre e non credo che del resto sia come dire più di attualità vorrei invece dire due cose per chiudere e cioè che buona parte di quegli studi è stata effettivamente ha trovato comunque un suo sbocco buona parte dei restauri previsti e richiesti hanno trovato un loro finanziamento gli sbocchi che hanno trovato gli studi non sempre sono specificatamente legati al Camposanto e sono anche confluiti in studi assolutamente autonomi e mi piace solo pensare che in qualche modo quei seminari quei colloqui ne siano stati in qualche misura anche all'origine e forse benché gli studi siano stati ripeto tanti e numerosi non tutto quello che allora era stato anzi senza forze non tutto quello che allora era stato pensato progettato anche nel dettaglio è stato effettivamente realizzato vorrei lasciarlo come testimone per l'avvenire sperando che qualcuno lo raccolga perché effettivamente quegli studi ancora devono essere completati Enrico ha comunque continuato anche in assenza nell'impossibilità in assenza di finanziamenti di portare avanti quel progetto ha continuato nella sua sostegno e collaborazione con la soprintendenza e si è arrivati citerò soltanto questo alla mostra sulla scultura linea alle sacre passioni in cui di nuovo lui era stato uno dei sostenitori e a testimonianza di quanto io personalmente ma anche la città di Pisa dovrebbe essergli grata e l'opera della primaziale anche dovrebbe essergli grata vorrei solo ricordare il ciclo di conferenze che Enrico fece per tutta Italia con una fatica immensa sul Camposanto per sollecitare proprio l'opinione pubblica su questo problema e sono conferenze che lui amava chiudere per sottolineare la orrenda decadenza che quella crown and glory of Pisa aveva subito amava chiudere con la citazione della burocratica prosa dell'elenco dei luoghi mirabili d'Italia leggo chiesa cimiteriale monumentale di metri 44 per 127 di proprietà dell'opera del Duomo attualmente usata come museo localizzata nella città di Pisa fa parte di un complesso storico omogeneo situato in ambiente urbano degradato e quando è fantastico ma la cosa più divertente che nessuno sa questa è una confessione è che se capitava che io fossi presente mi guardava di sottecchi perché la responsabile di questo orrore sono io ma del tutto incolpevole perché ci arrivavano le caselline da riempire uno ci metteva le crocette il risultato è quello che avete visto e lui si divertiva molto e io sono convinta che una delle ragioni del suo impegno Pisano sia anche stata la possibilità di continuare a prendermi in giro finché ci siamo frequentati grazie dando appuntamento per le tre avverto che ci sarà uno spostamento nel montaggio delle testimonianze nel senso che Fabrizio Crivello anticiperà i gatti di Maurizio Gerardi i gatti si lamentano no non ho capito invece no l'appuntamento non è alle tre ma ci si trova nella sala qui davanti di Gran Priore ecco benissimo quindi potremmo continuare grazie 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 e si comincia con quello che era e parla Maurizio Gerardi grazie per l'organizzazione di questa giornata naturalmente io non sono mai stato uno storico dell'arte medievale però vorrei partire da un ricordo ed è quello che riguarda il perché io ho conosciuto Enrico a metà degli anni 80 dopo una delle ultime lezioni di Eugenio Garem andai da lui e gli chiesi e adesso professore che lei va via cosa faccio e lui mi disse vada da Enrico lì per lì rimasi stupito di questa cosa conoscevo Enrico come uno storico medievale ma non certo come una persona che poteva astrettamente almeno interessarsi a quello che io stavo facendo bene andai da Enrico il nostro rapporto è durato quasi 30 anni 30 anni soprattutto di affetto di amicizia e di discussioni discussioni infinite che partivano sempre da uno dei luoghi privilegiati di Enrico che io condividevo anche se diverso nella lingua cioè la Svizzera Enrico i ricordi di Lausanne e io il lavoro sull'edizione Burkert a Basilea questo era un terreno comune che ci permetteva spesso di ironizzare sugli Svizzeri e allo stesso tempo qualche volta anche di invidiali per certi aspetti dell'organizzazione del lavoro e delle possibilità questa amicizia è durata 30 anni e si è sviluppata in molti aspetti gli inviti nella bellissimo chalet a Cortina con mia moglie dove uno chalet dove si concentravano la sera gli ospiti di Cortina ricordo di aver conosciuto lì Cesare Segre e la sua giovane ancora non moglie ma giovane compagno l'incontro alla Rocca del Mar in estate sotto Follonica dove lui passava le vacanze e dove uno degli argomenti principali di discussione erano le intemperanze di Paolo Fossati difeso a spadatratta da Enrico e criticato aspramente da Delia dal cui ricordo è impossibile staccarsi Delia si arrabbiava perché Paolo era un po' pirichino però si parlava di libri anche con Paolo che spesso veniva a Pisa Paolo che si definiva un anarchico conservatore ma che era una delle persone più straordinarie dal punto di vista editoriale che io abbia mai conosciuto una persona che non esistono più queste persone secondo me una persona che sapeva cosa fare dei libri e soprattutto sapeva cosa si doveva scrivere questa amicizia naturalmente era solcata dalle settimanali frequentazioni la sera a casa a cena con mia moglie Enrico veniva almeno una volta la sera a cena quando era a Pisa e qui entro nei gatti la prima cosa che faceva entrando era mettersi a quattro zampe e miagolare ai miei due gatti e stabiliva un colloquio se fosse vivo ancora tra di noi gli avrei fatto volentieri un regalo in Giappone è uscita una macchinetta che trasforma il mia moglie dei gatti in parole sarebbe stato un regalo adatto a dirvi però non solo questo naturalmente c'era c'erano anche altri due aspetti c'era il lavoro il lavoro di ricerca Enrico mi aiutò moltissimo nel 91 nel pubblicare il libro su Burkhart anche se poi quando uscì mi disse una cosa che si rivelerà poi negli anni quella giusta di Buon Profeta mi disse hai pubblicato questo è uscito il libro perché che gli regalai una copia personale con una dedica mi hai fatto un grande errore dico perché dovevi pubblicarlo a 50 anni adesso sei fregato beh aveva ragione devo dire che aveva ragione aveva ragione anche se allora non percepivo questo cioè non percepivo che questa sorta di canale solcato dall'acqua che passava dentro questa istituzione e che metteva in comunicazione le discipline cioè che erano sì la storia dell'arte medievale sì l'archeologia classica sì la storia della filosofia di Garena ma che in realtà erano collegate da come una sorta di arcipelago collegato da canali e ognuno di noi poteva nuotare in questi canali poteva avvicinarsi e poteva stare nel mezzo di questi canali e poteva lavorare in questi che erano non meramente degli interstizi ma delle forme di comunicazione che si stabilivano fra le diverse discipline Wächter der Grenze diceva Warburg attenzione ai guardiani dei confini attenzione credo che Enrico a questo mirasse nel nostro rapporto e nel nostro rapporto entrò il seminario su Hoizinga dove gli piaceva tanto ripetere una cosa al di là di tutte queste discussioni che si fecero allora su Hoizinga Borghurt l'idea di rinascimento eccetera eccetera c'era una frase che aveva colpito sia me sia lui l'autunno del medioevo dopo una lunga descrizione della vita medievale che Zinga scrive e poi tutti i giorni pioveva questa cosa era una cosa per me per Enrico straordinaria come di fronte rispetto a tutto questo quadro enorme della cultura borgognona poi tutto si risolvesse in un'osservazione meteorologica cioè che era qualcosa non solo di spiritoso ma anche di culturalmente ideale e poi il lavoro su Panoschi la prefazione scritta a quattro mani per il volume sul significato nelle arti visive tutte queste cose che e la collaborazione all'indice tutte queste cose che diciamo così somigliavano a questi canali che passavano tra queste discipline allora presenti alla scuola normale e poi la cosa a cui forse tengo di più in un momento di grande difficoltà editoriale di rapporti con Einaudi ebbi l'idea di fare una raccolta di scritti di Enrico io non ho mai firmato nulla di questa raccolta non ho mai voluto fare nulla ho fatto soltanto il lavoratore che ha pendolato tra Pisa e Viareggio in estate e Pisa e Torino poi in autunno a costruire un indice che Enrico cambiava ogni volta facendomi impazzire Enrico avrà cambiato dieci volte l'indice della cattedrale Tascaria e tutte le volte io dovevo naturalmente sorbirmi i rimproveri dell'editore la quale mi obiettava sempre ma insomma mettetevi d'accordo finalmente uscì il volume volume dove c'è anche questa voce attribuzionismo citata da Gianni Romano stamattina ci fu la presentazione a Torino cui c'era anche Massimo poi ci fu una cena dopo solo che era talmente tanta la gente che a un certo punto saltò la corrente elettrica e tutti andammo nel panico soprattutto Deglia perché aveva un coscio di aniello nel corno e temeva che tutto andasse in malora tutto questo contemporaneamente accadeva mentre Gianni Romano mi dispiace che si è andato via e altri amici intonavano canzoni alpine in una parte della sala di Enrico con questa casa totalmente al buio piena di candele poi rimessa dopo mezz'ora in piedi grazie a un amico ingegnere di Enrico un'ultima cosa un'ultima e due cose l'ironia di cui si è detto e il riso di Enrico l'ironia su tutto l'ironia produttiva non il sarcaso l'ironia che insegnava a dubitare delle cose e che rideva del fatto che nel nostro mondo spesso ci sono troppi re e imperatori questa presa di distanza questa forma di quasi di voler congelare le autopromozioni individuali questa forma che peraltro non indulgeva mai ad una confessione non esistenziale vedete una volta trae nello studio mi vive un po' abbacchiato mi disse ma te sei depresso qualche volta dico certo ah meno male cioè questa fu l'unica spia spia che mi fece capire che Enrico in fondo dietro questa ironia dietro questo riso era anche una persona malinconica era anche una persona che aveva come dire un senso della vita più profondo di quello che noi possiamo immaginare attraverso i suoi scherzi le sue battute l'ultima volta che l'ho visto eravamo a Parigi avevo insistito moltissimo nel nel fatto che lui concludesse il convegno su Chastella cosa che fece passammo insieme la sera l'ultima sera lunga che abbiamo passato insieme perché poi l'ho rivisto a pezzi e bocconi era morta da poco Delia Delia che malgrado tutto nonostante le grandi litigate il fatto che chiamavi Enrico Enrico rispondeva e poi a un certo punto si sentiva da fondo Enrico perché stava troppo al telefono cioè con Delia che aveva questa specie di urlo berluino che ebbene l'ho visto stanco l'ho visto stanco l'avevo visto stanco e in qualche modo felice per i nipoti loro erano due ma stanco stanco un po' di tutto stanco delle cose e anche della vita io credo che e voglio chiudere questa cosa Enrico sapesse come gatti il suo terzo nome che forse abbiamo intuito ma che lui non ci ha mai detto grazie applausi dunque non vedo ah eccola rimane in control luce buonasera grazie a tutti gli organizzatori di questa giornata così piena di ricordi emozioni e pensieri e intanto vorrei dire che per me non è solo naturalmente una grande gioia essere qui oggi un modo anche per ringraziare ancora la generosità anche verso di me che non era una sua allieva diciamo diretta Enrico ha sempre dimostrato proverò anche a ricomporre un momento della sua vastissima attività intellettuale cioè quella della storia della storia dell'arte che se vogliamo ha sempre costituito un filo rosso delle sue ricerche e forse si è intensificata proprio negli anni pisani lo ricordava anche Fabrizio prima e rileggendo le sue cose secondo me uno dei paesaggi più belli e importanti è quello che ha il titolo mutuato da Raymond Carver di cosa parliamo quando parliamo di storia dell'arte e che è una specie di manifesto inaugurale della sua cattedra proprio qui alla scuola normale infatti fu elaborato a Cortona nel tardo 1982 e con quella levità cristallina che gli era propria Enrico vi tesseva tutti i possibili percorsi che la nostra disciplina può prendere e la frase chiave che credo vi si incontri è di cosa vogliamo fare storia quando facciamo ah scusi di cosa vogliamo fare storia quando facciamo storia dell'arte cioè fare storia dell'arte equivaleva per Enrico a fare storia eppure era vero anche il contrario cioè fare storia non poteva prescindere dal fare storia dell'arte e in quel saggio Enrico insisteva sul concetto di stile partendo da Winkelmann poi attraverso Wölfling per mettere in guardia dai pericoli di un formalismo astratto che si tenesse troppo lontano dall'opera dalle opere e in quel saggio c'erano due lunghe citazioni entrambe di Fossillon di cui Enrico additava ad esempio il metodo cioè un'analisi che prendesse in carico la mutevolezza delle tecniche le diverse velocità dei fenomeni artistici la asincronia che si verifica nella storia tra esperienze artistiche e mutamenti sociali insomma come se Fossillon anche Fossillon indicasse a Castelnuovo quella complessità e molteplicità propria del fenomeno artistico che il critico si deve sforzare di restituire in ogni sua sfaccettatura e in quel saggio Castelnuovo suggeriva però anche allo storico dell'arte di porsi una seconda domanda cruciale cioè da che punto di vista facciamo storia o storia dell'arte cioè Castelnuovo aveva la capacità di guardare alla storia i suoi fenomeni artistici attraverso l'occhio del presente una capacità critica nel senso più pregnante di questa parola per cui i problemi archeologici attraverso questa operazione prospettica divenivano improvvisamente attuali e la necessità di prendere le distanze dal fenomeno studiato non credo che corrispondesse a una ricerca di obiettività perché Enrico era troppo intelligente per non capire che questo era impossibile ma al contrario valeva come espressione di una massima onestà intellettuale cioè come la dichiarazione della consapevolezza di essere comunque coinvolti insomma come un atto di prudenza e di onestà e se vogliamo questa volontà di osservare la storia con uno sguardo consapevole laterale in qualche modo estremamente problematico era come il riflesso metodologico tra virgolette della sua grande dote umana più volte evocata oggi cioè l'ironia e l'autoironia anche no quella ironia che per restare all'argomento gli faceva trovare la prosa di Fosion bellissima ma anche un po' retorica un po' impostata come in effetti è e come già il suo maestro Roberto Longhi aveva colto leggendo il Piranesi pur apprezzandolo sinceramente questa passione per un'interpretazione però un'interpretazione sempre vigile è proprio quanto mi affascinava di più nel pensiero di Enrico nei suoi scritti che io trovavo sempre in tessuti di precisi riferimenti cronologici posti tra parentesi che servivano a dare ossatura storica al discorso nei suoi seminari nelle lunghe conversazioni individuali e allora cosa poteva esserci di più stimolante sotto questo aspetto che studiare un uomo cercando di interpretarne il pensiero e la multiforme opera quindi se ripercorro oggi i nostri dialoghi intorno a Fosion affiorano alcuni elementi ricorrenti di discussione sempre però presi fluttuanti in un fitto turbion di divagazioni letterarie di ricordi personali di mille immagini e in più di un'occasione Enrico Castelnuovo ha raccontato il suo incontro con Fosion nell'intervista rilasciata ultimamente a Michele Tomasi Enrico afferma di averlo letto già nei primi anni 50 quando era studente di Anna Maria Abrizio a Torino questo dettaglio secondo me non è da poco perché oltre alle opere medievali è probabile che l'Abrizio stessa avesse suggerito la lettura di un altro opus magnum del francese ovvero quella storia della pittura di 8 e 900 pubblicata nel 27 e 28 che lei stessa allieva di Lionello Venturi grande ammiratore di Fosion aveva peraltro recensito con entusiasmo sull'arte chissà forse più chi allonghi è proprio a lei che si deve il primissimo incontro di Castelnuovo con Fosion oppure invece Enrico così attratto dalla cultura francese vi arrivò da solo non lo so sta di fatto che oltre al Fosion mediavista Castelnuovo doveva conoscere anche l'appassionato studioso di arte moderna attraverso cui peraltro il francese leggeva la scultura romanica e credo che con entusiasmo Enrico avrà letto le pagine dedicate al pittore moderno con cui per la prima volta si era confrontato ovvero con Cézanne in occasione della mostra Leuser di Firenze del 45 quel maestro in cui Fosion leggeva l'antinomia stessa dell'impressionismo l'ossessione dell'eterno nella fantasmagoria dei fenomeni e infine il rinnovatore dell'arte del novecento va detto che attorno al 1982 Enrico si era introdotto a Parigi in quella che lui chiamava la chapelle clandestine degli allievi di Fosion una sorta di gruppo carbonaro capitanato da Chastel che allora insegnava l'école pratique escluso dall'ambiente accademico della Sorbona questo gruppo di studiosi si riuniva i mercoledì sera a Villa Virginie a casa di Jurgis e L'Embaltrusaitis che era poi la figlia adottiva di Fosion Enrico mi raccontava di quegli incontri che ricordava sempre con allegria e grande interesse mentre invece le lezioni di Pierre Lavedan all'anfiteatro della Rue Michelet gli avevano fatto l'impressione di un mortorio come dice esplicitamente col tempo io riuscivo a immaginare con vivezza a quelle riunioni avendo avuto la fortuna di frequentare casa Baltrusaitis e soprattutto di conoscere l'amabilità di Hélène a quegli incontri partecipavano tra gli altri anche lui Grodechi e Charles Sterling due figure che chiaramente rivestiranno un ruolo fondamentale per il percorso intellettuale di Castelnuovo sia per il gotico internazionale le vetrate e i primitivi ecco da questi ex allievi dal loro concreto operato Castelnuovo assimilò alcuni cardini del proprio metodo di indagine ad esempio l'attenzione per la specificità delle tecniche per la relazione strettissima che queste stabiliscono con gli stili cioè Castelnuovo iniziava a mettere a fuoco la figura di Fosillon e il suo portato non soltanto leggendone le opere principali ma ricavandone una viva impressione dal ricordo e dall'eredità di quegli allievi e credo anche che gran parte dell'ammirazione nutrita per Fosillon risedesse anche in quella capacità del francese di riuscire a essere creato aver creato scusate un gruppo di studenti ognuno con le proprie inclinazioni ma che Fosillon riusciva a tenere coeso proprio grazie a una guida mai perentoria sempre interlocutoria e scaldata da una grande umanità Fosillon tenne conto anche delle storie private di ogni suo allievo e si prodigò moltissimo per quelli che negli anni bui del nazismo e della guerra si trovarono in grave difficoltà se non in pericolo e questo Enrico lo sapeva bene credo cioè che ci fosse in lui un'ammirazione per un uomo che seppur non conosciuto personalmente viveva ancora nei ricordi di chi lo conobbe e credo anche che questo modello di relazione con gli allievi Enrico lo avesse in certo qual modo replicato guardando chiaramente a Roberto Longhi ma forse anche a Fosillon stesso quindi quando Enrico arriva a Parigi e comincia a prendere parte a quelle riunioni stava uscendo proprio l'edizione postuma dell'anno 1000 il manoscritto elaborato attorno al 39 da Fosillon è un manoscritto che doveva servire da introduzione storica a un grande progetto collettivo purtroppo lasciato incompiuto dedicato all'arte dell'undicesimo secolo viene da pensare che nel libro dell'anno 1000 Enrico potesse anche sentire verberare un modo di fare storia che come dice lui lo aveva folgorato da giovane studente ovvero quello della società feudale di Mark Bloch pubblicato proprio nel 39 non sappiamo con certezza se Fosillon lo avesse letto anche se ci sarebbe da stupirsi del contrario ma è chiaro come alcuni elementi fondanti del libro di Bloch ritornino nei corsi che proprio tra 38 e 39 Fosillon conteneva il Collège di France prima di essere epurato e che avrebbero anch'essi dovuto confluire in quel libro postumo cioè un'innovativa idea positiva dell'undicesimo secolo come una fase in cui proprio dalle paure apocalittiche si faceva lentamente strada una presa di coscienza dell'Occidente come diceva Fosillon una civiltà comune basata sui valori umani quei valori che andranno a costituire ciò che ancora anche se con grande fatica continuiamo a individuare come patrimonio culturale dell'Europa la fonte a cui si abbeveravano sia Bloch che Fosillon erano gli scritti di Pirenne con cui Fosillon stessa aveva collaborato nel 32 in particolare la sua opera incompiuta quella Histoire de l'Europe che lo storico aveva scritto durante la prigionia in Germania tra il 17 e il 18 e che certo segnò profondamente la generazione successiva degli storici francesi non è casuale dunque che alla fine degli anni 30 Fosillon si dedicasse alla questione dell'anno 1000 lo spettro del nazismo si era allungato sul continente con le sue mitologie spaventose trascinandosi dietro l'immagine apocalittica di una guerra planetaria e in quel libro Fosillon avrebbe voluto interrogarsi sul ruolo metaforico del millennio e dei suoi terrori con un'analisi quanto mai ampia la tematica gli permetteva di immaginare la rappresentazione letteraria e artistica di un'apocalisse storica e al contempo di introdurre nell'inchiesta questioni come lui le chiamava di psicologia collettiva studiando cito la vasta regione indeterminata degli istinti delle credenze e dei movimenti che mettono in opera non l'individuo ma le folle ecco penso che questa apertura del Fosillon Tardo alla storia delle mentalità concepita come premessa necessaria a una ricostruzione dei movimenti artistici e che possiamo leggere bene nell'anno 1000 abbia incuriosito se non affascinato Castelnuovo offrendone un elemento in più per comprendere quanto l'etichetta di storico dell'arte strettamente formalista fosse per lo meno restrittiva per una mente così sfaccettata e ricordo tra parentesi che quando ne parlavamo chiaramente il nome di Oisinga oltre a quello di Michelet venuto fuori più volte il primo saggio di Castelnuovo su Fosillon comparve nel 72 come prefazione a scultura e pittura romanica in Francia seguito da Vita delle forme erano gli anni di Lausanna quelli marcati dai primi interessi per gli aspetti sociologici dell'arte in cui lo studio storico si arricchiva anche di una prospettiva geografica lo studio del Medioevo risentiva di questi interessi che ancora una volta trovavano una sollecitazione anche nelle opere di Fosillon di quel Fosillon che grazie a Kingsley Porter e a Puigica da Falck aveva ribaltato la lettura evolutiva di stampo archeologico per disegnare una geografia una geografia appunto dell'arte romanica e gotica francese fatta di relazioni e di scambi complessi più che di scuole regionali o di meccaniche influenze allargandosi così a una dimensione europea vi erano poi le questioni di metodo e di metodo operativo che ancora una volta Castelnuovo riusciva a ricondurre su un più ampio e fine piano storiografico per esempio quando faceva notare l'importanza determinante della campagna fotografica che Fosillon aveva fatto condurre sugli originali per il libro del 38 dedicato alle pitture romaniche delle chiese di Francia e tra l'altro autore di quelle foto era stato un geniale fotografo Paul Devinois che 15 anni dopo sarà ingaggiato da Yves Bonfoy per il suo volume sulle pitture murali gotiche che era stato concepito come una continuazione del libro di Fosillon un libro cardine di una certa critica letteraria francese che Castelnuovo recensì prontamente su Paragone quindi in questi anni si delinea per Enrico anche il tema dell'artista medievale e chiaramente se una grande suggestione dovette giungerli dalla leggenda dell'artista di Cris che poi come sappiamo curò nell'80 però se guardiamo per esempio al discorso di insediamento come professore a Losanna del 70 quindi si comprende bene che l'interesse di Castelnuovo non era tanto rivolto allo statuto dell'artista alla sua aura straordinaria quanto alla ricostruzione di quella che Enrico definiva storia materiale apertis verbis della figura dell'artista ovvero la ricostruzione delle condizioni concrete dell'attività e del lavoro dell'artista sono tutti temi centrali in Fosion soprattutto nel particolare interesse per le tecniche e per l'outillage dello scultore e del pittore medievale tuttavia affrontando questo argomento era naturale imbattersi anche in un'altra figura di storico dell'arte medievista che nelle mie discussioni con Enrico è sempre venuta fuori insieme a quella di Fosion cioè Meyer Shapiro e quindi più volte con Enrico abbiamo parlato dell'incomprensione delle divergenze anche fortissime che si erano originate tra Shapiro e Fosion proprio nel 35 quando Shapiro aveva pubblicato una ferocissima recensione come era nel suo stile peraltro lucidissima attaccando l'arte degli scultori romanici e il contemporaneo libro di Balthusaitis dedicato alla stilistica ornamentale opere che venivano bollate da Shapiro come l'esempio dell'Eterio di una lettura della scultura romanica letta appunto attraverso i canoni delle avanguardie post-sesaniane l'osservazione di Shapiro era molto acuta però bisogna dire che non teneva conto delle differenze fondamentali tra il libro di Fosion e quello dell'allievo uno degli aspetti più deboli dell'inchiesta di Balthusaitis era infatti la riduzione della scultura romanica a un sistema di valori ottici a una lettura biologica e schematica che in Fosion era invece cosa assai più complessa ecco discutere con Enrico di questo incontro scontro tra i due giganti della storia dell'arte medievale mi sollecitava a indagare con mente sgombra una relazione tra i due che almeno all'inizio abbia invece molti elementi condivisi sia sul piano teorico che metodologico e cioè la comune antipatia per le questioni archeologiche e quindi l'approdare una lettura formale della scultura considerando il romanico come uno stile ben individuato Fosion era arrivato a individuare alcune modalità strutturali di formazione dell'immagine in adattamento al contesto architettonico e a riflettere sui modi di trasmissione del repertorio formale entro il corso della vita degli stili Shapiro da parte sua nei suoi bellissimi saggi su Silos su IAC faceva sue molte di quelle analisi eppure ne comprendeva il limite e si dava l'obiettivo di allargare lo sguardo sull'elemento centrale quello delle potenzialità espressive della forma e dei suoi meccanismi informativi e certo io credo che anche Shapiro naturalmente oltre a Pierre Bourdieu abbia costituito un riferimento essenziale per Castelnuovo per elaborare insomma la sua nozione di contesto o di campo nell'analisi storico-artistica d'altronde Castelnuovo aveva capito perfettamente che la multiforme opera intellettuale di Fosillon era sostenuta da uno stesso pensiero organico e cioè che le ricerche sul campo della scultura romanica erano la premessa per le riflessioni teoriche di vita delle forme e di fatto nella sua prefazione le questioni medievali erano velocemente liquidate e Enrico passava decisamente a affrontare i nodi di quel piccolo ma fondamentale libro del 34 mettendo in luce moltissimi elementi di novità suggestioni che testimoniano la straordinaria finezza e perspicacia con cui Castelnuovo si era calato nella rilettura di quel testo denso ma brevissimo questo si avverte particolarmente bene nella seconda versione della prefazione che Enrico stende nell'87 15 anni dopo e dichiaratamente lo dice spessamente forte anche dei suggerimenti che gli erano stati offerti da Grodechi e in questo modo vengono rivalutati alcuni scritti tardi di Fosillon dedicati a rapporto sempre problematico tra arte e società scritti che risalgono al 37 cioè a quella Francia che era dominata dal pensiero ancora dominata dal pensiero di Durkheim promosso appunto dalla politica culturale del fronte popolare e la stessa questione del rapporto tra il dinamismo delle forme di Fosillon e il vitalismo di Bersant che era un parallelo che fin dalle primissime recensioni del 34 era stato avanzato Castelnuovo lo reindagava e lo ridimensionava saggiamente nei corretti termini di un cito portato dell'air du temps piuttosto che una cosciente scelta di metodo cioè Castelnuovo dava onestamente conto poi di una testimonianza di Grodechi il quale raccontava di quanto in Fosillon le preoccupazioni maggiori non fossero di ordine psicologico ma bensì storico in senso stretto e di come il maestro si burlasse di una certa critica impressionista generata proprio dal pensiero di Bersant taglio un po' perché non voglio annoiare questo spunto critico di importanza fondamentale per la comprensione dello storico dell'arte francese Castelnuovo lo condensò in mezza pagina ma utilizzando parole che spingevano a indagare in quella direzione e a battere vie sino allora ignorate è grazie a questo stimolo di Enrico che oggi possiamo avere un quadro abbastanza chiaro di quella relazione intellettuale tra Bersant e Fossillon anche alla luce di testimonianze d'archivio che ci raccontano di un percorso che nel tempo mutò e maturò e cioè dall'iniziale entusiasmo del giovane normalian per il filosofo che asseriva Fossillon ci ha liberato dalle secche del positivismo ponendo al centro di ogni inchiesta le idee di libertà e di azione Fossillon nel tempo sviluppa una personale critica allo spiritualismo intendendo la forma proprio come estensione come spazio governata da strutture e leggi proprie che per essere comprese esigono discernimento e analisi insomma la forma come opera d'arte concreta avviandomi a concludere secondo me dobbiamo chiederci perché Castelnuovo avesse deciso intorno alla fine degli anni sessanta di ripresentare al lettore italiano vita delle forme nella traduzione di Sergio Bettini quel Sergio Bettini che è molto aveva coadiuvato Diego Valeri per la prima edizione del libro che era uscita nel lontano 1945 per l'editore Le Tre Venezie e perché questa riproposta alla fine degli anni sessanta in una fase cruciale della cultura italiana va detto che il 1945 era stato un anno chiave per la ricezione di vita delle formini in un'Italia ancora fortemente marcata dall'idealismo di croce in quest'anno infatti uscivano due traduzioni parallele del libro di Fosion quella di Bettini ma anche un'altra curata dal filosofo ed attivista socialista Adelchi Baratonon per l'editore minuziano di Milano Baratonon che leggeva quel libro in una prospettiva cito di puri valori formali dalla pura forma di un oggetto alla forma pura di un'idea in quello stesso anno uscivano tra l'altro anche gli aforismi di Fiedler nell'edizione tradotta da Rossana Rossanda e curata da Antonio Banfi il quale stabiliva un preciso rapporto tra il tedesco e lo storico dell'arte francese cinque anni dopo nel 50 Ragghianti stavolta leggeva la vita delle forme come l'approdo di un Fossillon maturo alla sistematica che appunto un Fossillon maturo che approdava alla sistematica di Wölflin pubblicando tra l'altro sulla critica d'arte un importante articolo dell'allievo di Wölflin e cioè Josef Gantner così non solo vita delle forme veniva eletto a testo preferenziale per la messa a fuoco del pensiero di Fossillon dando quindi un'idea quantomeno parziale dello storico dell'arte francese ma in più quel libro era letto non come il saggio conclusivo di colui che nel mondo concreto delle arti si era sempre calato ma come il tentativo forse anche un po' goffo di ripresentare in Francia gli argomenti dei grandi teorici di lingua tedesca quindi Castelnuovo si trova davanti a questo panorama critico decisamente orientato in senso estetico una vulgata rafforzata poi forse anche in modo lasciatemelo dire peggiorativo nei primi anni 60 dalle letture per esempio di Dino Formaggio forte del rapporto diretto col mondo degli allievi di Fossillon invece Castelnuovo comprendeva che era necessario riassestare questo scenario e lo fa appellandosi ad alcune voci isolate come il prudente commento appunto del già ricordato Sergio Bettini l'intelligente profilo di Lionello Venturi e le acute pagine di Guido Morpurgo Tagliabue oppure anche altre voci importanti che proprio in Italia si erano aggiunte alla fine degli anni 60 ad ampliare l'orizzonte critico su Fossillon per esempio Andrea Emiliani o Maurizio Calvesi e soprattutto nel 62 era uscito a Yale The Shape of Time di George Kubler forse il libro che meglio interpretava il potenziale di vita delle forme e che al contempo mostrava quanto le vie tracciate dal maestro francese potessero dinamarsi proprio come i rami del delta di un grande fiume tutti questi interventi avevano avuto il merito di porre in evidenza il milieu distinto da cui Fossillon proveniva e cioè il mondo degli artisti gli studi filologici prima gli studi storici poi il lungo training museale e l'accesso tardivo al mondo accademico della Sorbona alla cattedra che era stata di Emile Mal Castelnuovo aveva compreso che era arrivato il momento di rileggere Fossillon proprio come molti anni dopo si farà in un celebre ciclo di conferenze del Louvre diretto da Mathias Vasec da questo punto di vista si può affermare che la revisione critica di Fossillon sia avvenuta prima in Italia che in Francia dove a lungo il nome di Fossillon era stato bandito e di questo va reso grazie proprio a quel vivace redattore dell'Einaudi che tra anni 60 e 70 era parte attiva di quella che Giulia Einaudi chiamava la nouvelle vague dei consulenti per la storia dell'arte di questa necessità di rivedere l'opera di Fossillon nel suo complesso ed ancorandosi ai dati obiettivi del suo percorso parlammo a lungo con Enrico se volessimo tirare un bilancio diremmo che il merito più grande della rilettura di vita delle forme proposto da Castelnuovo risiede allora proprio in questo ridimensionamento della figura di Fossillon nel riportarlo legittimamente al mondo della storia dell'arte del resto Fossillon ha sempre rifiutato di leggere la propria come un'opera filosofica esprimendosi molto chiaramente per sgombrare il campo da ogni equivoco disciplinare egli infatti definiva videform come sono parole sue uno sforzo di storico che cerca di precisare bene il proprio oggetto esattamente il contrario di un libro di estetica finisco notando come i due Enrico e Henri avevano un grande elemento in comune almeno uno cioè una sterminata cultura costruita di sindac giovanissimi con un'identica smania di divoratori di libri nella smania di dotarsi di una solida sciarpante intellettuale non solo storico-artistica ma anche e soprattutto fatta di classici di letteratura di storia un aspetto che si è riverberato nella loro produzione scientifica sospingendo la loro enorme curiosità e che noi lettori cogliamo oggi nel loro gusto per la citazione palese in Castelnuovo seminascosta in Fosion citazione che lungi dall'essere un puro artificio retorico ancor meno uno sforzo salottiero fu per loro come lo è per tutte le alte intelligenze un vero e proprio meccanismo di costruzione del pensiero di un edificio mentale in cui una porta si spalanca improvvisamente su una nuova stanza di questo un'altra poi su un'altra ancora e così via ogni volta mostrandoci un paesaggio diverso giustamente Castelnuovo ricordava la riluttanza di Fosion a considerarsi uno specialista del resto Fosion ebbe a scrivere di immaginare la propria vita come un insieme scombinato di tanti piccoli trattini separati tra di loro l'opera d'arte non è mai sola ripeteva Enrico neanche gli uomini lo sono tutta una costellazione di personaggi si disegna attorno alla figura di Fosion e attraverso lui attorno a quella di Enrico a tessere ormai una rete della storia vi ringrazio il mio compito è quello di ringraziare e di dire avanti il prossimo che sarà Michele Baci ma anche dopo questo intervento viene da dire ci sarebbero tanti temi da sviluppare guardavo in direzione di Marco Collareta perché non tanti giorni fa capitava di parlare di Medioevo di un modello Gusto dei Primitivi e di un modello Fortuna dei Primitivi e un modello vasariano e un modello di Medioevo o a lato esca ma nel caso di Castelnuovo ora però veramente mi mordo la lingua è interessante lo scarso interesse giovanile per Toesca a favore del Medioevo di Fosion e dei suoi allievi perché l'architettura no ma solo per dire come ci sarebbe molto ripensando Enrico e alla sua storia perché ci sono anche elementi diacronici rilevanti in questo rapporto con Fosion addirittura la collana del Minuziano che è stata fondamentale per lo svecchiamento degli studi di estetica in Italia poi passano problemi che sono ancora sul tavolo oggi passa tuoi grazie il tema che propongo oggi per ricordare Enrico un po' suonare strano ma mi permette di soddisfare la richiesta che mi è stata fatta da Massimo quella cioè di presentare un aspetto poco noto della sua personalità e del suo percorso intellettuale poiché di quest'ultimo è stata a parte anche la mia formazione presso di lui qui alla scuola normale di Pisa il mio racconto non potrà che essere intriso anche di ricordi personali la prima cosa da dire è che a Enrico l'arte bizantina probabilmente non piaceva molto o persino per niente non sono neanche in grado di figurarmi esattamente quali conoscenze effettive ne avesse non mi risulta che gli sia mai capitato di visitare monumenti bizantini importanti al di là dell'Adriatico so di un suo viaggio ad Atene dove era stato sicuramente attratto dalle vestigia del mondo antico e dove forse avrà avuto modo di visitare il museo bizantino ma non credo perché mai me ne ha fatto motto che abbia avuto occasione di recarsi a Istanbul a Tessalonica a Chios o Sios Lucas o nei monasteri della Serbia e della Macedonia la cultura bizantina si associava nella sua esperienza soprattutto con i monumenti e le opere d'arte italiane in cui si poteva riconoscere un'affinità stilistica o iconografica con modelli di origine cristiano orientale ossia con la famigerata maniera greca tanto aspramente stigmatizzata dal suo maestro Roberto Longhi nel giudizio sul 200 e soprattutto nel controverso rapporto intellettuale con Longhi che si deve leggere la sua attitudine di fondo nei confronti della tradizione bizantina un'attitudine che si è evoluta nel corso degli anni e ha portato ai risultati che a mio modo di vedere meritano di essere rimeditati e valorizzati nell'ultima intervista rilasciata a Michele Tomasi per Reti Medievali Enrico riconosce nella sua formazione un limite all'apprezzamento non tanto estetico quanto propriamente storico della maniera greca seguendo supinamente Longhi dichiara trovavo noiose le opere bizantineggianti del 200 la scelta del termine noioso mi sembra significativa perché nel vocabolario di Enrico che valorizzava al massimo come abbiamo detto spesso oggi ogni sfumatura ironica l'espressione corrispondeva un giudizio di valore in realtà più profondo e più serio di quanto si potrebbe immaginare noioso era per lui un modo sintetico per descrivere costruzioni intellettuali che gli apparivano inutilmente astruse falsamente elaborate incapaci di sollecitare curiosità autentiche conversando con allievi e amici ne faceva uso in riferimento a libri recenti in particolare americani o a conferenze e interventi che non l'avevano entusiasmato penso che un'accezione ancora più marcatamente peggiorativa avesse per lui soltanto il termine pomposo che utilizzava con altrettanta frequenza e disinvoltura dunque non si può certo dire che le opere genericamente alla greca gli sollecitassero una particolare empatia e di questo ho avuto prova una volta in prima persona quando di fronte a una delle tavole mariane meduecentesche del museo di San Matteo mi disse che la trovava particolarmente sgradevole anche se questo non gli sembrava un motivo valido per non occuparsene da un punto di vista storico-artistico di fondo era in questa battuta che si riassumeva il suo pensiero in merito sebbene non fosse attratto da quel tipo di oggetti si augurava comunque che qualcuno iniziasse a studiarli seriamente questo spiega almeno in parte perché l'ho capito naturalmente e soltanto a posteriori quando da matricola andai a chiedergli un tema per il mio primo colloquio che era il 1989 ahimè mi indirizzò subito su Giunta Pisano e la pittura pisana del 200 un argomento che ha continuato ad accompagnarmi e a ossessionarmi anche dopo aver imboccato altre strade all'epoca ero un diciannovenne piuttosto naif affascinato inconsciamente dall'arte paleocristiana e bizantina e desideroso di studiare i mosaici di Ravenna ne parlai ad Enrico il quale probabilmente trasalia questa mia richiesta come mi parve di intuire senza capirne il perché ad ogni modo ebbe facile gioco a convincermi che la maniera greca rappresentata così abbondantemente dalle collezioni pisane si prestava assai meglio per una ricerca da condurre sul campo e quindi finì con l'accettare ovviamente senza immaginare quali conseguenze tutto questo avrebbe avuto sul mio percorso di formazione quello che non sapevo era il fatto che un argomento simile comportava innanzitutto un lavoro puntuale e un tantino noioso di storia della critica d'arte per questo mi raccomando di raccogliere e meditare su tutti gli autori che da vasare in poi avevano espresso giudizi sulla pittura del 200 Pisana e non ricordo lunghe giornate passate nella lettura di Lanzi Seru d'Agencourt Fontrumor Rosini Cavalcaselle Venturi per arrivare naturalmente al catalogo della mostra giottesca e al giudizio sul 200 un testo che dovevo leggere cercando di capire con quali studiosi stesse polemizzando l'autore forse si trattava di uno sforzo troppo complicato per un ragazzino alle prime armi non credo infatti di aver veramente capito chi fossero i destinatari delle critiche stizite di Longhi che al contrario mi suscitavano un'antipatia viscerale trovavo ingenerosi i suoi giudizi fastidioso il suo linguaggio e persino offensive certe sue affermazioni e dentro di me sopportavo con difficoltà l'invito alla moderazione che mi rivolgeva il mio maestro dal quale avrei desiderato una presa di posizione più netta più negativa più arrabbiata di certe intemperanze giovanili come Enrico spesso ricordava non ci si rende conto che col passare degli anni ripensando adesso tutta la questione mi rendo conto come la reticenza esprimersi in termini più forti contro Longhi fosse dettata più che da una questione di rispetto per il proprio mentore o meno che mai da ragione di opportunità da una saggia ed equilibrata valutazione del contesto storico e storiografico in cui il giudizio era stato composto a mia conoscenza Enrico è stato il primo storico dell'arte italiano a mettere in evidenza i limiti di questo testo che pure in parte apprezzava se non altro da un punto di vista letterario nel farlo no no lo dico senza ironia nel farlo ha fornito già in due testi pubblicati negli anni Ottanta spunti che sono poi stati sviluppati più tardi da altri studiosi evitando però i toni inutilmente astiosi assunti in seguito ad esempio da Massimo Bernabò nelle sue ossessioni bizantine per primo Enrico ha invitato gli studiosi i suoi contemporanei a considerare il fatto che in buona misura il giudizio sul 200 era stato pensato e scritto come un panflet polemico che reagiva alla banalità del principio affermato tanto visibilmente nel catalogo della mostra giottesca secondo cui tutti i pittori toscani del secolo XIII erano stati chi più chi meno dei precursori di Giotto Longhi scrive Enrico in mille vie della pittura italiana a 1986 volle mettere in evidenza la frattura smantellare l'idea di continuità smontare questo tipo di ricostruzione e rimescolare le carte gli premeva mostrare come per certi aspetti la pittura italiana del 200 fosse quella di una provincia bizantina e come dalla cappa di ferro dei modelli bizantini fosse possibile uscire solo attraverso due o tre strade recupero dei valori della grande pittura tardoantica tentativo di spingere alle estreme conseguenze mettendoli in qualche modo in crisi dall'interno gli stilemi dell'arte bizantina apertura sulle nuove esperienze del gotico occidentale era tuttavia altrettanto evidente che l'efficacia retorica del testo da cui Enrico stesso era senz'altro affascinato aveva indotto gli storici dell'arte italiana a considerarlo l'unico punto di riferimento per lo studio dell'arte pittorica del secolo XIII nonostante i suoi meriti si afferma già in arte delle città e arte delle corti quindi in 1983 sarà bene a tanti anni dalla sua pubblicazione non continuare a usarlo come unica chiave di lettura e utilizzare ogni luce per vedere più chiaro in questa vicenda tre anni più tardi in mille vie andò oltre mettendo in luce piuttosto chiaramente come il testo di Longhi fosse all'origine di tutta una serie di incomprensioni gerarchizzazioni inconclusive e arbitrarie marginalizzazioni che ancora pesavano sul dibattito storico-artistico italiano e in questo credo anche per discussioni che abbiamo avuto che si riferisse in modo particolare al radicalismo longhiano del libro di Ferdinando Bologna la pittura italiana delle origini allora scrive Castelnuovo l'appassionata apologia di una certa idea della pittura e delle sue funzioni di rappresentare la natura gli affetti la realtà delle sue implicazioni etiche storiche civili portò Longhi a scartare ciò che a questa linea non corrispondeva ciò che gli appariva come indefinitamente ripetitivo senza anima senza emozioni senza futuro senza tempo senza storia i modi e gli effetti di questa esplosione furono tali che prevalse in alcuni storici della pittura italiana un atteggiamento risolutamente negativo rispetto alla pittura bizantina ai suoi portati e alle sue conseguenze ci si può domandare se i fulmini di Longhi non abbiano sortito effetti analoghi a quelli scagliati da Burkhart contro la pittura bolognese anche se diversa era la loro motivazione ma nel grande sommovimento del 200 pittorico vennero innalzati altri valori altre gerarchie altri nomi su cui costruire una storia l'invito era quindi a riconsiderare l'intera questione da altri punti di vista meno condizionati da fattori estetici ed evoluzionistici e a considerare la produzione figurativa del secolo XIII come frutto di uno specifico contesto storico in questo senso Enrico riconosceva nella pittura duecentesca un terreno fertile per nuove ricerche in primo luogo sul piano della storia sociale dell'arte non poteva evitare di considerare che giunta Pisano un esponente per antonomasia della maniera greca per questo condannato da Longhi con termini assai poco lusinghieri era stato uno dei primi pittori a lasciare la sua firma sulle proprie opere e il primo artista italiano di cui fosse documentata l'attività in diversi centri della penisola Pisa d'Assisi a Bologna il Cristo dipinto in quest'ultima città sarà stato anche uno squalo in mane ontuoso inchiodato sull'ultimo strattone ma documentava la fama di cui godeva giunta chiamato a lavorare per la più importante chiesa dell'ordine domenicano dopo aver ricevuto commissioni da parte dei francescani di Assisi c'era tuttavia in tutto questo anche un altro aspetto che suscitava l'interesse di Enrico la possibilità cioè che la pervasività della pittura bizantina potesse essere analizzata dal punto di vista della geografia artistica ancora in arte delle cittate delle corti osservava come la fine del dominio bizantino in Puglia nel 1071 coincidesse con la perdita della penisola anatolica a seguito dell'invasione selgiuchide nello stesso anno questo fatto meritava una riflessione non soltanto per rendersi conto del radicamento della cultura bizantina in Italia meridionale ma anche più in generale per meditare sulla bontà delle tassonomie storico-artistiche in fondo perché l'idea della continuità bizantina nel sultanato di Rum ci crea meno difficoltà dello stesso principio applicato al regno normanno-svevo o ancora più in generale in che termini e a quali condizioni sulla base di quali premesse storiche e culturali si deve interpretare l'adesione più o meno fedele a un repertorio di forme da parte di artisti committenti e comunità a questi interrogativi se ne associava un altro che per molti aspetti era complementare a un tema lui caro quello relativo alle complesse modalità di espansione appropriazione e rifiuto del gotico a cui aveva dedicato numerosi lavori in questi veniva dato peso a fattori che implicitamente contraddicevano il principio di origine ottocentesca secondo cui le forme artistiche tendevano a svilupparsi secondo dinamiche coerenti all'interno di un ambiente geografico omogeneo delimitato da frontiere riconoscibili il caso di Avignone aveva mostrato che un'arte fondamentalmente italiana dal punto di vista stilistico aveva potuto svilupparsi lontano dall'Italia e combinarsi con elementi locali o provenienti dall'Ile des France mentre gli studi sull'area alpina avevano messo in luce come un linguaggio allogeno addirittura ibrido potesse essere fatto proprio in contesti anche molto distanti dal proprio territorio d'origine il fattore bizantino gli sembrava meritevole di indagini più approfondite proprio nella misura in cui era caratterizzato da dinamiche per certi versi analoghe anche per questo metteva in guardia da facili opposizioni e sottolineava come in particolare nel caso italiano non mancassero casi di coesistenza di elementi e stili diversi all'interno dello stesso ambiente o persino dentro la stessa opera le sue osservazioni in merito mi sembrano attuali ancora i giorni nostri e dovrebbero a mio modo di vedere essere tenute in considerazione dai tanti studi sempre più alla moda sulle ibridazioni artistiche cito se spesso ci troviamo di fronte a fenomeni che ci sembrano ibridi ciò è dovuto al tipo di ricezione totale parziale sporadica degli elementi di un nuovo repertorio figurativo comprenderemo meglio certi fatti se li interpreteremo come tentativi di trasformazione di un sistema condotti con i dati disponibili in realtà non si tratterà tanto di puntare sulle opposizioni quanto di aver sempre presente il problema delle motivazioni che hanno spinto artisti committenti e pubblici in Italia ad accettare elementi nordici e di quelle che invece li spingevano a ricevere elementi bizantini attenzione che a differenza di altri autori lui utilizza sempre il termine ricevere non mantenere che mi sembra significativo Enrico era consapevole del fatto in questo si rivelava anche profetico che spostare l'accento sulle ibridazioni sulle convergenze sui meticciaggi non cambiava veramente i termini della questione se descriviamo un'opera come stilisticamente ibrida partiamo più o meno inconsapevolmente dal principio che essa nasca dall'incontro tra tradizioni artistiche che per converso riteniamo perfettamente omogenee le sterili classificazioni che la storia dell'arte produce non ci parlano in fondo che del modo in cui noi pretendiamo di interpretarle ciò che al contrario dovremmo sforzarci di fare è capire e apprezzare le opere per il significato che era loro attribuito da coloro per i quali erano state originariamente pensate su questa strada Enrico mi ha indirizzato e incoraggiato fin dall'inizio in particolare da quando ed era il mio secondo anno innormale gli manifestai il mio desiderio di approfondire proprio quelle motivazioni che avevano spinto gli uomini del secolo XIII a imitare e riprodurre a Pisa e altrove le icone bizantine da qui poi sono arrivato al tema indubbiamente sui generis delle immagini attribuite a San Luca e all'associazione di un'autografia prestigiosa con oggetti figurativi alla greca e ancora successivamente al problema del coinvolgimento delle immagini nelle pratiche devozionali private e pubbliche nel XIII e XIV secolo in questo mio percorso ho finito talora per imboccare vie più occidentali ancorché sempre mediterranee per trascorrere lunghi periodi lontano dalle coste del Bosforo ma a quel punto è stato paradossalmente proprio Enrico a chiedermi di riprendere in mano argomenti bizantini come quando si è trattato di organizzare qui alla scuola nel 2003 l'incontro di studio dedicato a quell'autentico fantasma della storiografia che è la figura sociale e simbolica dell'artista nel mondo cristiano orientale qui ancora in relazione a quanto si è detto precedentemente in conclusione non saprei dire fino a che punto l'auspicio espresso da Enrico circa lo sviluppo di una storia della ricezione dell'arte bizantina in Italia sia stato realizzato realmente da me o da altri certamente gli studi si sono moltiplicati negli ultimi anni e alcuni temi sono diventati sin troppo di moda disciolti nel grande brodo delle convergenze mediterranee mi permetterei soltanto di dire che in molti casi l'approfondimento delle conoscenze non ha fatto altro che confermare e consolidare ciò che Enrico con 30 anni di anticipo aveva lucidamente intuito grazie anche in questo caso si sentirebbe il bisogno di trasformare la relazione in un seminario si intreccia ancora una volta il tema dell'assenza umana di Enrico con la concreta e chissà quanto per tutti noi non solo noi per presenza nel lavoro dell'istoricista dell'arte io direi a questo punto però che potremmo fare una pausa per caffè e riprendere fra un quarto d'ora guarda no questo non è ancora hai immagini? no no ringrazio dell'invito e naturalmente molti di quelli che hanno parlato hanno conosciuto Castelnuovo che è arrivato a Pisa noi diciamo gli studenti lo hanno trovato e quindi parlare di lui significa parlare di noi cioè significa parlare di come lentamente ci siamo formati e nel bene e nel male siamo entrati nel mondo degli studi e bisogna sottolineare una cosa Castelnuovo entra come con l'insegnamento di storia dell'arte medievale in quegli anni in Italia c'era ancora la cattara di storia dell'arte medievale moderna e naturalmente in molte università e questo ovviamente come si può immaginare andava a discapito dell'arte medievale non dell'arte moderna l'ho accennato anche Marco stamattina e Castelnuovo quando arriva a Pisa naturalmente è uno studioso ovviamente l'abbiamo visto che si era occupato della storia dell'arte in tutti i suoi aspetti anzi era andato molto al di là della storia dell'arte eppure Castelnuovo qui crea una scuola di medievisti cioè può sembrare strano ma Castelnuovo è riuscito a costruire una scuola diciamo voi avete visto alcuni dei suoi allievi naturalmente ma ce ne sono tanti altri che non sono qui sono tra il pubblico sono fuori cioè Castelnuovo è riuscito a creare probabilmente molto non so se molto più o meno della Barocchio o di Settis una scuola di allievi che nel giro di di una ventina d'anni diciamo così ovviamente hanno diciamo hanno dato vita a un vero e proprio circolo di medievisti a una scuola di medievisti naturalmente dal suo punto di vista e con le sue modalità infatti voi avete visto tre storici dell'arte medievale uno diciamo fondamentalmente si occupa di alto medioevo e di miniatura Michele Fabrizio Michele si occupa ovviamente come avete capito di arte cristiano orientale non bizantina naturalmente dobbiamo dire cristiano orientale e io mi sono occupato di romanico e di fortuna dei primitivi quindi naturalmente di temi opposti questo proprio perché appunto Enrico aveva questa capacità di di non cioè con noi non ha mai imposto argomenti addirittura non consigliava nemmeno i suoi saggi allora non c'era Cubicat naturalmente non c'era Google e quando ovviamente affrontavamo le ricerche trovavamo ad ogni angolo di strada come i San Cristofori naturalmente nel medioevo un saggio di Castelnuovo le frontiere la geografia artistica e quindi naturalmente era sempre vicino a noi ma non ha mai a me non ha mai detto legga questo di suo naturalmente e probabilmente perché lui voleva che l'apprendimento e quindi diciamo l'approfondimento delle conoscenze scaturisse da un confronto autonomo cioè lui non diceva studiamo questo lui ci chiedeva cosa appunto avevamo intenzione di studiare e nel momento in cui dicevamo queste cose naturalmente ci apriva la mente con tutte che è inutile diciamo ripetere quello che è stato detto però fondamentalmente ripeto non ci indirizzava nemmeno verso le sue cose da questo punto di vista con noi probabilmente che eravamo studenti che eravamo giovani era diciamo non interveniva non si imponeva ma credo che fosse il suo modo di vita anche per esempio della sua vita sapevamo poco ricordo un episodio a lezione vedemmo la pubblicità di un libro Enrico Castelnuovi Moncalvo per cui uno di noi non ricordo chi alzò la mano e disse professore ma lei ha scritto un libro su un pittore della controriforma Moncalvo è un pittore della controriforma piemontese naturalmente Castelnuovo diciamo molto divertito della cosa ci spiegò che invece Enrico Castelnuovo l'autore era il suo bisnonno che era stato un personaggio molto strano avventuriero era nato a Venezia poi si era trasferito in Egitto tutto il contrario comunque era stato un uomo di cultura ed era stato un romanziere degli inizi del del novecento che tra l'altro appunto in Moncalvo era una sorta di vicerei diciamo così questa letteratura diciamo che rifletteva sull'Italia postunitaria e quindi non aveva niente a che vedere con Enrico appunto e appunto la storia dell'arte sapevamo poco della sua famiglia per esempio ricordo che lui ci raccontava anche diciamo di situazioni diciamo dolorose come per esempio le persecuzioni razziali ci diceva del fatto che il nonno andasse in giro per Roma in quei diciamo al tempo dei rastrellamenti perché perché naturalmente loro non erano consapevoli fino in fondo di quello che appunto stava capitando appunto agli ebrei che venivano che venivano deportati e quindi naturalmente appunto entrare qui alla normale per noi per me soprattutto cioè erano gli anni della storia dell'arte italiana e in Audi quelli che fino a poco tempo fa erano autori ovviamente Castelnuovo Labbarocchi e tutti gli altri Settis diventavano persone ma questo non era solo una cosa fisica era una cosa diciamo che serviva a crescere cioè noi ci potevamo confrontare cioè non dovevamo riflettere più su saggi e cercare di capire ma ci potevamo confrontare quindi si rompeva diciamo il principio dell'auctoritas per cui naturalmente il professore è ovviamente quello che noi dobbiamo seguire questa è una cosa naturalmente che è normale è sempre esistita non so se esiste nei collegi inglesi sicuramente nei libri di Harry Potter c'è questa frequentazione continua con i docenti però diciamo noi effettivamente avevamo questa possibilità di frequentare naturalmente è stato detto e quindi è inutile ripeterlo ovviamente si è parlato dei viaggi delle visite i viaggi e le visite per esempio erano un confronto continuo con la storiografia artistica mi ricordo per esempio di quando siamo andati al Battistero di Parma perché naturalmente in quegli anni si riscoprivano gli affreschi del Battistero di Parma per cui noi andavamo ovviamente nei limiti del possibile a confrontarci con le opere e questa era una lezione continua e quindi naturalmente abbiamo conosciuto i ponteggi e ricordo una cosa che disse di fronte stavamo visitando mi pare gli affreschi della collegiata di San Gimignano e naturalmente quando stavamo sui ponteggi ci raccontò un aneddoto una storia appunto di un musicista che naturalmente un musicista d'orchestra che per tutta la vita aveva suonato ovviamente tutte le opere percependo e ovviamente vivendo la sua parte il suo spartito andato in pensione naturalmente poter finalmente ascoltare l'opera nel suo complesso naturalmente e lui dice noi siamo così stiamo vedendo naturalmente gli affreschi stiamo vedendo i particolari però ovviamente c'è qualcosa di più questa che può sembrare diciamo una storia leggera invece era una profonda riflessione abbiamo detto l'opera d'arte è relazione cioè Castelnuovo questo naturalmente ci stava insegnando cioè voi non pensate che la storia dell'arte sia trovare l'impronta o trovare diciamo il particolare che solo lo storico dell'arte riconosce ma naturalmente noi dobbiamo tirar fuori la storia dell'arte dal suo diciamo tra virgolette diciamo dalla sua visione feticistica e naturalmente riportarla in una storia della cultura perché questo è uno diciamo delle lezioni che credo noi abbiamo avuto la fortuna di apprendere in normale proprio perché la normale è un ambiente dove tutto è in continua relazione a mensa fuori e le discipline non erano mai divise tra di loro nel mio campo per esempio lui arriva con la mostra di Lanfranco e Villigermo è stato detto ma la mostra di Lanfranco e Villigermo è un completo rovesciamento dell'approccio all'arte romanica alla scultura romanica all'architettura romanica in Italia ed è uno delle punte più avanzate di studio dell'arte romanica a livello europeo tenete presente che l'arte romanica era diciamo l'ultima delle sorelle ovviamente l'ultimo dei campi di cui ci si occupava in Italia l'arte romanica veniva studiata ancora diciamo nell'ottica di di De Frankovic o di Salvini i maestri eccetera eccetera invece con Lanfranco e Villigermo noi vediamo naturalmente un approccio europeo perché diciamo l'importanza diciamo dell'insegnamento di Castelno è stato proprio questo quello di combinare è inutile che lo ripetiamo combinare quella che era la lezione della tradizione storiografica artistica italiana pensiamo alla storia dell'arte italiana un particolare che forse oggi non sarebbe più ripetibile sono quasi tutti autori italiani oggi fare un'opera diciamo di quella mole come la storia dell'arte italiana in Audi con solo gli autori italiani probabilmente apparirebbe qualcosa di sciovinistico qualcosa di limitato soprattutto diciamo nel nostro mondo globalizzato eppure Castelnuovo dicevo da una parte conservava quella che era la sua diciamo nascita la sua origine storiografica quindi l'Italia però era completamente aperto appunto all'esterno un'altra cosa che raccontava spesso io cito i film perché i libri naturalmente sono stati tutti diciamo saccheggiati ricordo che spesso ci raccontava di una scena di un film francese in cui c'era Jean Gabin che naturalmente chiedeva a un signore ma lei è un pittore e faceva il gesto della mano diciamo del tinteggiatore o è un pittore e quindi naturalmente un pittore artista naturalmente la risposta non c'era ed era proprio questa la lezione di Enrico Enrico diceva a noi l'arte non è l'arte del pittore o l'arte del tinteggiatore l'arte è un ovviamente è un continuum culturale sia diciamo geograficamente storicamente stilisticamente per cui ovviamente questa risposta naturalmente credo che nessuno la può ancora oggi ovviamente noi noi la stiamo noi la stiamo cercando e a questo proposito il confronto naturalmente tra le arti ricordo questa è una cosa che ho sentito da lui cioè una cosa legata a Calvino lui raccontava forse qualcuno è stato riportato da qualche parte che erano amici naturalmente all'uscita del film otto e mezzo c'è ci sono Italo Calvino Enrico Castelnuovo che passeggiano e Castelnuovo naturalmente si si infervora nella spiegazione nel cercare di spiegare ovviamente la complessità del film di Fellini e Italo Calvino alla fine di questo discorso alla fine della passeggiata lo guarda e dice a che cosa succede che quando scrive quando Italo Calvino regala a Castelnuovo la copia di una notte d'inverno un viaggiatore gli scrive nella dedica appunto questa volta sarei tu a poter dire a e quindi ovviamente diciamo questo confronto continuo e dicevo appunto rispetto alle visite ai viaggi ricordo per esempio lui ci raccontava all'inizio eravamo talmente in pochi che si facevano questi viaggi diciamo per la Toscana con la sua auto che era l'auto del papà che aveva la guida a destra aveva la guida a destra perché non so per motivi e quindi lui ci raccontava di questi suoi viaggi nel sud perché lui negli anni sessanta veniva in vacanza prima di conoscere diciamo il ritiro dorato della della Maremma mi ricordo che raccontava di essere venuta ad Agropoli questo per esempio può essere può sembrare nulla però è importante perché scendere al sud ovviamente non solo per vacanze perché Castelnuovo c'è venuto per esempio quando ha lavorato sul volume della Videform sul 300 mi ricordo mi raccontava di Altamura è venuto a Sessaurunca vabbè aveva amici a Napoli veniva continuamente non era una cosa normale potrà sembrare strano per uno storico dell'arte ancora probabilmente degli anni 90 io ricordo di miei colleghi di nostri colleghi alla Normale che mi raccontavano di questa visita alla Certosa di Padula naturalmente questo monumento interessantissimo che si trova appunto nel sud della Campania come se avessero scoperto un mondo completamente nuovo come se fossero dei nuovi viaggiatori dell'Ottocento che andavano alla riscoperta dell'arte medievale per cui anche da questo cioè bisogna dire che ovviamente io ho cercato di toccare diciamo degli aspetti meno meno noti forse probabilmente anche meno interessanti che però diciamo ci fanno capire che la sua frequentazione era una continua lezione la stessa cosa per esempio riguardava le scritture non so chi ha parlato stamattina del fatto di rileggere Maurizio Gelardi ho detto no non mi ricordo una recensione da correggere io ricordo per esempio che Castelno ci appuntava i testi cioè ci sottolineava gli errori per esempio la parola evidenziare io non ho più usato nella mia vita il verbo evidenziare e ogni volta che io dico scrivo la parola evidenziare dopo la correggo perché non ho mai capito per quale motivo a lui non so quante volte me l'ha cassata così allo stesso modo pensava che gli scrivesse in maniera troppo barocca troppo meridionale gli sembrava che ne so un novello croce e quindi naturalmente dovevo diciamo purgare questo mio modo di scrivere e naturalmente quegli anni erano gli anni cioè gli anni della nostra crescita per noi la normale era che so un po' come nell'alto medioevo i monasteri cioè nel senso che esisteva ancora una cultura nazionale esisteva ancora diciamo un paesaggio culturale nel quale si riconoscevano le differenze e questa è una differenza che oggi per esempio non notiamo più oggi viviamo in un mondo in cui se non si scrive in inglese per esempio se non si pubblica appunto nel mondo anglosassone tutto quello che viene prodotto resta diciamo lettera morta negli anni 80 probabilmente noi avevamo una visione un'aspettativa diversa perché probabilmente in Italia esisteva ancora una scuola diciamo di storia dell'arte che nel rivolgimento degli ultimi decenni probabilmente è andata è andata è andata a finire così per esempio ci invogliavano non solo ai viaggi ma alle lingue per esempio una cosa molto utile per noi ovviamente lo sappiamo perché l'ha fatto lui era quello di invitarci a scrivere le recensioni cioè a confrontarci con le opere per esempio lui curava l'indice e quindi naturalmente quasi tutti i suoi allievi ovviamente nei primi anni si sono cimentati in questa cosa che ovviamente era uno strumento utile soprattutto in questo uno strumento poco italiano perché in Italia naturalmente la recensione veniva vissuta come ho un favore ho una necessità e non come un aspetto diciamo culturale della conoscenza e anche in questo naturalmente Castelnuovo ci ha ci ha indirizzato che poi naturalmente siamo stati noi e quindi bisogna dire che appunto diciamo che la cosa che ci resta e che naturalmente è sempre presente è che ogni volta che scriviamo qualcosa e credo che non sia valga solo per me ma valga un po' per tutti i suoi allievi ritroviamo qualcosa di lui cioè ogni volta che ci troviamo ad affrontare un argomento a trattare qualcosa alla fine come naturalmente in un cerchio si finisce sempre con Enrico grazie io ricordo che quando venne fatta una bicchierata nella sala del Gran Priore nel momento in cui andavano in pensione Enrico e Roberto Vivarelli Nino Ampolo che era preside invito a dire due parole a proposito di Enrico ma me lo disse proprio in fondo alle scale e la cosa meno baggiana che mi riuscì di dire è che un aspetto della personalità di Enrico era che non aveva non aveva allievi uno simile all'altro come nelle scuole dove invece si procede per omologazione ricordo che la cosa piacqua all'unico allievo presente che era Alessio Monciati che purtroppo oggi è impegnata altrove però mi sembra anche dal quadro non per darsi ragione ma mi sembra anche nel tratto umano questa anche la relazione ultima di Antonio si è aggiunta ma si è aggiunta sfaccettando se pensate a come tante volte nella pratica accademia accademica italiana si riconosce la provenienza da certi tic espressivi ecco credo che allo specchio di questa diversità si debba riconoscere scusatemi l'aspetto vero della personalità di Enrico ho messo bocca ancora una volta ma credo che questa diversità di approcci e di tratti in definitiva continui anche con un allievo non propriamente diretto come Flavio ma appunto il fatto che non sia un allievo diretto ma non ti voglio togliere racconta ancora cose state ne parlava poco prima Antonio la scuola normale in un certo momento allora quello che non posso fare in questa sede perché non lo so fare è un bilancio di quanto i testi ottocenteschi nell'arco della trattatistica ai romanzi il dibattito culturale ottocentesco le pratiche artistiche ottocentesche e soprattutto il senso del museo ottocentesco che era fondativo nel sistema di Castelnuovo di guardare l'opera abbiano agito nel lavoro nella pratica di Castelnuovo studioso l'Ottocento di Castelnuovo è in buona sostanza quello che ho brevemente elencato basta dare una scorsa alle note dei suoi studi ai nomi tirati in campo agli snodi argomentativi della sua scrittura insomma la sala macchina del suo lavoro l'Ottocento il primo Novecento furono per lui come per tutti gli studiosi intelligenti della sua generazione il secolo della messa alla prova di una disciplina nella storia dell'arte che come si è definita rispetto alle esigenze di cultura e di società espresse nel loro tempo e qui a Pisa la normale il percorso intellettuale per esempio di Donata Levi che ha allargato lo sguardo dalla cultura dei conoscitori a quella delle esposizioni a quella della tutela è una prova di quanto la guida di metodo prima di tutto di Castelnuovo fosse rinunciabile per rileggere anche con uno sguardo ravvicinato analitico come quello di Donata la trama delle questioni dell'Ottocento segue invece per questo brevissimo ricordo un filo minore quale fosse il rapporto tra Castelnuovo e le opere d'arte ottocentesche e novecentesche che entrarono invece con una certa frequenza nel suo ragionamento c'era una gag tra Enrico Castelnuovo e Mimita Lamberti due torinesi che insegnavano a Pisa nello stesso periodo che si è ripetuta più volte nei corridoi della normale negli anni Ottanta alla Lamberti che rimproverava a Castelnuovo una certa diffidenza e un esibito superiority complex nei confronti degli studi sull'arte contemporanea Castelnuovo rispondeva che non era la materia in sé a tenerlo a distanza quanto il fatto che fosse così mal frequentata bande di rapina e simpatici avventurieri avrebbe chiosato con l'efficacia che l'era solita Mimita Lamberti in una tagliente battuta degli storici dell'arte La Peste il libro discussione sui confini e il futuro della storia dell'arte messo insieme da Sandra Pinto nel 2006 che però bande di rapina e simpatici avventurieri non avrebbero dovuto secondo la Lamberti giustificare la minorità anche universitaria di una disciplina magari in città come Milano o Torino che avevano importanti raccolte di arte del Novecento le bande di rapina le vediamo all'opera quotidianamente e quanto i simpatici avventurieri stanno estinguendosi con gli anni sovrastati dai più aggressivi curators ricordo l'ultima risata che ho fatto fare a Castelnuovo un mese prima che morisse in una cena a Corollario della Fiera del Libro di Torino quando gli ho raccontato il percorso di formazione dell'autore di uno dei cinque cinque cataloghi ragionati oggi esistenti dell'opera di Amedeo Modigliani autore uno di questi cinque insomma su cui io mi stavo misurando per una cosa di disegni che fu prima parrucchiere per signora nella Milano dei sessanta poi maestro di sci poi responsabile della grafica di una nota a casa d'aste poi autore di ponderosi cataloghi ragionati negli anni ottanta e in mezzo a decidere lo switch tra le due vite una fortunata avventura galante che gli aprì le porte alla seconda carriera non c'era solo sospetto verso figure simili o forse peggio verso figure che usavano la storia dell'arte come randello ideologico a tener lontano Castelnuovo dalla cosiddetta arte contemporanea è ovvio che quel che lo faceva guardare con somma di fidenza gli studi sul novecento era una cosa più semplice più ovvia cioè la prevedibilità delle conclusioni schiacciate da una parte tra la gabbia delle poetiche statuite dagli artisti stessi o dai critici militanti una successione di ismi che sembrava inamovibile che rendeva di fatto inutile porsi il problema che so dell'evoluzione non conseguenziale degli stili o dell'uso non autorizzato delle immagini dall'altra da una pseudofilologia inerte che non faceva altro che rifare i conti confermando il sentiero di qui sopra o tracciando vie secondarie ma di fatti inutilizzabili per far entrare un po' di aria fresca aria fresca aveva detto oggi proprio Marco Collareta quando è arrivato Castelnuovo di sana frattura che rivitalizzasse la disciplina non so ad esempio non ho mai capito cosa pensasse di me che passavo giornati in emmeroteca a rintracciare testimonianze anche minute per ricostruire con esattezza adattazioni antequem opinioni critiche di personaggi minori solo per costruire un castello di dati che stesse in piedi con la tentazione stupida da parte mia di tentare di fare una mappa uno a uno di fatto inutilizzabile doveva credo avere la sensazione di avere a che fare con una disciplina che stava ritrovando i minimi fondamentali di serietà scientifica e il cui cammino per entrare nel vero dibattito storico-artistico era ancora lungo sulla praticabilità o meno di un'intelligente analisi storica di una produzione a noi vicina ho trovato rileggendo qualche suscritto una spia significativa introducendo e rileggendolo proprio per questa occasione introducendo i suoi scritti sulla storia sociale dell'arte il libro degli anni 80 arte industria rivoluzione che uscì nella PBE ricordò citando Popen si una nuovo Politecnico si è vero vero nuovo Politecnico nella nostalgia di un'editoria che è un importante non è PBE è vero è più piccola ancora del PBE citando Popen si una delle fortune speciali del mestiere dello storico dell'arte da Popen si citato da Castelnuovo qualsiasi cosa egli possa dire su una qualsivoglia opera d'arte l'opera d'arte rimane la stessa piazzata lì serviva per relativizzare il potere dell'interpretazione su cui davvero in quei corsi pisani continuavamo ad interrogarci stimolati anche dai corsi dalle prospettive di Paola Barocchi ma se questo è vero qualsiasi cosa possa dire lo storico non è certo qualsiasi cosa possa dire l'artista che l'ha prodotta lì si gioca una frattura complicata nel mestiere stesso dello storico dell'arte quando l'artista teorizza non spiega teorizza il posto che la propria opera ha nella storia lo sguardo degli altri sull'opera rischia la tautologia e il divertimento che era una parola molto cara a Castelnuovo il divertimento dell'indagine tende ad azzerarsi per il novecento artistico e per Castelnuovo il novecento artistico era qualcosa di più instabile e variato delle sequenze degli ismi vorrei allineare qui solo due miei ricordi mi ha raccontato una volta che la prima mostra d'arte moderna da lui vista nel dopoguerra prima ancora di quella cruciale sui Cézanne Loeuser che aveva visto a Roma è stata una mostra di galleria a Milano da Ettore Gianferrari su Armando Spadini un impressionista italiano neorenuariano un pittore molto felice insomma ma già abbastanza passato di cottura nel 45 e che l'impressione di pittura a pittura che ricevette dai suoi quadri fu molto forte abituato come era da artisti obbligati in quegli anni a imitare Picasso a tutti i costi alla ricerca di una brutta pittura e che Spadini gli fece capire la centralità dell'impressionismo come fatto di colore capace di costruire e che gli mostrò cosa poteva significare un condiviso gusto borghese tetragono al passaggio delle generazioni per me che leggevo Spadini tra Adolfo Ventura ed Emilio Cecchi e ne coglievo un sintomo di evidente ritardo culturale tra anni 10 e 20 mi sembrò un'eresia ma ho cominciato a ragionare sulla vitalità proprio cronologica di questa provocazione ricordo ancora più recentemente il suo divertimento nel vedere la mostra del collage messa insieme da Maria Grazia Messina e da Mimita Lamberti alla Galleria d'Arte Moderna di Torino nel 2007 e anche il mio sconcerto di fronte alla ragione del suo divertimento in una sequenza di opere nelle quali io cercavo la tenuta del modello di lettura greenberghiano la scomparsa del piano illusorio del quadro la superficie fisicamente percepibile come solida e opaca lui vedeva l'interferenza dei significati del visibile facendo del collage un palinsesto di tempi diversi di esistenza delle immagini come opere stratificate dalla malignità di divertiti sforbiciatori ma è sull'arte dell'ottocento che si giocava per lui la partita maggiore del contemporaneo perché era l'arte che aveva accompagnato quella rivoluzione statutaria della disciplina e che poteva aiutare a capire con una messe di dati verificabili e totalmente indisponibili per il medioevo le interferenze tra produzione artistica e società nel 1990 io da un anno non ero più alla normale e uscì la sua introduzione alla pittura dell'ottocento electa un volume di cui prese per me un po' inaspettatamente la cura erano anni non facili per gli studi ottocenteschi la generosità con cui il mercato celebrava nuovi ritrovamenti innestandoli sul corpo statuito delle gerarchie di valore troppo a lungo rimaste fisse si combinava con qualche difficoltà con la rilettura di un ottocento pittorico valutato nella sua stratificazione culturale quello che era accaduto a partire dalla mostra del romanticismo storico 1973 e leggendo quelle pagine molte cose le pagine dell'introduzione di Castelnuovo molte cose mi tornarono del Castelnuovo alle prese con l'ottocento degli anni precedenti per prima cosa che il racconto dell'ottocento italiano poteva essere ben diverso rispetto a quello che ci fornivano i manuali o il mercato perché notava Castelnuovo nella lettura dell'ottocento entra in gioco più che per altri secoli la maggiore o minore sintonia di alcuni artisti rispetto ad altri col gusto del nostro tempo e su questa sintonia finiscono per misurarsi inevitabilmente ma anche sciaguratamente l'importanza e la qualità mentre per i secoli più lontani questo gusto era misurabile per l'ottocento il gusto di novecentizzarlo era troppo forte in secondo luogo che le canonizzazioni interne al secolo generate dai valori del secolo stesso erano un potente antidoto contro le sopravvalutazioni postume le rediscoveries di Francis Haskell si ponevano come un fermo modello di riferimento mi ricordo quando di ritorno da Orsay appena riallestita appena allestita raccontò a noi l'effetto che noi che non l'avevamo ancora visto l'effetto di vedere Thomas Couture accanto a Courbet Jérôme accanto a Manet con soddisfazione gli sembrava che la storia di una civiltà artistica potesse essere raccontata con maggior spessore e ricchezza ed è all'esatto contrario dell'omaggio a quel vago sapore di rappella l'order di ritorno all'accademia e all'attenzione per la cosiddetta bella pittura che si rischiava di respirare in quegli anni voleva dire che la diarchia innovazione qualità era un circolo vizioso che la storia raccontata dai vincitori postumi era una storia perlomeno riscrivibile e le recenti monografie appena uscite verso l'86 87 su Gustave Doré e su Henri Messonnier stavano a indicare nuove vie percorribili ma era la terza posizione espressa nel breve saggio che dava da riflettere c'era ancora molto da esplorare diceva e qui cito brevemente da Castelnuovo sugli usi della pittura nell'Ottocento sulle mediazioni sul posto che l'immagine dipinta disegnata stampata aveva occupato nella cultura dell'Ottocento un secolo in cui prima della generalizzata adozione della fotografia le domande gli usi e la diffusione delle immagini fossero più grandi di quanto mai non fosse stato e c'era da allargare la storia della pittura a dilettanti aristocratici a viaggiatori a disegnatori tecnici ad archeologi medievisti e conoscitori a illustratori per l'editoria i longhiani Carlo Bossoli e Osvaldo Monti si rincorrevano nelle immagini di quelle pagine l'Ottocento anche quello italiano insomma poteva essere una palestra efficacissima per campionare la funzione dell'immagine in un frangente cruciale quando si stava compiendo ma non si era ancora compiuta la frattura tra produzione artistica scienza e tecnologia tra divisione del lavoro e mercificazione del prodotto considerare unitariamente il pittore l'illustratore l'ingegnere civile l'architetto poteva essere una spinta praticabile ma non nel momento della loro convergenza piuttosto nel momento della diffrazione non ricercando nelle conferme tra opere d'arte e società come aveva scritto nei memorabili saggi degli anni 70 sulla storia sociale dell'arte ma ricercando invece iati e fratture questo schema che per la prima volta veniva raccontato nero su bianco nella sua chiarezza generava nel suo percorso rivalutazioni inaspettate quella ad esempio dell'architettura dell'istorismus che Castelnuovo con grande intuizione non leggeva come reazione negativa al culmine di una generalizzata fiducia per la meccanizzazione architettonica l'intercambiabilità degli stili in architettura ma anche nelle arti decorative gli è sembrato e ha ragione un aspetto cito da Castelnuovo della generale fiducia che ebbe l'età della macchina per superare e riassumere in sé tutte le precedenti Hotcomb di Carlo Felice anche nella sua valenza nostalgica e reazionaria o il neogotico del regno di Sardegna erano stati esempi di attenzione in questo senso tra restaurazione e unità c'era stata per l'ultima volta la necessità di uno stile politico e lo sviluppo tecnologico ne aveva moltiplicato le potenzialità e quando nell'introduzione al libro di Klingender aveva notato come le forme e gli schemi tipici dell'architettura industriale inglese si riflettono direttamente nell'opera dei pittori ma solo nel momento post 1830 di crisi e di ridiscussione antigiacobina aveva offerto un esempio intelligente di quelle diffrazioni che il visivo pone rispetto ai tempi della storia proprio a reclamare il suo specifico il passaggio al novecento era in questa prospettiva più traumatico ciò di cui Castelnuovo si rendeva perfettamente conto era che per il novecento quell'attenzione interdisciplinare fatta di tante letture di strumenti incrociati di dominio disciplinare attraverso la messa alla prova dei libri migliori non delle teorie in sé era difficile vedeva critici militanti ma anche critici con ambizioni storiografiche ma anche studiosi devo dire con l'eccezione di Paolo Fossati con cui abbiamo con cui c'erano state bellissime intense discussioni importare metodologie strane al campo della storia dell'arte dalla psicanalisi alla sociologia alla semiottica e applicarle senza troppi riguardi alle opere con risultati di una rozzezza caricaturale destinata a far perdere di vista il contenuto stesso delle opere quando era invece la consapevolezza storica dei metodi la loro stratificazione attraverso gli studi e i risultati dei migliori studiosi a dare i risultati migliori e metodi spesso applicati a campi la storia economica la storia della scienza che sfuggivano troppo spesso all'arco d'attenzione dello storico dell'arte novecentista quella attitudine insomma scoprire correlazioni che doveva essere la ragion d'essere della storia dell'arte le grandi scoperte si fanno ai confini stessi delle scienze era una massima di Lucien Fever che lui nominava spesso era per il novecento mai o quasi mai applicata c'era semmai l'altra possibilità ritrovabile in un ragionamento condotto da Hans Belting in un seminario che aveva fatto nell'85 o nell'86 proprio qui alla normale il seminario da cui è partito poi la fine della storia dell'arte e che aveva presso noi che eravamo più giovani suscitato tante discussioni la tesi era che dipende dalla comprensione dell'arte moderna la nostra concezione di quanto rappresenti l'arte nella storia dato che la perdita della funzione pubblica tradizionale dell'arte all'inizio del secolo XIX aveva costituito un trauma irrecuperabile per una visione dell'opera che fosse coerente con le intenzioni di chi la produce e di chi la fruiva di chi la produceva e di chi la fruiva ma e questa era la conclusione di Belting la perdita del moderno verso il 1980 causata dagli rompere di neo neoclassicismi transavanguardie e simili metteva in crisi questo modello e al momento non esisteva uno sostitutivo noi allievi della Barocchi eravamo abituati a sottovalutare i rituali di morte per dirla con un libro di Irve Fischer della smaterializzazione dell'arte della sua riduzione a idea dopo il 1970 e quindi a riportare tutto indietro a quel coacervo primo novecentesco in cui lo shock del moderno la scoperta della lingua delle avanguardie aveva fatto nascere la critica d'arte della visibilità la sorta di come dire di linguaggio comune in cui tutti ci si ritrovava credo che Castelnuovo invece avvertisse benissimo questa frattura per le sue sterminate letture e per le sue frequentazioni inaudiane e il suo vitalissimo ottocento costituiva un modello ancora attivo per controbattere a questa un pass paola quindi si chiude con una delle ultimissime allieve di Enrico a Pisa eh sì credo che tu sia stata l'ultimo però qui hai ora puoi ne prendere tu anche un ruolo particolare che è quello di parlare di vedere dall'interno la sua dunque buonasera a tutti intanto vi porto i saluti di di Guido Castelnuovo che purtroppo oggi non poteva essere qui con noi per ragioni logistico geografiche e che però ci ringrazia moltissimo per questa occasione perché era sicuro vedendo il programma che sarebbe stata intensa emozionante divertente quindi vi ringrazio da parte sua ecco all'indomani della scomparsa di Enrico Castelnuovo un anno fa Guido Castelnuovo ha espresso la volontà di far inventariare il patrimonio librario archivistico raccolto da suo padre in 60 anni di attività il collega Davide Bobba ed io abbiamo eseguito il lavoro di inventariazione della biblioteca e dell'archivio un lavoro importante delicato e spesso anche anche difficile quando si è avuta occasione di frequentare per lungo tempo quelle carte quegli spazi per sessioni di lavoro e di conversazione con Castelnuovo un lavoro che abbiamo cercato di svolgere comunque con rispetto e con delicatezza il progetto è stato realizzato sotto la duplice egida di Guido Castelnuovo e della direzione di Palazzo Madama e per la valutazione dell'andamento dei lavori le metodologie le prospettive la direzione si è avvalsa anche di un comitato di indirizzo costituito da amici e rappresentanti delle principali istituzioni culturali cittadine coinvolte l'obiettivo era anzitutto quello di conferire il doveroso riconoscimento all'attività e al pensiero di una figura di primo piano della storia dell'arte italiana ed europea e di preservarne il patrimonio gli strumenti i risultati i processi e le relazioni di cui è stato protagonista la finalità concreta dell'intervento era quella di preparare le basi per il dono il dono del patrimonio librario e archivistico di Enrico Castelnuovo e della moglie degli affrigessi il lavoro è stato è stato svolto a partire dal novembre 2014 fino al maggio 2015 e si è concentrato però in particolare sull'archivio e sulla biblioteca professionale di Enrico Castelnuovo la biblioteca è per lo più incentrata naturalmente sui suoi interessi storico-artistici e consta di un insieme di più di 15.000 latitoli compresi i periodici e le tesi la biblioteca è stata inventariata mediante liste di versamento costituite da file numerati uno per ogni ambiente dell'appartamento interessato e ogni file è costituito da più fogli numerati uno per ogni colonna di libreria della stanza all'interno di ogni colonna un numero indica il ripiano dal basso all'alto il piano 0 invece costituisce la raccolta di materiale erratico non necessariamente coerente con il resto della colonna ma sistemato comunque in sua prossimità sappiamo la lista contempla i dati principali del volume naturalmente poi c'è un campo note che tutto sommato è il più interessante perché contiene ad esempio la provenienza da un'altra zona della casa di cui si è voluto tenere comunque memoria o segnala la data di acquisto del titolo cosa piuttosto interessante perché Castelnuovo aveva questa abitudine che osservava quasi sempre di apporre sulla prima pagina del volume a parte il proprio nome credo per evitare furti da parte degli allievi ma anche l'anno l'anno di acquisto comunque di acquisizione del volume e poi la presenza soprattutto in questo campo note di materiale allegato anche anche questo pensavamo costituisse in principio un caso fortuito in realtà era una prassi quella di allegare un sacco di materiale all'interno dei libri e quindi vi si trovavano mappe guide pieghevoli di musei di mostre di luoghi di culto recensioni programmi di convegni inviti biglietti da visita lettere d'accompagnamento appunti cartoline chi più ne ha più ne metta a ogni titolo è stato assegnato un numero univoco e gli allegati sono stati segnati con lo stesso numero segnalati in inventario e ricoverati come parte d'archivio ma comunque grazie al numero si riesce comunque a ricollegare l'allegato al suo libro di provenienza ecco Castelnuovo annotava raramente i libri al più sottolineava qua e là qualche parola nel testo e preferiva lasciare ogni annotazione a foglietti di ogni dimensione e natura che poi aggregava e disperdeva e riaggregava ma senza particolari preoccupazioni gli allegati ai libri invece appunto non erano l'eccezione ma la norma e non erano mai in posizione casuale il libro si costituiva in un certo senso come vero proprio dossier ospitando talvolta consistenti quantità di materiali che spuntavano e debordavano dal taglio l'inventario è stato realizzato rispettando la collocazione originaria dei libri si diceva e proprio con questo obiettivo gli interventi di riordino sono stati ridotti al minimo e proprio limitati alla ricongiunzione che so di volumi in cofanetto collocati in punti diversi della casa o serie di periodici eccetera o serie tematiche strettamente coerenti che però si trovavano evidentemente fuori posto ma non collocate in altre serie significanti l'inventario non tiene conto per ovvie ragioni però di una grande quantità di materiale che Castelnuovo aveva già donato in vita ad alcune biblioteche cittadine in particolare la biblioteca dei musei civici della città l'archivio è stato attualmente riorganizzato in 120 faldoni quindi un 12-13 metri lineari di materiale ed è costituito da corrispondenza appunti cartoline memorie bozze cartelle stampa piani di opere portate a termine e non come il manuale di storia dell'arte o il volume sul gotico internazionale a cui stava ancora lavorando verbali verbali di riunioni nei naudi verbali di riunioni del comitato scientifico della fondazione Torino Musei progetti di mostre realizzate e non tra cui quella sull'artista con cui aveva tanto ragionato con alcuni suoi allievi le carte provengono da scaffali da casse custodite nelle cantine e da faldoni e mucche di materiali già variamente distribuito secondo logiche non significative qualora si sia individuato un insieme coerente di materiali diversi onde evitare di alterare una sequenza di senso anche libri fotografie e fotocopie eventualmente presenti sono stati trattati come materiale d'archivio va detto che sul materiale archivistico Castelnuovo aveva cominciato un parziale riordino un riordino di cui si è tenuta memoria nell'inventario vale la pena segnalare il suo straordinario metodo di riordino che per sua stessa missione consisteva nello spostare quello che a destra a sinistra e quello che a sinistra al centro metodo che diversi suoi allievi nel tempo hanno potuto verificare e che evidentemente rendeva fallimentare qualunque tentativo di reale razionalizzazione e selezione del materiale anche il più effimero sintetico dei pensieri fugacemente segnato su carta forse programmatico di un'intenzione o di un ragionamento era degno di conservazione l'archivio del tutto disomogeneo in quanto a condizioni di conservazione cronologia formati contenuti è stato oggetto di un primo condizionamento le unità di conservazione originali cioè le cartelline le buste di plastica le camicette le fascette laddove non più utilizzabili sono state sostituite con nuove cartelline scritti numeri indicazioni presenti sul materiale eliminato naturalmente sono stati riportati nell'inventario tutti gli elastici e le graffette ossidate sono stati eliminati nell'immagine vedete un già grande protagonista dell'archivio l'elastico soggetto a rottura sbriciolamento agglutinamento che cagiona la macchiatura della carta migliaia di elastici di ogni colore hanno trovato la via del cestino nell'inventario dell'archivio si è voluto indicare il nome dei corrispondenti fra i quali sono i nomi più significativi del panorama storico-artistico nazionale e internazionale quattro nomi in tutto per fare un esempio Roberto Longhi André Chastel Giovanni Previtali Federico Zeri Ranuccio Bianchi Bandinelli Giulio Carlo Argana Hans Belting Jan Bielostoki in calce all'inventario è stato quindi realizzato un indice dei corrispondenti circa 550 esclusa naturalmente la posta elettronica che al momento è ancora al vaglio degli eredi quella che vediamo è una delle affettuose e ricche lettere di Enzo Carli che avevano sempre questa forma a colonna molto ristretta che poi pendeva verso la destra a quest'anima principale si aggiungono 4.000 titoli di letteratura classica e contemporanea italiana e straniera in lingua originale in traduzione di Castelnuovo e di proprietà di Castelnuovo e della moglie degli Afrigessi che sono stati donati al liceo classico Cavour di Torino che così ha arricchito il proprio già importante patrimonio con titoli recenti ed edizioni rare un fondo fotografico poi non ordinato costituito da diapositive stampe fotografiche cartoline non viaggiate quantificabile solo approssimativamente in diverse centinaia di pezzi lo stato di marginalizzazione fisica e di disordine in cui versa la fototeca comunque ricca e per gli anni più lontani di grande valore ci segnala come quello non fosse proprio lo strumento primo di lavoro di Castelnuovo forse almeno non nei tempi più recenti un insieme poi di 700 circa 700 800 estratti e infine un blocco di materiali vari fotografie lettere documenti diversi però di carattere personale e familiare che quindi non sono stati compresi nell'inventario la presenza dei volumi nei diversi ambienti della casa corrisponde solo in parte a un ordinamento pensato e curato nel tempo in alcuni casi i volumi e i faldoni sono stati spossati e ricollocati più volte senza particolari criteri di senso ma di opportunità del momento direi soprattutto in occasione di traslochi e relativi versamenti di settori già custoditi in altri appartamenti o studi la topografia presenta dunque in alcuni casi una forma di casualità allo studio con relativa uniformità e coerenza però spettavano certamente gli argomenti di più recente consultazione e i volumi di storiografia artistica in ordine alfabetico per autore e un settore un settore importante qui all'interno dello studio era dedicato a guide e opuscoli sulle emergenze architettoniche francesi svizzere inglesi in particolare e forse questa è la parte più significativa e affascinante per ampiezza e aggiornamento di questo patrimonio librario che ha supportato tante ricerche su realtà territoriali e patrimoniali minori o forse sarebbe meglio dire diffuse di là dalle alpi uno di questi ripiani non ricordo quale è il ripiano più gremito della casa li abbiamo contati così per divertimento contiene 295 titoli nel corridoio detto biblioteca sono presenti invece i grandi formati il nucleo dedicato alle vetrate alla geografia artistica italiana e molto materiale dedicato alle collezioni dei musei di regno unito germania francia e svizzera e al patrimonio storico artistico e architettonico in particolare svizzero e francese in queste occasioni di ricordo credo ma è una mia personale convinzione che non voglio attribuire ad altri anche se è già emerso credo nella giornata credo che spesso si parli in effetti di noi stessi cioè il soggetto dei nostri contributi non sia tanto il ricordato quanto piuttosto la traccia che il ricordato ha lasciato in noi nel nostro quotidiano nel nostro agire professionale nel nostro metodo di lettura in questo caso di un fenomeno di un documento di un fatto storico artistico vorrei quindi sottoporre ancora alla vostra attenzione qualche documento che mi ha colpito in maniera particolare segnando nel mio ricordo nuovi tracciati forse non tra i più significativi nella storia professionale di Enrico anzi sicuramente con una forma di aneddotica se vogliamo modesta ma che si richiama a quell'affermazione di Merimè che amava tanto citare che molto diceva forse del suo approccio alla narrazione di storia dell'arte cioè Je n'aime dans l'histoire les anecdotes documenti che vi mostrerò che ho saputo raccogliere impilare mettere in fila certo non leggere come molti altri hanno saputo fare così bene in questa giornata questo è uno dei primi volumi che ho trovato che è segnato 1945 e fatti i dovuti calcoli insomma è un interesse precocissimo di Castelnuovo su questo tema e su questo catalogo della mostra sulla pittura veneta questo è uno dei volumi che non considero e lui non considerava certamente come corpi estranei all'interno della sua biblioteca ma anzi semplicemente letture eccentriche che però in qualche modo ritornavano nei suoi discorsi e nelle sue riflessioni questo in particolare lo teneva sempre vicino a sé a portata d'occhio perché avevo subito espresso a lui il mio interesse per questo titolo e temeva francamente che io glielo portassi via quindi aveva già inteso che in un momento di distrazione questo avrebbe potuto avvenire ma ciò non è successo ecco questo abbiamo citato spesso Dickens un'altra sua grande passione era Sherlock Holmes Conan Doyle e poi anche Alice nel Paese delle Meraviglie naturalmente e che Sherlock Holmes appartiene credo anche alle sue alle sue corde all'interno di una ricerca di un'indagine che poteva essere come analoga a quelle di Sherlock Holmes per certi versi le richiamava spesso e questa è una pagina proprio una pagina nel senso che era capitava lì tra le carte in mezzo a una qualunque qualunque altra cosa potevano saltare fuori pagine di Alice nel Paese delle Meraviglie e questa era una di quelle pagine con un gatto che mi riporta al discorso dei gatti che abbiamo abbiamo già udito oggi ai tre nomi del gatto in specifico e questo era era il volume a cui lui si rifaceva e che viene citato in una bella lettera di Norberto Bobbio del 1985 in cui gli dice ho letto l'introduzione sono uscito avvilito per la mia ignoranza ma compiaciuto per avere un amico che sa tante cose interessanti ma mi stupisce che tu non abbia approfittato con l'aiuto di Delia per scrivere in versi almeno l'introduzione e gli suggerisce una possibile poesia e abbiamo parlato anche del suo moto perpetuo oggi dei suoi viaggi c'è stato un periodo di grande intensità di viaggi che ho poi visto concentrato negli anni 51-52 in Francia in particolare e questa cartolina che scrive alla famiglia parla ancora nel 51 della cattedrale di Rouen che dice è ancora in parte intera mentre la città è ancora distrutta questa è un'altra cartolina non viaggiata che lui non ha spedito ma che ha utilizzato per prendere degli appunti già che era di fronte alla cattedrale di Saint-Maurice e vi ha appuntato alcune note molto rapidamente e questo che ho saltato prima è una scatola in cui erano ordinate queste sì ordinatissime in ordine alfabetico per città un sacco di cartoline straordinarie viaggiate e non che raccoglieva in loco e forse per noi è difficile oggi immaginare appunto con la disponibilità di immagini che abbiamo in rete pensare che invece allora durante un viaggio fosse un'occasione preziosissima anche per raccogliere cartoline e immagini da portare a casa e da utilizzare effettivamente come strumenti e questo è un quaderno un quadernino precocissimo in cui lui ha notato diversi appunti sulle sculture del Louvre e parlavamo ancora oggi di maestri di allievi e di perfetti sconosciuti e qui ci sono maestri e amici sono alcune delle straordinarie dediche che si trovano sui libri di Enrico Castelnuovo solo alcune perché sono veramente tantissime una è di Chastel una è di Lafon e una è di Legoff e questo invece è uno stralcio di una lettera a Chastel che Enrico Castelnuovo scrive nel 1968 raccontandogli quali sono i tre filoni che sta seguendo nei suoi studi e sono il gotico internazionale l'arte alpina nel 400 e l'arte e la rivoluzione industriale e gli dice con questi tre temi potrei andare avanti per tutta una vita e conclude raccontandogli degli eventi che in quel momento stanno avvenendo in Italia e a Lausanna gli racconta della contestazione del movimento studentesco dice a parte la confusione e gli estremismi infantili ci sono elementi positivi e interessanti i contatti con gli studenti e l'organizzazione collettiva dei seminari e la discussione sui corsi prendono molto tempo ma il momento pedagogico non è meno importante di quello scientifico questo è la premessa al lungo racconto che Castelnuovo farà nel suo saggio in ricordo di Chastel e questo è un ritratto che ha attribuito un amico francese o svizzero non saprei perché non ho decifrato la firma purtroppo e dice che questo omone sarebbe il professor Castelnuovo che difende l'inclinazione della torre di Pisa dai restauratori malintenzionati questo invece è un bellissimo biglietto dell'amico Autenrith che gli suggerisce di organizzare un convegno internazionale sul tema la conservazione dei pupazzi di neve storia tecnologia e metodologia da tenere sul Monte Bianco o in Sicilia a Ferragosto per evidenziare la necessità assoluta del problema e acclude anche una fotografia di un'opera evidentemente monumento della donna ignota delle pulizie un concetto reazionario e provocante questo è un biglietto invece che gli manda il veterinario di confine di Ventimiglie per chi chissà come chissà perché Castelnuovo ebbe modo di fornirgli una copia del libro su Matteo Giovannetti e il veterinario di confine per ricambiare gli mandò una fotocopia dell'eco della riviera di Sanremo non so per quale ragione forse conteneva non ho verificato una recensione o qualche commento di qualche genere concludo con quest'ultimo documento immaginando di fronte al disappunto di chi avesse scorto tra le sue carte qualche documento di questo genere e forse anche di fronte a problematiche più importanti e più rilevanti Castelnuovo avrebbe risposto canticchiando una canzone pacifista di Georges Brassin La mauvaise herbe calcando convintamente il tono sulla congiunzione e dicendo se ti moral e se come sa grazie oltre a ringraziare oltre che per questa bella relazione c'era da giurarci insomma a scatola chiusa si sapeva che nel caso di Enrico i libri le cose avrebbero parlato direttamente ma hai scelto e ricuscito questo materiale molto bene però oltre a questo ci hai segnalato la registrazione che ora vedremo quindi ne sai più di me se ricordi quali dati non ti chiedo di quale anno esattamente non ricordo assolutamente so che ci sono state diverse interviste nel tempo a Enrico Castelnuovo l'ultima è stata quella bellissima di Michele Tomasi che abbiamo visto e tre video interviste una è quella che fece in occasione della mostra Corti e città l'arte del 400 nelle Alpi occidentali in cui lui disse di se stesso sono stato un po' gigione non mi sono piaciuto e un'altra invece fu quella in occasione della mostra sulle stanze di Artù la torre il frugarolo di Alessandria in cui è ricordata in maniera particolare a parte per l'interesse di tutto il filmato lunghissimo in cui parla della pittura cavalleresca non solo ad Alessandria ma è rimasto noto il filmato perché durante le riprese il suo gatto gli è saltato in grembo e ha cominciato a morderlo e non c'era verso di far finire la gatta totalmente ignara oppure non interessata e però le riprese sono andate avanti con un risultato tra l'esilarante e insomma simpaticissimo e la terza è quella che gli è stata fatta ma adesso non so come devo agire ma sicuramente perfetto andiamo a vedere ecco comunque come il periodo o beh aiuto Fabrizio periodo dell'intervista su Longhi io credo la mostra lo si è detto era stata organizzata più che organizzata era stata pensata e promossa diretta da Roberto Longhi che alla pittura lombarda aveva già e all'arte lombarda aveva dedicato durante tutto il corso della sua vita di studioso dei saggi molto importanti io avevo conosciuto Longhi attraverso credo il primo numero di paragone in 1950 degli amici lo facevo credo il second anno di università terzo e degli amici mi avevano segnalato l'importanza di questa nuova rivista io l'avevo acquistata ero rimasto molto colpito e nella prima ero rimasto molto colpito non si voleva molto perché c'erano già in quel primo numero una sorte di manifesto per la critica d'arte scritto da Longhi che mi aveva sorpreso e entusiasmato morale siccome per la mia tesi di laurea su Andrea Pisano andavo frequentemente a Firenze andai a ascoltare Longhi una lezione e fu un colpo di fulmine ricordo che parlava del politico di Santa Reparata di Giotto era il corso faceva un corso su Stefano Fiorentino una delle creature artistiche da lui risuscitata fu ripeto un colpo di fulmine che mi fece capire che non avrei potuto fare altro che seguire Longhi cercare di entrare in rapporto con lui e questo lo feci lo feci terminando la mia tesi a Torino tutte le volte che andavo a Firenze cercavo di andare a sentire una lezione di Longhi se c'era non era che fosse sempre presente ma aveva una grande disponibilità verso gli allievi e succedeva per esempio che per un seminario facesse passare coloro che si interessavano nella stanza vicina a quella dove teneva il corso e lì presentava faceva passare di mano magari alcune tavolette della sua collezione tavolette trecentesche in mezzo all'emozione generale ma la cosa che mi avvicinò in maniera determinante a Longhi fu che nel primo numero di paragone quello che ho appena citato c'era una sorta di indovinello vale a dire Longhi e Briganti avevano ricostruito una sorta di puzzle accostando diversi frammenti di pitture di epoca diversa si andava dal 4 al 700 e avevano proposto ai lettori di indovinare le parti presenti le differenti parti e di attribuirle tutti noi tutti noi allievi eccetera i lettori di paragoni di paragone pensammo che la cosa da fare era di cercare di capire morale andando trovandomi un giorno alla galleria Colonna a Roma vidi un frammento attribuito a un olandese del 600 Dirk Van Baburen che era un frammento che si trovava nel puzzle di paragone alla prima occasione quando durante un seminario Longhi fece passare il puzzle dice avete riconosciuto qualcosa con molte esitazioni e disse ma io credo che in quel frammento in quel particolare a sinistra in alto ci sia la mano sia presa da un quadro dei Baburen della collezione della galleria Colonna Longhi mi guardò un momento e poi disse con aria di approvazione questo fu per me una sorta di coronazione a quel punto la strada era decisa finiva tesi la discussi a Torino mi precipitai a Firenze per fare il perfezionamento la prima volta Longhi mi accolse con simpatia mi invitò ad andare a casa sua a portargli la tesi da vedere io andai ebbi un'avventura singolare nel senso che arrivato alla villa trovai varie porte aperte ogni volta entravo in una stanza che non era evidentemente quella giusta una volta nella cucina una volta in un ripostiglio finalmente facendo il giro trovai una porta vetrata entrai e veramente stupore spavento mi trovai nello studio di Longhi Longhi era seduto davanti a un grande tavolone aveva sentito benissimo che stavo entrando alzò gli occhi un momento e mi disse e allora a questo punto io la sai cadere la tesi mi disse professore sono venuto come lei mi ha detto ho sbagliato porta da allora dico da questo arrivo comico e drammatico non direi lo fu per me ma certamente era comico divenne un po' un'abitué nel senso che Longhi a Firenze non aveva era appena arrivato da Bologna non aveva molti allievi alcuni poi arrivavano Carlo Volpe veniva da Bologna a sentire le lezioni di Longhi Mila Gregorio aveva seguito Longhi a Firenze ma non eravamo molto numerosi e in ogni modo Longhi che era uomo sarcastico severo duro costante era con gli allievi di una straordinaria cordialità e come dire amabilità in tutti i sensi quindi poteva succedere di arrivare da lui alle 10 di rimanere a colazione e mentre lui passava la mattina a fotografie discutendo proponendo e era questo il personaggio era straordinario straordinarie letteralmente le suelezioni con quel tono basso che si alzava leggermente fino ad arrivare a un momento in cui gli sembrava di essere forse troppo suditone calava di colpo c'era un silenzio straordinario e la lettura delle opere che faceva mi aveva come dire destato le più grandi curiosità io ricordo che dopo la prima lezione che senti mi precipitai in Duomo in Santa Maria del Fiore andai nella cripta a vedere il politico di Santa Reparata il politico giottesco di Santa Reparata che mai avevo guardato con attenzione e che allora era anche molto nell'oscurità e con una pila cercai di rivedere le cose che Longhi aveva decifrato letto interpretato sullo schermo mezz'ora prima passai a Firenze alcuni anni muovendomi tra Torino e Firenze poi andando per due o tre anni ad abitare a Firenze e lì e lì scrissi no non la scrissi a Firenze ma lì prese forma la mia tesi di dottorato diciamo di perfezionamento su Matteo Giovannetti che era stata ispirata anche questa da Longhi che mi aveva diciamo mi aveva aperto un cartone di fotografie di alcuni libri avignonesi che avevano suscitato la mia curiosità questo fu per me Longhi una scoperta una guida un ragione di continui stimoli e ho per lui una ammirazione una riconoscenza e un ricordo che non finiranno mai cioè finiranno con me evidentemente qui a Milano un appuntamento che io aspettavo da tanti anni è stato differito e che finalmente ha avuto qua a Milano la sua verifica nella mostra del Seicento ora questo appuntamento ha segnato per Tanzio il trionfo ed è anche scusate anche dire il trionfo di uno dei miei amori più ok voglio dire una cosa ci sono date anche Alice nel Paese delle Meraviglie è l'unica domanda che voglio fare ma mi ha molto incuriosito da questa mattina questo problema cioè di acquisizione del libro sia di Alice che di Alice c'erano diverse copie ma questo è un libro molto particolare perché il lancio della storia dell'arte si vive da Gommet e in particolare è il libro arte e illusione è stato un libro del 60 edito nel 65 da da Einaudi che è stato un libro molto significativo in Italia quasi aspettato in Italia dove si studiava in Italia e è molto interessante perché questa mattina si parlava del fatto che Castelluogo prendeva le distanze da Hauser ma Castelluogo era anche molto attaccato ad Hauser e non aveva parole molto come dire gentili per la recensione che Gommet aveva fatto a Hauser dunque insomma questo sempre per sottolineare la complessità dei problemi adesso sembra che addirittura Gombrich è previtale pensasse nello stesso modo ma insomma non è veramente così in quegli anni c'è stata una battaglia su questo tema e la ricezione è diversa dallo spirito in cui sono stati scritti libri insomma sarebbe interessante anche da siccome quello è un libro citatissimo da Gombrich voglio dire Alice nel Paese delle Meraviglie un libro chiave che lui usa spessissimo voglio sapere se è successo a lui quello che è successo a Ciaccio perché voglio sentire un ma ti posso dire questo che era un libro che tanti artisti e tanti letterari a cavallo per la fine degli anni 50 all'inizio degli anni 60 usavano tantissimo per esempio l'artista di cui mi sto occupando adesso che è un artista del 40 si chiama Beppe De Valle nel 61 fa un ciclo a Torino di opere esposte alla Galleria Galatea nel 62 su Alice nel Paese delle Meraviglie ne parla un tanto ecco dalle prime cose che scrive è uno dei grandi libri in cui voglio dire in qualche modo è parallelo a Giovanna e a Molde di Salga cioè si inventa l'idea di una strana come dire fantastica giovanezza fuori dal tempo di un'infanzia o di un'adolescenza fuori dal tempo è un'idea che è un po' come dire antisistema quella di Alice che a fine 50 inizio 60 incontra guarda basta tantissimi sono ispirati basta del Biennale di Venezia insomma c'è proprio cantino credo ma non forse ci arriva appena dopo ma insomma è uno dei momenti in cui Alice diventa qualcosa di moderno parlo molto graffi che mi sembra molto interessante e niente le Alice diceva quel quadro ispirati all'Alice perché era uno dei serbatoi di finito l'informale dovevi ritrovare in qualche modo un racconto e o facevi racconto politico o se no Alice anche c'era una delle possibilità di di tentare un racconto te lo dico solo per matare no 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 e c'era stata dunque l'edizione Bonpiani che era stata la prima diciamo non per bambini quindi quando il libro è dire credo sia se non del 60 del 61 una cosa del genere quando i classici Bonpiani ti hanno fatto diventare ma però quasi tutti quelli che usavano poi Alice non hanno aspettato l'edizione Bonpiani ci hanno usato ancora l'edizione diciamo per i ragazzi che era per i dati edizione attiva anche per gli artisti questo è l'appogliente che ho voluto capire di cosa è grazie è una buiosità grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti